Jean Klein, Dialoghi con il Maestro Traduzione dal francese di Carla Perotti Audiolibro completo Introduzione In queste conversazioni tenute con studenti americani presso il Centro di Studi e Ricerche L'Homme e la Connaissance ci vediamo proporre un modo di vivere ogni giorno, ogni istante, nella gioia e nella pienezza. È un approccio che rientra nel filone della Dvaita Vedanta, dandoci testimonianza di un eterno presente. Ben lungi dall'isolarci, ci lega al mondo con rapporti essenzialmente costruttivi e armoniosi. Questa scoperta, questo riconoscere, è frutto di ricerche, di una fatica, di un ascesi, o sorge spontaneo quando ci troviamo nella posizione giusta, nello stato di equilibrio interiore. In armonia con i luoghi in cui si svolgono o con gli ascoltatori e i loro problemi, espressi o inespressi, questi dialoghi vivono nell'istante e formano nell'istante l'immagine e la risposta esatta. In essi non c'è nulla di studiato o di preparato in anticipo, di scritto o di elaborato o esposto secondo temi precedentemente scelti. Sono scambi che risultano attraverso gli ascoltatori e colui che insegna da un contatto nell'immediato e concretano la risposta della vita ad un'interrogazione repentina. Questa continua armonizzazione con l'istante evidenzia il superamento della forma intellettuale e del metodo analitico. Ci fa sentire pienamente interessati fino nel nostro essere più profondo. Impariamo ad ascoltare e ad ascoltarci aperti verso l'inneffabile, oltre le barriere del ragionamento, dei confronti o delle scelte. Questa eliminazione progressiva della nostra natura apparente viene a rivelare la nostra natura reale, la quale non ci ha mai abbandonati. Le ripetizioni, le insistenze su questo o quel nodo mentale che nel corso delle conversazioni sono provocate dall'arrivo di nuovi ascoltatori, giovano a dare a questi dialoghi la loro vera dimensione, quella dello spazio interiore, la sua atmosfera di disponibilità e di ascolto totale. Le risposte, talune delle quali sembrano aggirare certe domande o evitarle, sono coerenti con un procedimento pedagogico perfettamente appropriato ad ogni caso. È difficile far assaporare col solo mezzo dell'immaginazione e senza mai tradirne il significato, l'atmosfera delle riunioni nelle quale i silenzi di colui che guida e mostra, silenzi che si stagliano di quando in quando tra gli scambi verbali, formano tuttavia le parti più ricche di insegnamento. Anche per certi gesti di spontaneità totale che accompagnano il dialogo sono forme di risposta nella loro intraducibilità. Accade così che i problemi che ci preoccupano, i nostri conflitti, la nostra falsa solitudine, si riassorbano per mezzo di questo approfondimento di noi stessi che non richiede né isolamento né alcuna condizione speciale. Esso comincia là dove ci troviamo, così come siamo, e ci orienta senza deviazioni verso la realtà ultima. Susanna Andrè Parte prima Domanda La maggior parte delle religioni pretende che ogni realizzazione spirituale si ottenga soprattutto con la pratica del distacco e della rinuncia. Che cosa dobbiamo pensarne? Risposta Non è sostituendo un modo di vivere con un altro che si giunge ad una vera realizzazione, ma soltanto sostituendo la conoscenza all'ignoranza. Voler dominare i sensi a qualunque costo ed estirpare i desideri è il segno di un discernimento superficiale, obnubilato dalla persuasione di essere soprattutto il nostro corpo, il nostro mentale, l'autore dei nostri atti. La cessazione di questa persuasione si produce spontaneamente sfuggendo quasi alla nostra attenzione. Essa sopravviene quando abbiamo compreso e abbiamo acquisito la convinzione, in un modo che ha profondamente colpito tutto il nostro essere, che i contrasti antipatia-simpatia, repulsione e attrazione appartengono all'ego. L'ego esiste in funzione di un'identificazione, che poi è solo una cattiva abitudine, con un oggetto della coscienza. Il sé trascende l'esistenza. Di conseguenza noi, in quanto coscienza pura, senza oggetto, trascendiamo l'ego. Il corpo e le facoltà mentali sono in continuo mutamento, mentre noi stessi, in quanto ultima realtà, siamo al di fuori del mutamento, intangibili e immutabili. È l'ignoranza della nostra vera natura che ci conduce ad identificare il sé con colui che gioisce, che agisce e che pensa. Ogni persona cerca la pace nell'azione e nell'innazione, cerca la gioia e la felicità, che sono caratteristiche proprie del sé, benché a stretto rigore il sé sfuga a qualsiasi definizione. Ottenere la realizzazione non vuol dire altro che stabilirsi scientemente nella propria vera natura. Con la sparizione di tutti gli antagonismi e di tutte le contraddizioni, il reale appare allora nella sua unità, che è amore. Domanda, come si può arrivare all'armonia e alla trasparenza dell'individualità? Risposta. Nella via vedantica questo fine è raggiunto per mezzo della discriminazione del reale dall'irreale, di ciò che siamo in realtà rispetto a ciò che siamo in apparenza. Il risultato di questa discriminazione si traduce sul piano del comportamento nella pacificazione del mentale, nella cessazione della vedità e dell'insoddisfazione, che sono la fonte di tutte le nostre pene. Se cerchiamo di ottenere per mezzo del sacrificio e della disciplina ciò che può essere soltanto un risultato spontaneo, ricadiamo nei conflitti. Ora, finché siamo alle prese con i conflitti, non è possibile nessuno sbocciare delle nostre virtualità. Un mentale sottomesso ad una disciplina non sarà mai libero né calmo. Il più delle volte siamo spinti alla ricerca da un trauma, un grosso trauma, da uno scacco che ci precipita nello smarrimento e che ci fa rimettere tutto in discussione. In cerca di una soluzione ci accade a volte di imbatterci in colui che ha trovato la chiave del problema e che ormai ha riparo dalle difficoltà grazie ad una certezza che non può essere scalfita. Egli è pienamente stabilito nell'impersonale. Nell'attesa di questo incontro si è ridotti a delle letture su ciò che ci preoccupa, ci ossessiona e si ottiene così una discriminazione puramente intellettuale. Una conoscenza teorica che precede la conoscenza effettiva e le è utile a puro titolo di preparazione. Si arriva alla conoscenza immediata interrogando l'istruttore sul cammino da seguire. Egli ci mostra allora l'esperienza autentica e ciò che essa non è. Questa conoscenza effettiva si ottiene con la meditazione, utilizzando ciò che si è udito e compreso intellettualmente per verificarlo, metterlo alla prova, triturarlo fino alla disidentificazione completa, definitiva, con il corpo e con il mentale. Con questo procedimento di eliminazione, l'energia intellettuale ed emozionale è ricondotta al suo stato primitivo di riposo e conosciamo allora la nostra vera natura. Stabilirci in questa stupenda certezza non è più che una questione di pazienza e di lasciar maturare. Ciò ci invade come una grazia. Domanda. Potrebbe dirci qualcosa di più su questa discriminazione? Risposta. Il corpo, il mentale e tutto ciò che costituisce la nostra individualità sono in continuo mutamento. Colui che lo constata non può esserne toccato, perché come potrebbe in questo caso osservare ciò che sta cambiando? Egli è dunque coscienza testimone del pensiero, dell'affettività, dell'azione, nello stato di veglia e in quello di sogno. Egli è coscienza pura nello stato di sonno profondo come lo è nell'intervallo tra due percezioni o due pensieri. Egli è allora il fondale senza principio né fine, assolutamente non duale, unico, non oggettivo, vigile, intangibile e gioia pura e pace totale. Questo solo è reale. Gli oggetti, il corpo, il mentale, dipendono da questo supremo soggetto. Essi sono dunque per questo fatto tutti irreali. Domanda. Come si può vivere tutta una vita nell'ignoranza di questa realtà? Risposta. Perché noi confondiamo la nostra vera natura con il corpo e il mentale. Ciò che genera immediatamente è un fantasma, l'io individuale, che prende il mondo per la realtà. Come si prende un'ombra per un ladro, vittima di queste apparenze, l'io immagina di essere colui che pensa, che agisce, colui che soffre e che gode. Noi siamo completamente immersi ed assorbiti in codesta identificazione. Finché non ci si pone la domanda, chi sono veramente io? Finché non si utilizza il discernimento del quale ho parlato, l'oblio continua. Ciò che nel linguaggio del Vedanta è detto ignoranza, avidia. In quanto irreale, tale ignoranza non ha principio né fine. Si può però dire che in un certo senso essa ha fine per il Giva che raggiunge la realizzazione. È per mezzo della domanda chi sono io che progrediamo verso la conoscenza del fatto che il corpo e il mentale non sono la nostra vera natura. Non più di quanto lo siano i nostri pensieri, le nostre sensazioni e i nostri sentimenti. Essi sono solamente oggetti della coscienza, mentre noi siamo la coscienza. È evidente quindi che noi, in quanto testimoni, li trascendiamo. Presto o tardi realizziamo questo soggetto ultimo che non può mai essere oggetto. Domanda, chi è colui che proietta questa ignoranza? Qual è la causa della confusione del reale con l'irreale, responsabile di tutte le nostre miserie e di tutti i nostri dolori? Risposta. Questa miseria e questo dolore, come lei li chiama, sono la conseguenza dell'ignoranza ed essa opera in due modi. In primo luogo copre e vela. In secondo luogo proietta e sovrappone. Così la realtà dello stato senza pensieri e senza percezioni, della quale facciamo esperienza nel sonno profondo o nell'intervallo tra due pensieri è velata dall'ignoranza che ci fa credere che quello sia in nulla. Allo stesso modo prendere una cosa per ciò che essa non è, per esempio un'ombra per un ladro o un pezzo di madreperla per argento, è una proiezione, una sovrapposizione. La realtà suprema è pace e gioia. Ma così come scambiamo l'ombra per il ladro, prendiamo il pensatore, l'attore, colui che soffre per la nostra vera natura. Come l'illusione proietta un ladro al posto di un'ombra, quest'ignoranza proietta il mondo al posto del reale. Il mondo non ha più consistenza del ladro e quando si sappia che si trattava solo di un'ombra, si viene anche a sapere che il ladro non c'era né prima né dopo. Domanda. Allora il mondo è un'illusione? Risposta. Esiste solo il sé, non differenziato, realtà immutabile e assolutamente non duale. Il sé è una continuità nella quale gli oggetti, i pensieri e le percezioni appaiono in modo discontinuo. L'uomo mette costantemente l'accento sul discontinuo e dimentica la continuità. Domanda. Come si può sperimentare codesta continuità non duale e come ne può nascere un mondo? Risposta. Quando cessano le attività mentali non rimane che l'ultima realtà, la quale non è né il nulla né il vuoto, ma pienezza. Allo stesso modo in cui l'idea di un pezzo d'argento dissimula la realtà del pezzo di madreperla o l'illusione che si tratti di un ladro, dissimula ciò che finalmente è solo un'ombra. Il mondo visto attraverso il velo dell'ignoranza, avidia maya, dissimula l'ultima conoscenza. Maya è indipendente dalla realtà. Da un lato la nasconde e la vela, e dall'altro proietta il mondo con tutti i suoi nomi e le sue forme. Pertanto il sé contiene non manifestate un'infinità di virtualità come il seme contiene già le foglie, i fiori e i frutti. È attraverso il mentale che ogni possibilità si manifesta e si proietta per confezionare il mondo. Domanda. Se comprendo bene, il mondo sarebbe qualcosa di mentale. E che cosa intende per forme e nomi? Risposta. Di solito si intende per forma l'elemento sensibile e per nome l'elemento intellegibile, la nozione discriminante per mezzo della quale gli oggetti e i generi sono costituiti. Colgo l'occasione per far osservare che la distinzione tra il mentale e la materia è pura illusione. Gli oggetti non hanno nessuna esistenza indipendente. Essi esistono in quanto nozione mentale per colui che li percepisce. Domanda. Potrebbe dirci qualcosa di più e farci vedere nella sua nudità ciò che separa il reale da non reale e potrebbe precisare che cosa intende per maya? Risposta. L'essenza di tutte le cose è la realtà non duale o brahman. L'universo proiettato da maya non è reale. Per esempio, si può dire che l'acqua è la sostanza e che le onde ne sono gli accidenti. Queste ultime sono solo modificazioni dell'acqua e a stretto rigore non sono l'acqua ma dipendono da essa. Queste onde, che sono modalità dell'acqua, implica una resistenza inerente all'acqua che le produce sotto l'azione del vento o di qualche altro agente esteriore. Allo stesso modo in cui questa forza produce le onde, il mondo è maya nella misura in cui noi lo separiamo dal suo principio e fa nascere il mentale con tutte le sue forze. Esso proietta allora questo universo la cui sostanza è fatta della stessa stoffa dei nostri sogni, come diceva Shakespeare. Questo potere è distinto sia dall'essenza che dagli accidenti, come l'energia è distinta sia dall'acqua che dall'onda. Pare inesplicabile. Questo è maya. Domanda. Nello stato di sogno tutto è considerato come una creazione mentale, mentre nello stato di veglia tutto ci pare evidente e reale. Come lo spiega? Risposta. Nello stato di sogno le cose sperimentate sono prese per reali, ma è solo a partire dallo stato di veglia che possiamo dire di aver sognato e che si trattava di una proiezione mentale. Nello stato di veglia tutto ciò sembra ugualmente reale, ma quando ci risvegliamo alla nostra vera natura, anche lo stato di veglia ci appare come una proiezione mentale. Lo stato di sogno, come quello di veglia, non sono costituiti che da residui accumulati dal mentale. Domanda. Gli scienziati non procedono allo stesso modo di colui che si dedica alla ricerca del proprio vero centro e non cercano in fondo la stessa cosa? Risposta. L'uomo di scienza esplora l'oggetto e vi sovrappone un passato scientifico e personale in vista di una migliore comprensione e utilizzazione, per chiudersi in questa ricerca in cui ogni scopo raggiunto è la rappresentazione di un altro scopo da raggiungere, e così indefinitamente. Colui che ha la ricerca del suo vero centro interroga in se stesso tutto ciò che costituisce la sua individualità, corpo, sensazione, emozione e pensiero, e giunge così alla convinzione che ciò che egli ha di più intimo, la coscienza, è ciò che percepisce e che non saprebbe essere oggetto percepito. Di conseguenza egli si stacca dagli oggetti, li abbandona l'uno dopo l'altro e arriva, come quando si esaurisce una sottrazione, ad un silenzio senza oggetto, liberato da ogni identificazione. Si tratta insieme di uno stato di pura esistenza e di pura conoscenza, nel quale l'osservatore, l'osservazione e ciò che è osservato sono indifferenziati. Sono uno. Lo scienziato, da parte sua, si perde nello studio delle condizioni dell'esistenza senza mai mettere in questione la relatività di queste condizioni. Egli persegue una padronanza sempre più grande del mondo fenomenico, ma non raggiunge quell'ultima felicità che situa al di là di ogni ricerca. Tutti e due desiderano naturalmente la stessa cosa, ma un esame approfondito ci permette di comprendere che gli oggetti ci conducono e ci dirigono verso lo stato di felicità che è in noi e che essi però non contengono. Solo colui che utilizza il chi sono io può conoscere la felicità e stabilirsi in essa in modo permanente. Domanda. La lettura di testi quali le Upanishad ci può condurre ad un approfondimento? Vorrei anche chiederle come si possono scaricare i residui che abbiamo accumulato. Risposta. Una volta che gli elementi della conoscenza teorica siano stati assimilati e si sia installata la conoscenza effettiva, la lettura dei testi perderà a poco a poco la sua attrattiva. E' come per un vestito dapprima considerato indispensabile, poi giudicato non più essenziale e che poi si finisce per abbandonare. Continuare a leggere i testi potrebbe persino diventare un handicap per stabilirci nella nostra vera natura. Non è l'accumulazione delle letture, ma la conclusione che traiamo da ciò che abbiamo compreso a poterci insidiare. Essa può facilmente diventare un pretesto per sottrarci alla trasformazione interiore dettata dalla sana comprensione di ciò che abbiamo appreso attraverso la parola o gli scritti di un maestro. Conta solo il lasciare la presa spontaneamente delle impressioni e delle reazioni egotiche che accompagnano gli apprezzamenti personali del genere «Io sono di quella certa nazionalità», «Io sono forte», «Io sono preconcette» su noi stessi e sugli altri, dei pregiudizi e delle superstizioni di ogni ordine e, insomma, di tutto ciò che rafforza il nostro condizionamento individuale e ci allontana dalla nostra vera natura. Come nell'oscurità un albero assume l'apparenza di un ladro inagguato, non si tratta che di estensioni, di prolungamenti e di false rappresentazioni che ci nascondono a noi stessi. Nessuna constatazione come «Io sono testimone di questo», «Costoro sono dinanzi a me», eccetera, o anche «Il mondo è formato in questo modo», eccetera, si riferisce alla nostra vera natura. E si può dire che persino la dottrina della non-dualità è uno stratagemma per parlare del sé con un minimo di errori, perché esso è inesprimibile. Domanda «In che misura la pratica dello yoga può contribuire al nostro risveglio spirituale?» Risposta «Lo scopo di ogni yoga autentico è l'eliminazione dei nodi corporali o mentali che ostacolano la ricerca spirituale. È una pacificazione e una purificazione intesa a favorire la discriminazione tra il reale e il non-reale. Se l'insegnamento non è dato in questa prospettiva, si rischia di fissarci ancora di più in un rapporto tra soggetto e oggetto che allontana dall'esperienza liberatrice al solo profitto di un arricchimento corporale e mentale. Domanda «I testi dicono molto spesso che il fatto di sapere che il testimone è il sé e la ripetizione frequente di «Io sono Brahman» ci portano all'integrazione. Che cosa dobbiamo pensarne?» Risposta «Come potrebbe l'Io personale, cioè individuale e limitato, essere la realtà ultima?» Il meno non può mai essere il più, né il cangiante essere identico all'immutabile. L'Io dell'Ego non può mai essere la coscienza testimone e l'esperienza «Io sono Brahman» è assolutamente impensabile. «Io sono Brahman» significa che una volta eliminata l'individualità dell'Io non resta che lo sfondo, l'ultimo percipiente. Per vivere questa realtà occorre avere eliminato del tutto l'Io, che è un oggetto della coscienza. L'abbandono della presa di tutto ciò che è obiettivo avviene in noi a tappe, senza sforzi, senza che ci si accorga di aver abbandonato qualcosa, quindi è senza conflitto. È il risultato del discernimento. Così come si cessa di prendere l'ombra per il ladro, si cessa di sovrapporre l'Io al sé. Domanda «Mi pare che in quello che lei ha detto ci sia una contraddizione». Lei afferma che l'Io individuale non può mai essere Brahman e poi afferma che non è separato da Brahman. Risposta «Con la cessazione delle attività mentali, l'Io svanisce e si riduce al suo substrato». L'uomo dello stato di veglia è come il sognatore nel suo sogno. Codesto sognatore non è identico a colui che è sveglio e non è neanche differente. Anche se dorme pacificamente nel suo letto, in sogno compie spostamenti prodigiosi e si occupa di molte cose. Al risveglio il sognatore lascia il posto a colui che è sveglio. Quest'ultimo non è la suprema realtà immutabile e neppure è differente da essa. Al momento del risveglio nella non dualità, l'Io individuale svanisce e lascia il posto al suo substrato, Brahman. L'uomo che è al risveglio da un incubo constata che le sue angosce e le sue tribolazioni erano puramente illusorie e che in realtà si trovava soltanto nel suo letto, è simile a colui che, risvegliandosi nell'impersonale, vede che stava passeggiando in un mondo di allucinazioni popolato di geni e di folli, mentre in verità egli è suprema felicità, gioia e pace. Domanda, qual è il comportamento di colui che è stabilito nella sua vera natura? Risposta, si potrebbe dire di lui che egli è nel mondo senza essere nel mondo. Visto dal di fuori il suo comportamento è perfettamente simile a quello degli ignoranti, degli uomini ordinari, ma in realtà egli non ha più nessuna complicità con le cose e non è più influenzato. Egli fa tutto ciò che deve fare dal punto di vista impersonale. La sua situazione potrebbe essere rappresentata simbolicamente da due amici che dormono fianco a fianco. Uno di essi dorme senza sogni, mentre l'altro sogna di andare a spasso con l'amico e che capita loro ogni sorta di avventure. Quello che dorme senza sogni rappresenta l'uomo realizzato, per nulla influenzato dalle attività illusorie del mondo della dualità rappresentate dai sogni del secondo dormiente. Colui che è stabilito nello sfondo è perfettamente integrato in una realtà non duale ed allora tutto diviene espressione del sé e tutto punta verso quest'ultimo. Domanda, chi fa l'esperienza e qual è la natura delle nostre sensazioni? Risposta, la nostra esperienza umana si colloca nei tre stati, veglia, sogno e sonno profondo. Se consideriamo tali stati dal solo punto di vista dello stato di veglia, non possiamo affermare che è un frammento della realtà. È l'io individuale che vive questi momenti identificandosi con gli oggetti materiali o mentali. La nostra vera natura non è identica a questi stati, essa ne è la coscienza testimone. Nello stato di veglia noi sperimentiamo ciò che è sensoriale e mentale, mentre nel sogno sperimentiamo solo ciò che è mentale. Nello stato di sonno profondo l'io individuale conosce la beatitudine, ma accompagnata da ignoranza, avidia, non conoscenza. In questo stato la coscienza non è soggettiva né oggettiva, ma semplicemente indifferenziata. Noi ne facciamo l'esperienza al risveglio e diciamo, ho dormito magnificamente, ma non mi ricordo nulla. Domanda, la realizzazione di questo stato che non è uno stato, come dice lei, è improvvisa o progressiva? Risposta, il processo si potrebbe dividere in quattro tappe. Anzitutto occorre ascoltare colui che sa, che non cerca più. Quindi discernere ciò che è oggetto in noi da ciò che non potrà mai esserlo, vale a dire il soggetto supremo. Dopodiché occorre interrogare l'oggetto in tutti i suoi aspetti per realizzare finalmente l'esperienza non duale. Le tre prime tappe ci portano a una disoggettivazione progressiva per mezzo della meditazione, ma l'ultima tappa è spontanea e improvvisa. Domanda, quando ci troviamo in questo equilibrio ultimo, che cosa accade rispetto al mondo della dualità e dell'azione al quale continuiamo ad appartenere, almeno in apparenza? Risposta, colui che si è stabilito in questa tela di fondo, il sé, non cessa di esserne cosciente, ma non nel modo in cui si è coscienti di uno stato particolare o di un oggetto determinato. È un focolaio di luce che illumina le cose senza che esse lo influenzino. È uno stato dell'essere, felicità ultima e gioia permanente. Parte seconda Klein, l'oggetto delle nostre conversazioni è la conoscenza della nostra vera natura. Per situare correttamente questa prospettiva è necessaria una profonda intimità con se stessi. In questi incontri procediamo per domande e risposte. Per poter porre una domanda, bisogna avere una certa attitudine a ricevere l'insegnamento che è dato qui ed essere all'ascolto delle proprie reazioni. Mi pare interessante esaminare un poco i nostri desideri. Noi andiamo costantemente da un desiderio all'altro, cercando una soddisfazione che è soltanto una forma degradata della vera gioia. E speriamo sempre di scoprire questa gioia in qualche oggetto o in qualche situazione. È vero che ci troviamo per qualche tempo in uno stato di non desiderio provocato dalla soddisfazione provata, ma il benessere così ottenuto non tarda a cedere il posto a un altro desiderio, a un sentimento di insoddisfazione. Allora, se siamo un po' conseguenti, la questione che si pone è quella di sapere se questa gioia passeggera viene dall'oggetto o non piuttosto da noi stessi. Se la domanda va al fondo delle cose, vediamo che lo stato di pace che credevamo indotto dall'oggetto non risiede in lui, ma in noi. Perché allora non mirare direttamente, senza veicolo, a questo stato interiore? Per questo è importante constatare che ci identifichiamo continuamente con il nostro corpo, con le nostre percezioni, le nostre emozioni e i nostri pensieri. Abbiamo in effetti la convinzione di essere colui che agisce, che soffre, che gioisce. Invece un esame più approfondito ci rivela che questo campo di sofferenze o di godimenti non ha alcuna realtà. Voglio dire che esso non esiste in sé dipendendo da colui che lo percepisce. In quanto testimoni di ciò che è percepito, non siamo né il corpo né l'emozione né il pensiero, ma l'impassibile spettatore e dunque pura conoscenza. Quando ciò è diventato evidente, presto o tardi arriva il momento in cui perdiamo l'abitudine di identificarci con il corpo e con il mentale. L'esperienza della nostra vera natura si fa allora spontaneamente, senza più sforzo di ciò che occorre per vedere ciò che è visibile ad occhio nudo. È un silenzio carico di pienezza. Lo scopo delle nostre riunioni è la scoperta di ciò che siamo in permanenza, per questo è sufficiente disidentificarsi da tutto ciò che è corpo, percezione, emozione e azione. La via diretta è una presa di coscienza di ciò che siamo e non una realizzazione da conquistare. Ogni altra strada che miri a un risultato nel divenire resta legata alla confusione di ciò che percepisce con ciò che è percepito. Colui che osserva è per forza di cose fuori dal mutamento, altrimenti egli sarebbe il mutamento stesso. Egli è dunque ad un tempo dentro e fuori. Poiché l'esperienza del sé è la discriminazione del nostro vero essere dal corpo e dal mentale. Ostinarsi a perfezionare questi ultimi non sarebbe di alcuna utilità per accedere a questa intuizione, anzi potrebbe persino allontanarcene. Persistere in questo errore equivale a rinchiudersi in una relazione da soggetto a oggetto che va contro la liberazione. Non è escluso che arriveremo in questo modo a un certo grado di purificazione interiore, a una certa vacuità, ma non bisogna perdere di vista che questa vacuità corporale o mentale che sia è ancora un oggetto della coscienza. Quando abbiamo ottenuto questa vacuità può succedere che qualcosa si capovolga e si riassorba nell'unità. Si ha allora l'esperienza dello stato non duale, ma non è uno stato che il mentale possa sperimentare. È per questa ragione che molte persone che utilizzano in buona fede metodi psicologici o anche fisici, spesso molto interessanti, non possono mai vivere nell'unità. Voglio dire nello stato di essere impersonale che rimane costante attraverso lo stato di veglia, il sogno e il sogno profondo. Però appena adottiamo il punto di vista dell'individualità, ossia quello dell'ego, dell'io, ricadiamo nell'errore e tutta la nostra attività si concentra su questa personalità per alimentarla e continuare a darle forza ed energia. La vita allora si svolge in un rapporto continuo da oggetto a oggetto, perché l'ego stesso è un oggetto. Potrete infatti constatare, talvolta senza difficoltà, di essere egoisti o egocentrici. Ciò dimostra che l'ego è una cosa percepita. Finché vivrete con questa visione frammentaria, sarete sempre soggetti al dilemma antipatia-simpatia, repulsione-attrazione. Quando invece comprendete che l'ego è un oggetto, che voi siete il conoscitore, comprendete di abitare in ciò che chiameremo l'impersonale o il soggetto supremo, allora il problema si dissolve completamente. Voi non siete più nella diversità, ma nell'unità. E non esiste ritorno, mai. Mentre quando predomina il punto di vista personale ci sono continui ritorni. Talvolta noi siamo accidentalmente sganciati o liberati da noi stessi, il che ci permette di vedere chiaramente le cose, anche se questa visione va contro il nostro interesse o il nostro piacere. Ma è eccezionale e ben più spesso non abbiamo questa imparzialità che è in presenza di altri e di ciò che li riguarda. Evidentemente agli inizi è molto difficile concepire qualcosa che non è obiettivo. Noi crediamo, per esempio, che lo stato di sonno profondo e l'intervallo tra due pensieri siano dei nulla. Quando poi l'attività cessa, cadiamo quasi inevitabilmente in un sentimento di inquietudine che fuggiamo il più rapidamente possibile assorbendoci in un'altra azione. In fondo, la pienezza che si potrebbe unicamente incontrare in un momento non oggettivo è resa impossibile da questa credenza al nulla. Quando però giungete alla comprensione profonda di non essere né il corpo, né le emozioni, né il pensiero, ma il testimone di cui vi parlo, la vostra ottica cambia del tutto. Ciò che visto a livello dell'individuale sembra un problema, non lo è più quando si occupa la tela di fondo della coscienza, perché allora il pensiero, l'azione, l'emozione e persino le nostre reazioni fisiche si orientano in tutt'altra maniera. Identificandoci con le nostre reazioni fisiche e mentali, abbiamo creato l'io, l'ego e tutta la nostra attività e operiamo per la sua conservazione. Quando invece questa identificazione cessa, noi occupiamo la tela di fondo, il punto di vista della coscienza e realizziamo l'esperienza. In seguito rientriamo nei vecchi circuiti. Questo è del tutto normale, inevitabile, dato che abbiamo alle spalle lunghi anni di cattive abitudini, dalle quali è difficile liberarsi. Ma i giusti punti di vista vengono rapidamente integrati e se ritornerete ai vecchi modi di reagire, riuscirete tuttavia a stabilirvi facilmente nella verità e nella autenticità. dobbiamo prima comprendere chiaramente dove si colloca questo risveglio, analizzando a fondo i nostri desideri o bisogni e vedendo che andiamo di continuo da una compensazione all'altra. Il mondo non è un problema. Lo è se lo vedete solo da un punto di vista, con una visione non sintetica. Se restate nella cornice dell'ego e vedete le cose in un modo individuale, non potete averne infatti che un'idea frammentaria. Potete anche, è evidente, creare una certa pseudosintesi, ma potete ottenere una visione globale che dissolve tutto e conduce immediatamente all'ordine perfetto, soltanto ponendovi dal punto di vista disinteressato e impersonale della coscienza. Domanda. Nella sua esposizione mi hanno colpito due cose. Anzitutto, l'abitudine che abbiamo di associare la gioia o il suo opposto a un oggetto, mentre si dovrebbe portare l'attenzione sul soggetto. Secondariamente il carattere diretto di questa realizzazione, che vi dà una visione di armonia e di pienezza del mondo. Ma non esistono vie di approccio che si oppongono totalmente alla sua, che suggeriscono delle ascese e parlano di tempi e dell'utilità di vite successive? Risposta. Per collocare esattamente l'esperienza e per capire che essa è indipendente dall'ordine corporale o mentale, occorre anzitutto averne un'idea chiara. È importante comprendere che la viviamo continuamente, che siamo stabiliti in lei, ma che bisogna prenderne coscienza. Sapere che siamo stabiliti in lei, ecco tutta la differenza. Dunque, dato che il sé è la nostra vera natura, esso non è qualcosa di esterno a noi da trovare accumulando delle conoscenze o dei meriti. Questo deve essere evidente. La purificazione del corpo e del mentale non interessa che se ci aiuta a sentire come si presenta veramente l'esperienza. Ammetto allora che si possa parlare di purificare il mentale e il corpo, ma a titolo di semplice preparazione. In un rapporto da istruttore a discepolo, il primo deve conoscere il terreno psicofisiologico del suo discepolo per condurlo ad una giusta prospettiva. È la stessa cosa per colui che conosce il suo terreno e può discernere ciò che gli conviene, perché la condizione preventiva è di avere una chiara visione di ciò che si è. Non è tuttavia qualcosa che possiamo sapere così come ci si informa sul proprio conto in banca per poi registrarne l'informazione su un quaderno. Noi possiamo soltanto prendere coscienza ad ogni istante di ciò che siamo. Quando si è veramente conosciuto il proprio terreno, le proprie possibilità, il proprio capitale, si sa anche ciò che sia veramente e ciò che veramente conta. Un capitale immaginario non è utilizzabile. Questa visione esatta delle cose semplifica già notevolmente il problema e certi stati paranoici, certi complessi cessano immediatamente. Questo capitale che noi conosciamo è il solo che possiamo utilizzare con efficacia e anche ingrandirlo sfruttandolo a fondo. Si intravedono allora altri orizzonti che ci permettono di andare più lontano e così con 3000 franchi si arriva ad averne milioni. Dunque, la conoscenza perfetta del nostro terreno e delle nostre possibilità, da soli o con l'aiuto di chi ci insegna, conduce ad uno stato di disponibilità e di vacuità favorevole alla ricerca del nostro vero essere. Se degli psicanalisti come Jung, Freud o Adler hanno potuto ottenere risultati incoraggianti, questi risultati restano tuttavia chiusi nei limiti del mentale e perciò restano precari, perché ciò che caratterizza il mentale è l'instabilità. Non si può cambiare il mentale con il mentale. È soltanto elevandosi sopra il mentale che si è definitivamente al riparo delle proprie vicissitudini. Procedendo a un lavoro d'ordine all'interno del mentale, ci può arrivare a stabilire un equilibrio, una distensione apprezzabile, ma non sarà mai una trasformazione profonda e dovremo ricominciare sempre un lavoro riparatore. Sarà soltanto una sovrapposizione, senza una garanzia di durata reale. Perché allora questa perdita di tempo? Naturalmente questo è nella natura umana. Quando si va a pranzare al ristorante si vuole uscirne, come dire, completamente sistemati. Ci piace dire «ho fatto un ottimo pranzo», ma quando si è diventati un po' più saggi si sa benissimo che si deve uscire dal ristorante senza avere affatto l'impressione di essere sazi. In un approccio come quello che noi tentiamo qui, non solo voi non siete affatto sazi, ma vi si toglie anche lo stomaco. Indubbiamente al principio è un po' sconcertante non potersi più afferrare a qualcosa di obiettivo, cessare di sovrapporre un pretesto nulla allo stato di sonno profondo o agli intervalli tra due pensieri, ma dobbiamo vedere che questo nulla apparente è la nostra vera natura e che esso è la pienezza. Quando i pensieri e le percezioni cessano, c'è pura coscienza. Questo stato che non è uno stato è essenzialmente pace, gioia, amore. Esso si cerca, è incontestabile, cerca se stesso, ma noi lo confondiamo e compensiamo continuamente con questo o con quello. Domanda. Lei ha detto che l'esperienza del testimone si fa spontaneamente, ma a me pare che ci sia un insidia perché è il me che ragiona e che si identifica, che attende un risultato pur fingendo di non aspettarselo, il che è molto seccante. Non lo attende, ma lo si attende lo stesso, pur sapendo che il me non appare nel campo della pura coscienza. Tuttavia è di lui che si spia la venuta e non di un'altra cosa. A risposta. Ben inteso, finché l'esperienza non duale è occasionale, restiamo sempre nella cornice individuale. Ed è inevitabile che, essendo investito tutto l'individuo, l'ego, l'io se ne voglia impadronire per il suo arricchimento. Ciò è proprio quello che si deve evitare, perché questo snatura ciò che è mirato. Domanda. È difficile essere impersonale. Sarebbe, insomma, un po' l'atteggiamento degli scienziati, i quali non si attendono nulla dall'esperienza, ma a che la cercano come si cerca un oggetto ben determinato, senza sapere quello che troveranno, il che li obbliga a cancellarsi di fronte ad esso. Risposta. Qui non si può cercare nulla, perché quando non si sa che cosa si vuole in modo preciso, dove e come procedere. In questo approccio è importante capire molto profondamente che l'esperienza non può essere oggettiva, dunque che l'ego non se ne può impadronire. Allora, dato che la vostra energia non si dirigerà più verso ciò che è corporeo o mentale, essa si trasformerà semplicemente su qualcosa di non oggettivo che non si può situare in alcuna direzione. Quando si sono provate una quantità di possibilità e si è fatto fiasco cinque o sei volte alla settimana, si finisce per arrendersi all'evidenza e non ci sono più dubbi. Si saprà bene che non si deve sperare nulla in quella direzione e non si sa ancora da che parte andare, ma non si cercherà più di sicuro dove si era cercato prima e le energie non saranno più spese inutilmente. È già qualcosa di importante. Le energie sono dunque dirette verso qualcosa di ignoto e ciò sgancia un vero lasciare la presa. Non si tratta di un distacco che può portare dei conflitti, perché il volersi distaccare da una cosa o dall'altra, diventare vegetariano, diventare così o così, mentre in fondo piace ancora il cioccolato o la carne, non è un distacco, ma un nuovo problema. Finché non si sia veramente afferrato, capito e sentito che il cioccolato non è un alimento, non c'è altro da fare che mangiarlo. È persino preferibile mangiarlo piuttosto che creare un conflitto. Questo approccio non è una via emotiva né volontaria, non è una via di austerità, ma di discernimento. Si osservano tutte le reazioni che suscita questa chiara visione delle cose e quando si realizza di essere continuamente perturbati da elementi sconosciuti, discernendo con acutezza, che si agisce come marionette. Certo che questo modo di vedere ci abbandona da solo, come una pera matura si stacca dal ramo. Ogni distacco, ogni ritrarsi, ogni distanziamento e ogni scollamento devono avvenire su questa base. Domanda. Lei ha parlato della discriminazione. È dunque la sola cosa necessaria per ottenere l'illuminazione? Risposta. Sì, ma al tempo stesso occorre studiare tutte le piccole cose, ciò che è l'azione, ciò che è desiderio. Tutto deve essere esaminato per trovare lo stato non oggettivo. Quando lo si è trovato, che succede? Che si fa dopo? Che cosa c'è da modificare nel nostro comportamento? Niente. Dopo l'illuminazione, la nostra vita si svolge senza mutamento esteriore. Tutto continua come prima, ma con un altro sapore, una luce diversa. Ciò che è importante capire è che noi siamo portinai, medici, ciclisti o giornalisti, perché la situazione implica che lo siamo. Ma ora facciamo il lavoro con una distanza che ci libera da azioni e reazioni corrispondenti o, se preferite, da nuovi stati karmici. Si opera allora senza costrizioni, perché la libertà non è la libertà politica, ma quella di fronte a se stessi. Noi dobbiamo a causa del nostro passato soddisfare degli obblighi. Quando un uomo si sposa diventa padre e dopo qualche anno si accorge che non ha una donna che gli conveniva, ne prende un'altra. Se però più tardi diventa saggio e realizza che ha due donne e vari figli, è evidente che assumere le responsabilità di un capofamiglia, perché questo compito gli incombe più che mai. Soltanto non porterà questo fardello per essere un uomo buono. La bontà non esiste, non c'è bontà. Bisogna fare le cose perché deve essere così e spontaneamente. Quest'uomo assume dunque il suo passato, ma questo non è un sacrificio per lui. Se lo fosse sarebbe triste. È impensabile che si mantengano mogli e figli per spirito di sacrificio. Dunque la visione globale veramente sintetica esclude ogni conflitto. Domanda. Perché dice che non c'è bontà? Non esiste allora la bontà? Risposta. Noi siamo riuniti qui per una ricerca. Quando dico che la bontà non c'è, questo è un modo pedagogico di parlare. Voglio dire che quando un uomo ha realizzato la tela di fondo e non vede più le cose da oggetto a oggetto o da ego a ego, ed è perciò stabilito nel sé, egli non obbedisce più ai sistemi e alle qualificazioni che ci dividono e ci oppongono, perché da quel momento trova se stesso nel suo prossimo. La morale, ossia la distinzione tra bene e male, ha perso ogni significato per lui. Egli non ama perché si deve amare, perché ha paura di essere cattivo, ma perché si sente uno con le persone e con le cose. L'egoismo sparisce, come potrebbe allora essere altro che amore e bontà senza oggetto. Il vero amore è in fondo amare l'amore. Se non si ama l'amore, si amano solo delle qualità, e le qualità non sono mai permanenti e globali. Quando si è sullo sfondo, si eseguono i compiti dettati dalle circostanze, perché lo stato in cui si è stabiliti è uno stato invisibile che è la vita, e la vita ama la vita. Essa non è mai stata creata e non muore mai. Per chi ha gustato una volta la vera vita, essa è luce e pace. Il problema della morte non esiste. Domanda. Comprendere la vita rende inutile considerare la morte? Risposta. Sì, quando si è compresa la vita, che bisogno si può avere di considerare la morte? Ogni pensiero muore. Ogni sentimento nasce e muore. Noi andiamo dallo stato di veglia a quello di sogno, e da questo al sonno profondo. Ogni stato muore e un altro prende il suo posto. Qual è la differenza? Ma questa tela di fondo? Voi voltate le pagine di un libro, le lettere combinate in tanti modi diversi descrivono situazioni che cambiano continuamente, ma la carta bianca che è il supporto di quelle lettere non cambia. Domanda. Effettivamente la meditazione sulla morte ci ricorda l'impermanenza. Risposta. Conosco il suo pensiero orientato verso il buddismo e rispetto perfettamente questa meditazione sulla morte. La si trova anche nell'induismo. Ma per la Dvaita Vedanta ciò che importa è la vita. Quando la si è sperimentata, ciò che dura e non ciò che passa, quello che si chiama la morte, non è che un cambiamento come gli altri, identico al passaggio dallo stato di veglia a quello di sogno o di sonno profondo. Cosicché ci si accosta agli oggetti in modo del tutto differente. I problemi di avidità o di impazienza perdono la loro virulenza e finiscono per non esistere più. Allora di che utilità sono la meditazione e la concentrazione finché questo non è realizzato? Questa concentrazione non sarà che uno stato di fissazione. Questo, provocando inevitabilmente l'insoddisfazione, farà apparire nuovi conflitti. Quando la suprema soddisfazione e il supremo comfort sono stati realizzati, allora si può davvero parlare di attenzione senza fissazione. Altrimenti il volersi concentrare è una forma di fissazione. Quando qualcosa ci interessa siamo presenti, attenti. Questa presenza a se stessi è dunque primordiale perché essa sola può essere durevole. Si può allora parlare di eterna presenza, mentre quando parliamo del presente è già passato. Questo problema del tempo è la conseguenza di un punto di vista puramente mentale creato dalla memoria. La vera presenza è quella del sé a se stesso. Essere presenti a voi stessi è esserlo in tutti i vostri pensieri, le vostre azioni e i vostri modi di procedere. A quel punto farete un certo numero d'osservazioni. Anzitutto che il vostro lavoro quotidiano o i vostri minimi gesti sono compiuti in un certo modo, che il vostro pensiero segue un corso meccanico e che le vostre emozioni hanno tutte la stessa origine perché in voi si sono formati dei cliché e degli automatismi. È interessante esaminare ciò che accade. L'osservazione delle vostre reazioni è importante. Essa vi dirà che siete delle marionette e ciò vi condurrà a pensare che esiste forse un altro modo di considerare le cose. Allora comincerete a porvi delle domande e più proseguirete in questa direzione vedrete che c'è una qualità di elementi che non avevate notato. Noi cataloghiamo, determiniamo, fissiamo continuamente per esigenze di comfort mentale, di sicurezza. Non amando essere presi alla sprovvista, vogliamo abbordare ciascuno col massimo di garanzie e per questo accumuliamo un grande numero di pregiudizi. Sono cose che dovete osservare e constatare, ma non giudicatevi e non condannatevi. Qui non c'è colpa. Il sé è a sé stesso la propria luce. Questa natura si conosce senza ricorrere a un intermediario. Domanda. Quando lei afferma che la presenza all'oggetto non esiste, non si potrebbe sostenere che non esiste neppure la presenza a noi stessi, perché tutto è, se così si può dire, un fenomeno della coscienza. Risposta. Occorre capire bene che non c'è oggetto senza sensorialità, né sensorialità senza coscienza. Che non c'è soggetto senza oggetto, né oggetto senza soggetto. Nel momento in cui capiamo qualcosa, non sappiamo se siamo noi ad essere nell'atto e soltanto in seguito possiamo renderci conto di aver agito e poniamo l'azione in relazione con un ego che agisce, che diventa un oggetto della coscienza, ma al momento dell'azione c'è unità. Dunque sulle prime siamo talmente oblumbilati dall'interesse che abbiamo per gli oggetti che ci identifichiamo con essi. Ma se riflettiamo profondamente, vediamo che gli oggetti con i quali ci eravamo identificati non hanno nessuna indipendenza e sono tali perché sono percepiti. Inoltre appaiono e spariscono continuamente. Ci si può allora rivolgere verso il soggetto. Ci si accorge che quello che si era preso per un oggetto non era di fatto che un aspetto del soggetto, che è una coscienza pura. Ma si deve fare attenzione. Questa constatazione deve essere spontanea, priva di elucubrazione, altrimenti essa è solamente intellettuale. Naturalmente un uomo affascinato dalla bellezza di una scultura scolpita nel sasso all'inizio è attirato solo da questa bellezza. Poi se si sofferma un po' vede che questa figura ha un supporto che è il sasso e se lo fa più a lungo vede nella figura il sasso. Allora è sasso. Però di coscienza non deve creare un nuovo problema. Domanda. È questo il punto di partenza? Risposta. Sì, la constatazione dell'impermanenza degli oggetti ci stacca da essi ed essi diventano allora molto interessanti da osservare. Ci può rimediare così a molte identificazioni di cui non sospettavamo l'esistenza. Domanda. Come conseguenza logica di questo penso che non si debba cercare la realizzazione ma lasciarla avvenire verso di noi perché andare verso di lei è dar prova di volontà. Non è così? Risposta. Questa esperienza è la conseguenza di un lasciare la presa. Questo lasciare la presa deve venire in modo organico e non per un atto di volontà. Questo distacco si fa a tappe ma la vera conoscenza è istantanea. Questo distacco a tappe disorienta già del tutto le abitudini del corpo e della mente perché ci si rivolge a qualcosa di non obiettivo. Domanda. Nonostante tutto pare che sia una cosa molto difficile perché è sempre la mente che sceglie. In questo caso si procede verso una cosa che non si può né dominare né descrivere sicché si cerca senza sapere che cosa si cerca. Ecco il paradosso. Risposta. Nel momento dell'azione la coscienza penetra quest'azione. Se c'è un gesto essa penetra questo gesto. Dunque nell'azione bisogna soprattutto immaginare un rapporto da soggetto a oggetto. Questo non esiste. Questo rapporto è a una comodità inventata dall'ego ed è all'origine della memoria. Domanda. La memoria è dunque un oggetto? Risposta. Sì, la memoria è una funzione del mentale. Per ritornare all'azione dovete comprendere che voi non siete l'attore né colui che soffre o gioisce. Alla fiera la giostra gira e voi siete portati da lei. In quel momento voi siete il movimento. Siete l'attore. Se però lasciate il vostro posto e vi portate al centro della giostra vi troverete in un punto immobile. Da quel punto immobile vedrete girare il vostro posto ma la vostra posizione è stabile. Di conseguenza nell'atto bisogna non avere alcun pregiudizio ma con la certezza di non essere né il corpo né il mentale giunge un momento in cui sentite senza sentirlo. In cui sapete, ma non in modo intellettuale, di essere installati in qualcosa di stabile anche se state facendo il vostro mestiere. Fate le vostre commissioni o andate a rispondere al telefono. Domanda. È il mozzo della ruota quanto colui che ruota la periferia. Domanda. Quest'idea che non siamo né il corpo né le emozioni né la sensazione deve essere la fonte di una grande fiducia, di una grande energia, perché in fondo ciò che distrugge la nostra fiducia nella vita e in noi stessi è il sentimento di essere qualcosa di limitato. Risposta. Sì, noi siamo limitati ma solo in rapporto a colui che conosce e questa comprensione implica necessariamente una grande liberazione di energia. Tuttavia, noi siamo perfettamente e costantemente stabiliti nel sé. Ciò che ci manca è solo di esserlo scientemente. Nella nostra infanzia, quando ci vedevano seduti per terra assorti in noi stessi, ci dicevano che cosa fai? Non stare lì imbambolato, vai a giocare. Si è così formata la nostra abitudine a sovrapporre istintivamente il concetto di nulla ad ogni stato non oggettivo. Domanda. È vero, non si dovrebbero turbare questi momenti di solitudine. Risposta. Questa solitudine, quando è ben compresa, si rivela una pienezza. E questa pienezza è la vostra vera natura. Non è uno stato. L'ultima realtà non ha nulla in comune con certe nozioni come quelle di samadhi o di satori, che sono stati nei quali si entra e dai quali si esce. Non è questo, ma una cosa permanente che è indivisibile, che non è differente da noi stessi, nella quale siamo costantemente stabiliti. Si tratta soltanto di esserlo scientemente. Nello yoga di Patanjali si resta in un mondo oggettivo. La visione di Patanjali è del tutto dualista e ci si occupa solo dello stato di veglia, che è un frammento dell'esperienza umana totale. Lo stato di sogno e quello di sonno profondo sono del tutto ignorati, mentre l'esperienza totale, come descritta dalla Mandukya Upanishad, si colloca al di là dei tre stati. Domanda. Dato che anche senza volerlo si fanno dei confronti, non si potrebbe raffrontare lo stato di sonno profondo a quello del testimone, dato che lo stato di veglia è quello di sogno, non si apprezzano che in relazione ad un altro stato. Risposta. È sulla tela di fondo che gli oggetti appaiono e spariscono. Nel momento in cui appaiono gli oggetti dei sensi, i pensieri, le emozioni, lo psichismo, diciamo di essere in stato di veglia. Quando sogniamo non lo sappiamo, dato che lo stato in cui ci troviamo è simile a quello della veglia. Dicendo o sognato, constato che c'è stata una proiezione mentale. Nulla prova che il sogno non sia uno stato di veglia e che quello che chiamiamo veglia non sia un sogno. Nulla lo prova. Se esaminiamo la cosa molto profondamente, vedremo che ciò che chiamiamo veglia è un'esperienza mentale, come lo è anche lo stato di sogno. Ma gli oggetti sogno e veglia appaiono e spariscono sul fondale. Nel sonno profondo c'è semplicemente assenza di oggetti. È tutto. Quando abbiamo realizzato il testimone, d'altronde questo è soltanto un modo di dire. Non c'è testimone perché quando pensiamo la coscienza penetra il corpo dal pensiero. Quando dunque abbiamo realizzato tutto ciò, giunge il momento in cui ci installiamo scientemente nello stato che non è uno stato. Finite le addizioni e le sottrazioni, non c'è più inquietudine. Siamo perfettamente integrati. Organicamente, secondo le leggi della nostra individualità, i pensieri si presentano, ma non c'è più né avidità né insoddisfazione. Avendo trovato questo equilibrio ultimo, che è la nostra vera natura, non abbiamo più nulla da aggiungere né da sottrarre. Parte terza. Klein. L'esperienza di cui parleremo in questa serie di conversazioni è la conoscenza per eccellenza dell'ultimo soggetto. Noi non possiamo comprendere un oggetto che per analogia, riferendoci ad altri oggetti che già conosciamo. Per conoscere questa esperienza non possiamo riferirci a nulla. Dobbiamo soltanto ricordare, senza posa, che essa non può instaurarsi entro un quadro oggettivo, che il mentale e il corpo sono oggetti percepiti, altrimenti creiamo degli intralci. Ogni proiezione mentale implica infatti una relazione da soggetto a oggetto, mentre questa realizzazione è assolutamente non duale. A causa del nostro condizionamento noi non siamo aperti ad essa, tuttavia la viviamo in permanenza, senza saperlo, nello stato di sonno profondo o nell'intervallo tra due pensieri o due percezioni. La non dualità è il fondamento stesso di ogni dualità. Essa è, se volete, analoga a questo pavimento sul quale si trovano stavoli e sedie. Il pavimento serve da supporto agli oggetti, ma c'è semplicemente un pavimento tra di loro. Allo stesso modo, le sensazioni e le attività mentali degli stati di sogno e di veglia appaiono e spariscono nella coscienza, e senza percezione o pensiero c'è coscienza pura. L'infanzia lascia il posto all'adolescenza, questa alla maturità e la maturità alla vecchiaia, ma l'impassibile testimone di questi cambiamenti non è implicato né affetto. Il sé, che è vita, non può mai essere tributario del cambiamento, non può né sparire né morire. Inoltre ogni desiderio tende verso il non desiderio, e se non è desiderio del reale ma ricerca di un sostituto illusorio, allora non è che compensazione. Quando lo si è profondamente compreso, avviene un transfert di energia. Questa, che all'inizio era diretta verso gli oggetti, è ora disponibile per un'apertura a questo vissuto. È molto importante spingere l'attenzione al massimo grado e ascoltare le risposte alle domande con un mentale assolutamente libero e vuoto. Rinunciando a voler riempire la nostra attesa con una risposta determinata. Bisogna essere attenti a ciò che è enunciato, a se stessi e alle proprie reazioni. Queste reazioni ci permettono di capire che noi riconduciamo sempre le cose a noi stessi, che le confrontiamo con ciò che crediamo. Vedremo fino a che punto siamo abituati ad ammettere solo ciò che può alimentare l'ego o la nostra personalità. È una cosa molto importante. Dobbiamo dunque imparare ad ascoltare e ad essere aperti a qualcosa di assolutamente sconosciuto. Ovviamente ci sono molte vie che conducono alla realizzazione, ma mi pare che la maggior parte di esse non la collochino in una giusta prospettiva. Le vie che procedono per tappe sistematiche di purificazione in vista di un perfezionamento mentale arrivano alla fine soltanto una dilatazione dell'ego e maldestramente aggravano il condizionamento di quest'ultimo. Fanno sforzi accaniti per ottenere a qualsiasi costo ciò che è assolutamente non duale e fuori da ogni relazione, soggetto o oggetto. Coloro che procedono per queste vie troveranno presto o tardi un istruttore che li metterà sulla buona strada. Evidentemente egli dovrà servirsi di un linguaggio convenzionale che suggerisce più che esprimere un modo originale di vedere, ma se egli è stabilito sulla tela di fondo allora completerà con la sua presenza l'insufficienza del linguaggio. Questo apporto consentirà a chi lo ascolta di volare con le proprie ali. Questa riunione è una specie di meditazione in comune. Ogni domanda, ogni risposta sono un mattone per la costruzione di un edificio che per il momento ci è ancora sconosciuto. Domanda, parrebbe che noi siamo coscienti delle forme del nostro corpo soltanto in modo assai imperfetto. Lei ci ha insegnato ad essere coscienti della nostra muscolatura e delle nostre reazioni, cosa che generalmente non facevamo perché abbiamo delle contrazioni inconsce. Tuttavia crediamo di essere coscienti tanto di noi stessi che del nostro corpo e degli oggetti esteriori. Risposta, dici che sei cosciente dei tuoi muscoli e delle tue reazioni, ma ciò che dici essere cosciente del tuo corpo o della sensazione è essere cosciente di un oggetto che non può essere chiamato oggetto se non c'è un soggetto che lo osservi, altrimenti non esiste che in funzione del soggetto. Ciò che tu chiami essere cosciente della tua muscolatura è unicamente essere conscio di una nozione mentale, perché il nostro corpo non è altro che una nozione che abbiamo adottato un giorno, scelta, sposata e alla quale abbiamo consentito. Noi vi aderiamo per tutta la vita. Ma questa nozione non ha alcuna realtà, può essere rovesciata dall'oggi al domani. Vorrei che lo comprendeste. Voi parlate di oggetti esterni, ma non ci sono oggetti esterni, non c'è nulla di esterno. Un oggetto non può esistere se non lo vedete, lo toccate o l'ascoltate. Se l'organo della percezione è deficiente o se la coscienza non è presente, non ci può essere oggetto percepito. Voi sapete perfettamente che potete camminare per la strada senza vedere nulla di ciò che vi sta attorno, assorti come siete nei vostri pensieri. Perché ci sia visione, occorre che la coscienza penetri l'organo della percezione. Dunque l'oggetto che chiamate esteriore non esiste come tale se non c'è un soggetto per osservarlo, un organo capace di percepirlo, e finalmente una coscienza diretta verso questa percezione. Per quanto riguarda l'esperienza dell'intervallo, il nostro condizionamento è questo. Fin dall'infanzia, a causa della nostra educazione, crediamo che se non c'è nulla di oggettivo, non esiste che un nulla, e l'intervallo tra due pensieri o due percezioni ci pare una reazione quasi organica, un vuoto da cui fuggire allo stesso modo di coloro che fuggono la solitudine. C'è un riflesso innato in noi, rinforzato dall'educazione, che ci fa sovrapporre immediatamente un nulla a questa senza di oggetto. Quando parliamo dell'incoscienza nella quale ci ha immerso il nostro sonno, questa parola incoscienza è assolutamente aberrante. Non c'è nulla di incosciente. La coscienza è senza oggetto, ma la coscienza c'è sempre, come quel pavimento sul quale si pongono tavoli e sedie che si portano via. Questo approccio richiede una messa a punto particolarmente delicata, perché si tratta di un procedimento contrario a tutte le nostre abitudini, un procedimento non oggettivo. Invece di sforzarci di afferrare l'oggetto, dobbiamo sforzarci di abbandonarlo per risvegliarci. Colui che non si è familiarizzato con queste delicate manipolazioni non può né acquisire né sviluppare una sensibilità sufficiente. Come un venditore abituato a fare delle pesate diventa capace di valutare il peso delle sue derrate con il solo soppesarle con la mano, qui accade la stessa cosa. L'uomo abituato a ragionare oggettivamente finisce con l'acquisire una certa abilità nel ragionamento obiettivo. Occorre ora che egli acquisti la stessa abilità nell'attitudine non obiettiva. In questa prima messa a punto, gli sviluppi intellettuali e interiori devono andare di pari passo, altrimenti si produce un'inestricabile confusione, come quella che vedete in quegli esseri totalmente squilibrati che parlano e si agitano a torto e attraverso senza mai pervenire a un risultato tangibile. È quindi estremamente importante comprendere quali sono il mezzo e il fine e vedere bene che questo fine non può essere oggettivo. Beninteso, non dovremmo neppure impiegare la parola esperienza, perché questa parola si riferisce di solito a un rapporto di soggetto a oggetto. Ma se sappiamo che la conoscenza suprema trascenda questa dualità, realizziamo insieme che ogni lavoro corporale o mentale per ottenerla rinforza la nostra tendenza a volerla afferrare in quella relazione. Quando è diventato evidente che quello che cerchiamo è fuori dal corpo e dalla mente, avviene per forza, lo ripeto, un trasferimento di energia, il quale presto o tardi, con l'aiuto di colui che vi ha guidati in questo approccio, permette di superare l'ultima tappa. Ma questo risultato è una grazia assolutamente spontanea. Volerla forzare porta in fondo a una caricatura che ritroviamo quando, dopo questa ascensione, entriamo di nuovo nei nostri vecchi schemi. Avendo questo vissuto percosso l'ego, egli se ne vuole appropriare. È a questo punto che occorre veramente evitare di situare la vera conoscenza in un rapporto da soggetto a oggetto che la falserebbe completamente e che, come ho detto, la trasformerebbe in una caricatura. Bisognerebbe inoltre evitare di abbordare i problemi della vita dal punto di vista individuale o dell'ego, ma considerarli sotto l'angolo impersonale della coscienza unitiva. È in questo modo che si compierà il transfert di energia. Considerate quanta ne spendiamo quando desideriamo un oggetto. È straordinario quello che un uomo è capace di intraprendere per ottenerlo. Se integrasse le stesse energie per cessare di identificarsi con ciò che non è, vi assicuro che vivrebbe ciò che egli è veramente, l'ultima verità. Domanda. Dobbiamo dunque lottare contro gli schemi abituali e contro gli effetti della nostra educazione, delle nostre letture e delle nostre compagnie. D'altronde, non le pare che prima di prendere questa via diretta verso l'uno che fa piazza pulita all'incirca di tutte le altre, certe persone avrebbero bisogno, per consolidare le fondamenta, se si può dire così, di essere in perfetto equilibrio, il che chiama in questione la psicanalisi, perché viene da pensare che occorre avere un terreno sgombro e libero da ogni rimozione per prendere questa via. Risposta. Il mentale non potrà mai cambiare il mentale. Possiamo, è ovvio, osservare uno stato mentale. Constatare. Stamani mi sentivo benissimo, era ottimista. A questo pomeriggio mi sento depresso. Io in questa giornata noto due stati. In uno, ero disponibile. Nell'altro, sono immerso in uno stato di depressione. Quando e perché è nata questa depressione? Se poniamo la domanda, possiamo forse ricordare che è stato in un momento preciso, in rapporto con certe circostanze che la depressione ci ha invasi. Sono tutte cose interessanti e l'analisi, fatta per sciogliere certi nodi o per sbloccare certi conflitti, può anche riuscire. Ma questo lavoro non potrà mai portarci allo stadio ultimo, inaccessibile allo squilibrio, perché fino a quando esamineremo le cose in questo modo, rimarremo sempre assoggettati all'oggetto conosciuto. Ora noi non siamo questo oggetto, ma colui che lo conosce. Dal momento in cui si osserva questo blocco, questa fissazione, bisogna liberarsene, altrimenti ne saremmo ossessionati. Pochi giorni fa una persona mi confessò candidamente di non aver mai chiuso occhio per quattro notti perché, passando dinanzi ad un negozio, aveva visto in vetrina una magnifica borsa e si era detta, se avessi quella borsa sarei veramente la più elegante delle donne. Immaginatevi cos'è essere ossessionati per quattro giorni filati al punto da perdere il sonno per una borsa. È un esempio tra mille e si applica altrettanto bene a chi sogna un'automobile o una casa. Domanda. Perché usa il termine esperienza? Questa parola non sottintende un'idea di curiosità. Dopo aver cercato quest'unità ed averla conosciuta, torniamo al nostro stato iniziale, cioè alla dualità. Allora che interesse possiamo avere a questa esperienza? Risposta. Vi ho già detto che noi non possiamo mai fare l'esperienza con l'aiuto del mentale, poiché esso non può uscire dalla dualità soggetto-oggetto. Ora, un oggetto esiste solo perché è oggetto della coscienza. Quando guardate un oggetto, c'è subito un contatto percettivo che raramente è grezzo. Questo percetto ha cessato di essere grezzo da quando, da bambini, abbiamo preso coscienza delle coordinate dell'oggetto, che avviene successivamente. È errato credere che il mentale possa prendere più cose simultaneamente. Esso può fissarsi soltanto su una cosa alla volta. Però, a forza di sperimentare delle sensazioni grezze, si formano nello spirito delle associazioni stabili. In seguito, tutti questi percetti vengono riuniti in uno solo. Non analizziamo più i vari elementi, ma vediamo soltanto l'oggetto in un modo funzionale. Occorre però comprendere che questa associazione può avvenire solo in un campo alla volta, perché non può esserci associazione fra due categorie di sensazioni. Questo contatto con l'oggetto è il punto di partenza dell'elaborazione del concetto e, di conseguenza, quando lo incontriamo, non incontriamo più quell'oggetto, ma gli sovrapponiamo l'esperienza percettiva e il concetto che ne abbiamo e diciamo «vedo quella tale cosa». È per questa ragione che ho detto poc'anzi che non esiste un oggetto esterno, ma che è soltanto un prodotto della nostra immaginazione. Noi non possiamo contattare l'oggetto nella sua natura intrinseca che se siamo noi stessi la nostra natura intrinseca. Allora noi lo contattiamo e questo contatto costituisce una perfetta unità. È questo che chiamo esperienza. Il sé è al di sopra di ogni condizionamento. Non lo riguarda né la causalità né lo spazio né il tempo, che sono soltanto categorie oggettive. Il sale non ha bisogno di altra cosa per essere salato, così come il sole non ha bisogno di nessun altro astro per illuminare e irradiare. Allo stesso modo, il sé conosce se stesso per mezzo di se stesso. Quando l'esperienza ha luogo, voi lo sapete, voi lo siete, ma non come sapete, come sentite generalmente. All'inizio ne sarete coscienti occasionalmente. Quando tutte le vostre energie abbandoneranno il mondo oggettivo, essa si farà spontaneamente. E potrà ripetersi, anche se non si può parlare di ripetizione deliberata, perché l'esperienza non può essere provocata. La ripetizione e il ricordo appartengono al mentale. Potrete dunque solo riprendere certi argomenti per ritrovare le circostanze che vi hanno portati a questo risveglio. Potrete anche, se volete, ricordare gli antecedenti ed anche immaginare il ragionamento o ricominciarlo. Sarà peraltro bene a un certo momento abbandonare e litigare col ragionamento che avete l'abitudine di utilizzare, allo scopo di conservare una certa plasticità che eviterà ogni fissazione. Dunque, se abbandonate il vostro ragionamento, arriverete di nuovo a questa realtà che è sempre attuale e non è mai una ripetizione, per essere poi costantemente stabilito in uno stato impersonale. In principio, sarete obbligato a cedere ancora a certe manie, d'altronde sarà interessante osservare in che modo avrete potuto rientrare di nuovo in esse. Ma non alimentandole più. Presto o tardi esse cesseranno. È allora soltanto che si potrà parlare di una vera trasformazione degli strumenti corpo e mentale. Se si cerca una trasformazione soltanto entro un quadro obiettivo, si arriverà forse a stabilire un certo ordine, ma molto spesso si tratterà soltanto di una terapia psicologica, fatta di spostamento di valori e di sovrapposizioni. Domanda. Non è che l'attenzione a se stessi porti a una specie di rilassamento totale, nel quale ci sarebbe una possibilità di vivere questo risveglio, perché se passiamo in rivista tutti i nostri meccanismi mentali, ci accorgiamo che in fondo sono tutti degli oggetti. Il rilassamento completo sfocerebbe dunque nell'esperienza attraverso il rifiuto totale chiamato neti-neti, né questo né quello. Risposta. Il problema è questo. Quando voi avete veramente capito che la coscienza può visitare solo una cosa alla volta, non sarete più tentati di volerne afferrare nervosamente tante in un modo simultaneo. Per mezzo della comprensione, abbandonate questo va e vieni. Sapete benissimo che ascoltare è una cosa, ma che dopo si deve, se posso esprimermi in questo modo, ascoltare se stessi per assicurarsi di avere ascoltato. Voler afferrare simultaneamente ciò che ascolto e il fatto che sono io che ascolto crea una forma di nervosismo. Domanda. Come conoscere realmente le nostre possibilità e quello che siamo? Risposta. Qualche giorno fa ho visto del teatro no. Per prima cosa ci fu l'entrata impressionante delle comparse. Quando esse furono disposte sulla scena, i personaggi principali, ossia la donna stregata, colui che l'aveva stregata e colui che l'avrebbe liberata, apparvero a loro volta e si misero sulla scena. I due uomini combatterono con gesti molto belli e quando colui che doveva liberare la donna ebbe afferrato e ucciso l'altro lasciò vittorioso la scena seguito dalla donna che era ormai completamente libera. Pubblico applaudì con veemenza, ma quando le comparse cominciarono a lasciare il palcoscenico, gli applausi tacquero all'improvviso e gli attori uscirono lenti, nel più grande silenzio. Vedete che importanza ha questo finale, fatto per dare allo spettatore la possibilità di staccarsi dallo spettacolo e di ritornare a se stesso. È una cosa molto caratteristica. A teatro o dal concerto non si approfitta di questa occasione di ritorno a se stessi che ci offre ogni spettacolo. A teatro lo spettatore dimentica se stesso per entrare nello spettacolo. Alla fine dovrebbe effettuare il movimento inverso. Questo movimento è un abbandono dell'oggetto e un ritorno al soggetto. È quindi una specie di ripetizione della marcia mistica per eccellenza, che è il ritorno al soggetto. È solo con questo ritorno su di sé che si impara a conoscersi. Domanda l'introspezione costituisce un aiuto? Risposta solo nel regno del relativo. Su questo cammino non bisogna vedersi nel modo psicologico ordinario, ma con l'indietreggiamento praticato in Oriente. È un atto assolutamente neutro che non cerca né di giudicare né di condannare. Quando un uomo si giudica, si condanna, si valuta o si confronta. Questo è un segno di paura e di insicurezza. Egli cerca la sicurezza riferendosi a un altro, al suo passato o a un ideale. Ma colui che ha veramente osservato le proprie reazioni, solo osservato, senza valutazione né critica, scioglie ogni difficoltà con questo atto di vedere senza confrontare. Allora, gli oggetti si situano nel loro vero contesto e prendono un rilievo diverso. È il solo modo valido di procedere. Ce ne sono altri, certo, ma sono adatti a certe persone o ai bambini. Ma anche là, quando, da degli esempi, il pedagogo che per principio dovrebbe essere stabilito nel fondale potrebbe indicare, ecco, ora io ti dico questo. Tu paragoni e giudichi così, ma verrà il momento in cui sarai l'ordinatore di te stesso. Questo modo di procedere si praticava certo agli inizi del cristianesimo. Poi vi fu la caduta nel dualismo, ed è questo dualismo a costituire l'ostacolo principale. Domanda. Trovo che è molto difficile osservare se stessi senza perturbare l'azione esteriore. Quando la nostra attenzione è fissata sugli avvenimenti della nostra vita interiore, siamo distolti dalla vita attiva. Risposta. Sapere che non c'è simultaneità è già molto importante e impedisce di saltare da un luogo all'altro. Questa è la prima tappa. Poi si deve abbandonare l'idea di poter trovare una permanenza, una sicurezza e una stabilità in ciò che è oggettivo. Gli oggetti cambiano continuamente, come del resto cambiate anche voi. E ciò che è interessante è di essere appropriati al vostro cambiamento. Fino a 25 anni la donna veste in un certo modo perché è giovane. Quando ne ha 60 si veste e si pettina in un altro modo adatto alla sua età. Così deve essere, è naturale. Spesso in comportamenti non appropriati si può scorgere una grande insicurezza. Ricordo che ai tempi delle esposizioni di Parigi, del 1937, mi incontrai con il poeta Albert Steffen che veniva dalla Svizzera. Siccome era la prima volta che veniva a Parigi, gli chiesi le sue impressioni. Prima mi parlò per un'ora dei dipinti di Cézanne. Allora gli dissi beh, parliamo della gente. E mi rispose, ho osservato una cosa curiosa nelle Parigine. Riguarda il fatto che gli esseri non vogliono morire. Da cosa lo vedi, replicai? Dal modo in cui vestono le sessantenni. Portano le stesse gonne corte e gli stessi cappellini che avevano a vent'anni. Non vogliono abdicare, cosa che dopo tutto fa parte del ciclo della vita. È un'osservazione interessante perché è evidente che si deve essere appropriati all'età che si ha. Se credete di trovare la sicurezza con degli espedienti, vi illudete. Non si potrà mai trovare la sicurezza in ciò che cambia perpetuamente. Una volta che lo avete compreso, date tutta la vostra adesione al testimone. Quando questo problema è veramente e profondamente risolto, l'identificazione con gli oggetti, con colui che si soffre o si dispera, non è più possibile. Noi non troviamo veramente la cessazione della paura o dell'angoscia che, abbordando le prospettive indicata qui. Anche se non si è totalmente nel cuore della sicurezza, questa prospettiva trasforma già gli oggetti in modo che il corpo e il mentale vengano utilizzati in modo diverso. Gli oggetti li vedete ancora. Nella vostra vita non cambia nulla. Vi occupate del vostro lavoro come prima. Ma i valori sono cambiati. E questo è l'importante. È inutile fuggire in India, in Egitto o in Cina. Il problema è sempre lo stesso, in India o in Cina. La gente si veste diversamente, ma la natura umana è sempre la stessa. Fuggire dal luogo dove si è è solo romanticismo. Col pretesto di non avere realizzato qui il proprio equilibrio, si crede che lo si potrà trovare altrove e il più lontano possibile. Ora non si tratta di fuggire il mondo oggettivo, ma di diventare liberi davanti a se stessi, ossia dalle proprie facoltà mentali e dal proprio corpo. In questa serie di conversazioni l'importante è riprendere certe risposte che erano imprecise. Qualche volta lo erano a bella posta perché quando si fanno delle riflessioni o si danno risposte troppo precise, questo assomiglia a un'opera d'arte alla quale non si potrebbe aggiungere nulla perché sarebbe troppo compiuta, mentre essa deve incitare la persona che la guarda a sognare, ad aggiungere, a comporre e a perfezionare. Allo stesso modo, le risposte sono talvolta date in modo un po' sghembo di lato. Questo può accadere accidentalmente, ma in questa serata ciò è spesso voluto, il che permette, se mi è lecito dirlo, di spaventare la mania ragionante e di rettificare ciò che è stato esposto o risposto. Questa rettifica è un buon lavoro. Permetterà in seguito di porre domande un po' più sentite e un po' più pertinenti. Domanda. Alle descrizioni dell'opera d'arte di Pocanzi, volontariamente non finita, lei ha applicato la parola perfezione. Riprendendo l'esempio della donna, non si potrebbe dire che in ogni essere ci sia un bisogno, un desiderio, un dinamismo che spinge precisamente a perfezionare, a migliorare sempre e a non accettare le cose come sono. Mi pare che questo sia il dinamismo della vita. Ciò si vede ben chiaro nelle donne che non accettano la vecchiaia, non perché la rifiutino, ma perché c'è in loro un bisogno di trasformazione e di adattamento che coincide col dinamismo della vita e col senso estetico. Se si imbellettano per sembrare giovani, lo fanno per il bisogno profondo che è nella natura stessa degli esseri. Risposta. È un'illusione di compensazione. Quando un desiderio non è realizzato, si creano delle compensazioni che a loro volta mantengono uno stato di dualità, ossia di aspettativa, di rassegnazione, di tristezza o di piacere passeggero. Vogliamo ad ogni costo trovare la sicurezza. E siccome la natura profonda dell'uomo è in realtà gioia e pienezza, la cerchiamo senza posa. Ma purtroppo non sappiamo che cosa cerchiamo ed è per questo che ci volgiamo verso gli oggetti. Il giovane che supera brillantemente gli esami ne prova una grande soddisfazione, ma ben presto essa si trasforma in delusione se non trova la posizione che sperava di avere. Poi trova la donna dei suoi sogni. Crede di aver raggiunto la felicità, ma poco dopo torna l'insoddisfazione e così di seguito. L'esistenza si svolge in questa alternativa di soddisfazione e insoddisfazione. Poco tempo fa un uomo di 60 anni, il quale aveva sposato una ragazza di 22 che gli aveva dato un figlio, mi parlava con passione delle sue responsabilità. Non si trattava solo del figlio, ma anche della giovane moglie. Era sconvolgente per lui non sentirsi più abbastanza maschio. Ma la cosa veramente tragica era, in fondo, che aveva sposato quella donna solo per conservare l'illusione della giovinezza. Vedete dunque che gli uomini che non hanno preso coscienza della vera natura delle cose e vogliono conservare le loro illusioni a ogni costo, provocano delle tragedie e non incontrano che paura e tristezza. È una cosa che vediamo attorno a noi quasi ogni giorno. È chiaro che c'è gente che si bagna i piedi venti volte e non sa trarre le conseguenze. C'è della gente che fa la guerra cinque o sei volte e ogni volta la perde e non si domanda perché ho fatto la guerra, perché l'ho persa. Un uomo intelligente, e suppongo che nonostante tutto ce ne siano, dopo aver messo i piedi nell'acqua due volte, starà attento a che non gli capiti la terza volta. Quando si invecchia si trae un certo numero di conseguenze, vedendo che si è sempre sospinti da un desiderio all'altro. Presto o tardi ci si chiede, che cos'è il desiderio? Qual è la sua vera natura? Questa presa di coscienza non impedisce di utilizzare gli oggetti che danno soddisfazione, perché essi non sono in realtà altro che il riflesso o il simbolo della serenità e della gioia che desideriamo. Compreso questo, i nostri rapporti con gli oggetti divengono del tutto differenti. Arriviamo così a concludere che la pienezza, la gioia e l'amore stesso non risiedono nell'oggetto, ma in noi stessi. L'oggetto è solo un veicolo buono o cattivo. L'arte è uno dei migliori. La musica, l'architettura e specialmente la pittura sono veicoli meravigliosi, ma l'emozione che procura l'opera d'arte è indipendente. Vedendo un quadro siete portati verso la gioia interiore, ma nel momento dell'impatto siete soli con voi stessi e non con l'opera d'arte. L'avete lasciata. Poi ovviamente tornate nella dualità, ma l'impatto è assolutamente non duale. Lasciate l'oggettività e siete uno con la vostra vera natura. Parte quarta Klein Dopo queste prime conversazioni mi paiono indispensabili alcune ricapitolazioni. Quando abbiamo compreso pianamente che il corpo, le sensazioni, le emozioni e il pensiero sono oggetti della coscienza e che noi siamo il loro conoscitore ultimo, si stabilisce in noi un certo contegno, una posizione che integreremo sempre più. Perdiamo allora l'abitudine di identificarci con il pensatore, l'attore, colui che soffre o gioisce. L'ego quindi perde ogni sostanza. Per il fatto di essere orientato verso qualcosa di non oggettivo e di ignoto, le energie affettive, intellettuali e spirituali vengono raggruppate e orchestrate in modo del tutto nuovo. Questa riflessione profonda, che è la meditazione, deve essere esaminata sotto molti angoli ed esercitata ogni giorno per canalizzare le nostre energie. E le stesse energie che ci legavano al mondo oggettivo ci condurranno verso il lasciare la presa. Nel momento in cui saremo nella posizione del testimone, dello spettatore, del conoscitore, quella che si può chiamare l'esperienza non duale accadrà spontaneamente. Lo stesso vento che aveva coperto di nuvole e il sole sarà quello che le disperderà. E quando le nubi non ci saranno più, naturalmente vedremo il sole. Per tornare a quanto dicevamo, una volta constatato in questa meditazione che non siamo né il corpo né le attività mentali, occorre condurre anche un approccio parallelo, consistente in un'attenta osservazione del problema dei nostri desideri. È infatti attraverso l'oggetto di un desiderio che noi possiamo eventualmente conoscere qual è in fondo la nostra natura intrinseca. Noi cerchiamo continuamente la pace, la gioia suprema e la pienezza, che di solito esprimiamo coi termini più poveri di piacere e di soddisfazione. Ma in verità è pur sempre della pace e della felicità che si tratta. Per ignoranza cerchiamo di trovare questo stato in un mondo oggettivo e passiamo da una delusione ad uno scacco finché comprendiamo che questa gioia non si trova negli oggetti, non è provocata dagli oggetti, ma essi puntano soltanto verso la coscienza. È dunque evidente che dobbiamo trovare questo equilibrio ultimo al di fuori di essi. Quando questo è stato realizzato in modo non superficiale ed è stato esaminato con molta attenzione, si giunge a raccogliere tutte le energie. Il fatto di aver visto il mondo oggettivo come un simbolo non toglie assolutamente sapore agli oggetti, ma da loro un accento molto diverso perché essi assumono il loro vero significato. Questi due temi, quello della disidentificazione dal corpo e dalle attività mentali e quello della comprensione che la gioia e la felicità non dipendono dagli oggetti ma risiedono in noi, ci orientano verso l'assoluto. Domanda. Lei ha detto ora che l'attenzione verso noi stessi per la disidentificazione e la comprensione che la nostra vera natura è gioia, felicità, eccetera, ci orientano verso l'esperienza dell'uno, del non formale. Non c'è contraddizione con quell'esperienza della grazia di cui parla il cristianesimo e forse anche l'induismo, grazia che cade sugli esseri senza alcuna preparazione? Risposta. Quando le energie non sono più dirette verso gli oggetti e cessa l'identificazione col corpo e con il mentale da cui sorge l'ego, l'attività non gira più attorno a lui al fine della sua conservazione o della sua espansione e attraverso la ripetizione non organizzata né metodica di questa profonda constatazione si produce il distacco dal mondo oggettivo. Ma ve l'ho già detto, quello che può chiamarsi l'esperienza è spontaneo, è uno stato di grazia che ci invade e si potrebbe quasi dire che il sé è la grazia stessa. Domanda. Sì, non viene dall'esterno ma da noi stessi, in un momento di distacco. Risposta. È così, come dicono le scritture hindù, questa natura è vicino a noi molto più del gesto di cogliere un fiore. Dato che le varie attività appaiono e spariscono nella coscienza, in fondo esse non sono che coscienza. L'esistenza comporta talvolta delle circostanze in cui le nostre attività sono bruscamente paralizzate o arrestate. In quei momenti la nostra vera natura può trasparire come un raggio di sole attraverso una densissima nuvola, ma è sempre il sole che la trafigge. Non siamo noi a trafiggerla. Domanda. A questo proposito vorrei domandarle se l'esperienza di Stéphane Jourdan, descritta minuziosamente nel libro L'homme e la connessance, è simile a questa di cui stiamo parlando. Risposta. Il profumo che manda mi pare autentico. Domanda. Così pare anche a me, eppure questa realizzazione è stata ottenuta senza preparazione, né credenza, né ascesi. Risposta. Dovete ricapitolare su questi due temi paralleli, ma poi formularli e manipolarli a modo vostro. Vedrete allora come ognuno di essi diverrà interessante e sempre più spoglio e diretto. A più o meno breve scadenza valicherete il tema stesso, perché il pensiero che l'ha manipolato sarà completamente esaurito. Allora potrete accedere all'ultima realtà. Ciò non vuol dire che la troverete la prima volta che vi darete a questa forma di meditazione. Può anche darsi che abbiate già quell'intuizione, solo che essa risorgerà e ritornerà in seguito, così come la luce emessa da certe stelle arriva a noi molto più tardi. È una sperimentazione ogni volta nuova, e un giorno arriverete a percepirla e ad integrarla definitivamente. Stabiliti in questo distanziamento, in questo scollamento rispetto a voi stessi, le tendenze e le emozioni, i sentimenti e l'intelletto, non sono più utilizzati per dilatare o conservare l'ego, ma non facendo più parte della vecchia rete, si mettono necessariamente al servizio del sé. Improvvisamente, allora, o più esattamente spontaneamente, tutto l'insieme pensiero, emozioni e percezione è riorchestrato in funzione del fondale. Realizzandolo ci viene da sorridere per aver adottato certe norme, analisi o precetti per ordinare o armonizzare uno stato psichico o fisico, perché la rivelazione del fondale ha ribaltato ogni cosa. Dunque, come vi ho già detto, possiamo certo esaminare en passant un aspetto psicologico o fisico, ma non ci dobbiamo attardare perché tutti questi aspetti sono delle modalità della coscienza e puntano verso di lei. È quando si è installati nel proprio vero essere che sopravviene un armonico orientamento di tutti questi elementi. Il frammento non può mai situare il tutto e l'ego è solo un frammento, interviene, ma non organizza. Per questo dobbiamo essere fuori dal mentale. Soltanto allora nell'uomo si stabilisce l'equilibrio affettivo, psichico, spirituale e fisico. Domanda. Spesso abbiamo intralci molto gravi e nonostante l'osservazione o l'osservatore non riusciamo a eliminarli da soli. Ci pare di non esserne capaci. Comunque ciò pesa molto. Non si può pensare che pratiche devozionali, contemplative o di invocazione verso qualcuno o qualcosa di superiore a noi stessi, a un maestro, un guru o anche alla natura, possono aiutarci a sollevare questo fardello? Risposta. Certo, se l'istruttore è degno di questo nome, egli deve scoprire molto in fretta le vostre particolarità e vedere la vostra natura. Deve aiutarvi a comprenderla esaminando con voi queste particolarità per mettervi in possesso dei mezzi che vi permettono di sciogliere i vostri nodi. Occorre però comprendere bene che essendo l'istruttore stabilito nella tela di fondo, non è questione con lui di un approccio da persona a persona, cioè di oggetto a oggetto, ma dell'approccio dell'impersonale pienamente liberato nel guru verso l'impersonale che è in voi, ancora oscurato o coperto dalla vostra natura individuale. È dunque un contatto assolutamente impersonale che attraverso una certa risonanza sgancia la presa di coscienza. Credere che si possa arrivare ad essa attraverso ciò che è soltanto una forma di emotività o con la devozione non mi pare sostenibile. Possiamo forse con l'aiuto della devozione o delle emozioni trascendere momentaneamente i nostri limiti, ma presto o tardi dovremo entrare nella via della conoscenza procedendo con una rigorosa discriminazione, altrimenti l'approccio diventa molto aleatorio e quando conosciamo il vissuto attraverso la devozione rischiamo di diventare in qualche modo una barca senza pilota. Ramakrishna, che era un essere assolutamente unico, ha addestrato un certo numero di discepoli e li ha condotti sul giusto cammino, ma sono la sua personalità e la sua presenza che hanno prodotto questo fatto e non il suo metodo, quasi inesistente. Domanda. Volevo soltanto dire che questa devozione può sbarazzarci di una parte del fardello, non che ci aiuti a perforare e... risposta. No, dato poi che non c'è nulla da perforare. Domanda. Non potrebbe quantomeno alleggerire il peso dei nostri residui inconsci e dei nostri atavismi? Risposta. Non dico di no, ma tu sei un uomo intelligente. Perché non intraprendere il procedimento puramente discriminativo? Domanda. Mi richiamo ancora all'opera L'homme e la connaissance, uscita da poco. Ci si trova un saggio di Roger Godel molto interessante. Noto che dice, giunto a questo luogo di riposo, nessuno lo può oltrepassare se non è chiamato. A questo proposito mi permetterei di farle una domanda indiscreta. Ha potuto lei aiutare qualcuno a passare quella soglia? Risposta. Se le dico di sì o di no, questo che cosa aggiunge? Domanda. Oh sì, personalmente questo mi darebbe moltissimo. Risposta. Il semplice fatto che io sia qui, questo dovrebbe bastarle. Domanda. Le dirò perché ho fatto questa domanda. La vengo a sentire da tre anni e mi sento molto incoraggiato perché queste domande non sono di moda in questo secolo, ma fino ad oggi tutto si fermava qui. Ora mi pare estremamente difficile andare più lontano. Interruzione dall'uditorio. Comprendo molto bene la domanda del nostro amico che è molto interessante d'altronde, ma io penso che se non ci gettiamo in acqua e se non camminiamo da soli dopo quello che abbiamo udito, non arriveremo mai a nulla. Risposta. Riguardo a Roger Gordel, mi dispiace di averlo visto una sola volta al Musée de l'Homme, quando è stato intervistato qualche anno fa tornando dall'India. Prima non lo avevo conosciuto, però quel poco che so di lui mi ha molto meravigliato. Especialmente nel suo libro L'Experience Liberatrice. Credo che sia certamente il libro di un uomo che ha saputo esprimere in modo preciso un'esperienza che mi sento del tutto incapace di formulare bene come ha fatto lui. Non solo sono le parole giuste, ma anche il modo in cui descrive questa infinitezza. La lettura del suo libro è estremamente penetrante. Non avrebbe certo potuto scriverlo se non avesse toccato lui stesso il fondo profondo. Aggiungerei che offre una somiglianza con il piccolo libro di Herigel, lo zen nell'arte marziale del tiro dell'arco. Non è del tutto nella mia direzione, ma se lo leggete, sentite l'ultima felicità. È talmente fresco che ha ancora, per così dire, il profumo della rugiada del mattino. Per tornare alla sua citazione, noti bene che potenzialmente, virtualmente, noi siamo tutti chiamati, perché è inerente alla natura del sé destarsi nel sé. Il problema della chiamata è soltanto un problema di tempo, ma unicamente dal punto di vista relativo. Domanda Dunque la tecnica, dico tecnica ma non è che una parola, della presa di coscienza sarebbe estremamente semplice. È l'attenzione al fondale, il ritorno delle energie dall'esterno verso l'interno sarebbe il punto di partenza. Non si dovrebbe allora cambiare il nostro abituale modo da agire per fare sparire gli antichi processi. Risposta. Ciò è come dire che occorre ritornare sul tema molto spesso, ma non in modo sistematico. Quando si è interessati si trovano lungo la giornata dei momenti molto favorevoli che ci incitano a riprenderlo. Ma i due processi dei quali abbiamo parlato sono essenziali. Ricondurre verso l'interno le energie disperse nel mondo oggettivo. Giungere alla disidentificazione vedendo la natura profonda del desiderio. Poi rendersi conto che tra le molte azioni che compiamo in un giorno l'80% sono delle compensazioni, perché nel desiderio dell'oggetto c'è l'illusione che esso ci dia la gioia, mentre si tratta soltanto di un mezzo occasionale per dirigerci verso la gioia interiore che può essere chiamata lo stato senza desiderio. Domanda. È proprio questa confusione a condurre alla sovrapposizione. Se si sapesse che la felicità è indipendente dall'oggetto, finirebbe immediatamente la caccia agli oggetti. Risposta. Sì, gli oggetti continuano ad esistere, ma con un altro sapore. Domanda. Non con questo desiderio di possesso che abbiamo sempre? Risposta. No, quando abbiamo capito questo con sufficiente profondità, ci sentiamo già orchestrati in funzione di questa verità, può intervenire un cambiamento. Come dicevo l'altro ieri, il pensiero e il suo oggetto sono uno. Se l'oggetto del pensiero è per esempio un fiore, un animale o un minerale, il mentale si identifica completamente con essi. Se invece l'oggetto del pensiero è il soggetto stesso, il pensiero cessa a un momento dato e noi siamo pienamente il soggetto. Questo approccio per mezzo del mentale è un approccio corretto, ma molto difficile, perché le energie affettive e intellettive devono essere fortemente canalizzate verso il non oggettivo, altrimenti si registra una continua oscillazione dell'attenzione. Ecco come io procedo. Parto da una sensazione. Il mentale, lo sapete, può unicamente fissare un oggetto e non vari. Se l'oggetto della coscienza è la sensazione corporea e si purifica questa sensazione, si trova qualcosa di nuovo che pur dandoci ancora la nozione del nostro corpo è del tutto differente da ciò che conosciamo ordinariamente. Non si tratta di volere soltanto la distensione corporea, ma dobbiamo tenerla in modo attivo in tutto il corpo con l'aiuto della sensazione tattile, cominciando localmente per poi estenderla via via. Così facendo eliminiamo tutto un condizionamento, perché la tensione muscolare che qua e là paralizzava la sensazione è adesso completamente soppressa. Questa sensazione tattile deve essere sviluppata fino a quando arriviamo ad una perfetta vacuità del corpo. Ma una volta giunti a questa vacuità, mi capisce quando parlo della vacuità del corpo? Domanda, ci provo? Risposta, farò un esempio. Potete evocare la sensazione tattile nel cavo della mano? Domanda, non ho mai fatto la prova? Risposta, allora proviamo insieme. Supponiamo che voi vi stiate accarezzando la vostra mano. Subito dopo potete evocare quella carezza e se vi metto dell'acqua calda nella vostra mano. Potete evocarla qualche istante più tardi? Domanda, certo, come l'umidità che sento ora a causa del calore della sala. Risposta, ci siamo. Se evocate intensamente questa sensazione tattile, potete ottenere dei gradi. Che succede in quel momento? Qual è la sensazione della mano in modo generale? Non sembra del tutto inesistente come peso? Domanda, non ci ho mai riflettuto. Risposta, non credete di poter sentire, grazie a questa sensazione tattile, la vostra mano cava, il braccio cavo, eccetera? Domanda, è una cosa che non ho mai sperimentato. È molto più evidente con gli oggetti esterni. Risposta, se guardate un oggetto che vi attira molto, vi è certamente accaduto di avere una voglia quasi organica di toccarlo. Domanda, sì, un bambino, un bel bambino. Risposta, sì, così va bene, ma supponiamo che non lo possiate toccare, che per esempio l'oggetto sia distante da voi. Che succede allora? Non lo sentite fisicamente? Non lo sentite in superficie? Domanda, sì, un ricordo di sensazione. Risposta, è questo una memoria organica, se volete. Questa memoria organica non è qualcosa di astratto né qualcosa di sovrapposto. Lo sentite? È come un pizzicorino o, se preferite, come una corrente elettrica di bassissimo voltaggio. Allora, come abbiamo queste sensazioni, possiamo arrivare a rilassare tutte le nostre contrazioni muscolari e anche a penetrare tutto ciò che nel corpo è ancora nodo o difesa, viaggiando successivamente nel braccio, nel torso, nella testa, sempre riferendosi alle parti rilassate. Grazie alla sensazione tattile, sciogliamo i nodi di ciò che è contratto. Quando sopravvengono dei conflitti, non si forma soltanto un gran numero di nodi nel campo psicologico, ma prima di tutto in quello fisiologico. Nel corpo si installano certe difese ed esse sono sempre contrazioni. Ora, dal momento in cui evocate la sensazione tattile di una zona corporale che sentite libera e leggera e conducete questa sensazione verso il nodo, lentamente quest'ultimo è costretto ad allentarsi. Vale a dire che tutto il protoplasma cellulare è obbligato ad aprirsi. Questo basta spesso, in un buon lavoro psicofisiologico, a sciogliere un complesso. Se percorrete il vostro corpo aprendo tutti i vostri nodi, grazie a questa sensazione, giungete, se lo ripetete, a un certo grado di vacuità, cioè alla completa disoggettivazione del vostro corpo, esso diviene pressoché aereo. Quando comincerete a praticare questo esercizio, vedrete quanto è interessante. Effettuato senza uno scopo particolare, senza avidità ed in un perfetto rilassamento, vi troverete in un corpo vacante. Succede allora che questa vacuità, che è tuttavia ancora un oggetto, si rovesci e si fonda nella coscienza. Allora potete sperimentare effettivamente lo stato non duale. Questa strada mi pare la più indicata per lei. Domanda. La ringrazio, sono ricompensato per il mio intervento. Altra persona. Si può applicare questo anche ad altre cose. Se ad esempio invece di dire sono stanco, dico c'è stanchezza, ottengo un distacco. È lo stesso processo? Risposta. Sì, nel momento in cui dite c'è stanchezza, l'oggetto stanchezza si trova davanti a voi e poiché non c'è più identificazione, una certa quantità d'energia cede non essendo alimentata. Allora potete osservare il vostro oggetto stanchezza e porvi rimedio. Domanda. Allora è lo stesso metodo? Risposta. Sì, se lo volete è lo stesso approccio. Del resto è un esempio che ho dato spesso. Domanda. Potrei porre un altro problema che per me è ancora abbastanza importante. È il desiderio di oggetti esterni. Per esempio, vorrei una bella casa con un bel parco, anche se so che non la porterò con me nella tomba. E quando non sono disidentificato, questo desiderio è talora molto forte. Faccio un esempio, ma ce ne sono mille. L'esempio che lei ha descritto così bene poco fa è molto interessante. Ma c'è anche il problema del desiderio di oggetti esteriori. Risposta. Posso chiederle se un oggetto può davvero essere esteriore? Che cos'è quello che chiamate oggetto esteriore? Un oggetto non è mai esteriore. Diventa oggetto per il fatto che è percepito da un soggetto per mezzo dei suoi cinque sensi. Domanda. D'accordo, ma prima era il mio corpo, mentre per oggetto esteriore intendo una cosa situata fuori di me, che prende anche parecchio posto. Ho parlato di una casa, ma per qualcun altro potrebbe essere un'automobile, o per un giovanotto o una bella ragazza. Cioè, insomma, qualcosa che è esterno a noi. Risposta. Lo capisco benissimo, sì. Solo che esiste questa cosa esteriore senza la percezione. Interruzione. Non si può vedere il mondo senza i sensi. Risposta. Dunque, se un oggetto non esiste senza percezione, esso è percezione. E quando dico disidentificazione dagli oggetti, corpi, pensieri o emozioni, non ho bisogno di specificare minerale, vegetale o animale. Nulla può essere visto senza che intervenga la visione. Dunque, è una sensazione. Si può dire di conseguenza che il mondo non è altro che sensorialità. Fuori di ciò, potete immaginare il mondo? No, non lo credo. Siamo razionali e realisti. Potete immaginare il mondo senza che intervenga la sensorialità? Domanda. No. Risposta. Dunque, il mondo è sensorialità. Allora deve solo parlare di sensazioni. Se l'oggetto è sensazione, il campo d'esperienza è la sensazione. Potete immaginare una mela all'infuori di vederla, toccarla o assaporarla? No, non è possibile, vero? Perciò quello che chiamate esteriore, di fatto, non è che percezione. E anche quello che chiamate mondo interiore non è dal punto di vista del Vedanta che un oggetto, perché è percepito. Riconoscete dunque che la sola realtà indipendente è quella dell'ultimo percepiente. Domanda. Potrebbe parlare del problema del pensatore e del pensiero, perché a questo proposito regna una grande confusione? Risposta. Il pensatore è un oggetto della coscienza, dato che potete constatare di essere stati voi a pensare. Il problema che abbordiamo è un problema di metodo. Vi ho già fatto notare che quando pensate, penetrate completamente il pensiero. Quando percepite qualcosa, la coscienza penetra completamente la sensazione. C'è allora perfetta unità. Solo in seguito vi rendete conto di aver pensato o sentito. In verità, quando parliamo di soggetto e di oggetto, lo facciamo per aiutarci a staccarci e a disidentificarci. Ma in senso stretto, parlare di un testimonio è una sovrapposizione ed è confondere la corda col serpente o il pezzo di madreperla con quello d'argento. Siamo in un certo senso costretti a passare di là, ma con questo intendo semplicemente indicare il punto di partenza. Domanda. Penso che lei ci conduca in analisi molto sottili che non hanno alcun punto in comune con le analisi psicologiche che si fanno di solito. Quando lei precisa ciò che pare evidente, ma non a prima vista, che il pensiero e l'oggetto sono uno, se non faccio attenzione a quello che lei ha dichiarato, io considererei questa pianta come esteriore, mentre essa di fatto non lo è. Risposta. No. Domanda. È un'analisi alla quale non siamo abituati e alla quale dobbiamo prestare molta attenzione. È un altro universo. Ci sarebbe ancora una cosa che vorrei chiederle ed evidentemente non lo farei se mi trovassi in stato di risveglio. Quale deve essere il nostro comportamento con i bambini piccoli per sottrarli al condizionamento? Si può far sentir loro già da ora che c'è qualcosa di diverso da quello che sono abituati a prendere per vero e che sentiranno dovunque, tanto a scuola quanto con i loro compagni? Risposta. Ma sicuro. Prima di tutto l'educatore, come il medico o il terapeuta, deve essere pianamente se stesso. Per essere pedagogo occorre per prima cosa essere una persona armonizzata e ordinata. Sarete d'accordo, credo, nel ritenere che altrimenti non si possa dirigere un bambino. Quanto ai bambini, occorre prima di tutto capire che quando si dice che un bimbo è nato, egli è lontano dall'esserlo veramente. Egli è ancora avvolto in un'immensa matrice rappresentata dal padre e dalla madre. Questo involucro speciale formato dai genitori è molto importante fino al settimo anno. Tutto ciò che il padre e la madre pensano e fanno agisce enormemente sul bambino, positivamente o negativamente. Poi, fino ai 14 anni, egli ha ancora più bisogno di esempi di valori interiori. Fino a sette anni, però, questi valori che devono essere presenti nel padre e nella madre si manifestano molto di più nei gesti. È inammissibile che dei bambini siano tolti ai loro genitori per farne dei docili strumenti dello Stato come si fa in certi paesi e talora anche qui in modo abusivo. Prima di appartenere allo Stato, un bimbo appartiene ai genitori, anche se l'educazione che gli danno ha delle serie lacune. Comunque, in definitiva e soprattutto, i bimbi appartengono a se stessi. Parte quinta Klein Il mondo ed i suoi oggetti non sono altro che sensorialità. Il mondo ci appare attraverso la mediazione del mentale e dei suoi agenti, i sensi. Quando si ammetta che non solo il mentale i sensi sono oggetti percepiti, ma anche il loro continuo cambiare, diventa evidente che essi non continuano la nostra vera natura, alla quale tende il nostro desiderio profondo. Ogni altro desiderio è dunque una compensazione. È attraverso una visione in profondità, la discriminazione e il discernimento, che possiamo evitare di ricadere in questa identificazione, che ci fa credere di essere veramente il pensatore e la gente. È ignoranza alla quale altro non è che la non interrogazione, quella che ci fa identificare con colui che pensa, agisce o prova tristezza e gioia. Quando si è capito non fosse che una sola volta la natura dell'oggetto, diventa difficile tornare a identificarsi. Ma finché si prende il pezzo di madreperla per argento o la fune arrotolata per un serpente, si resta soggiogati alle tribolazioni inerenti a questa falsa identificazione. Dal momento in cui si è compreso che quello che avevamo creduto un ladro era solo un'ombra, l'apparenza di ladro che avevamo sovrapposta cade da sé. Lo stesso vento che ha portato la nube davanti al sole, quello che la spazzerà. Ciò che ha provocato l'identificazione è l'ignoranza e ciò che deve liberarci dall'errore per mezzo del discernimento è lo spirito nel quale si sveglia l'intenzione di conoscere. Tuttavia, quando gli oggetti, corpo, sensazioni e pensieri prendono il loro vero posto, il vuoto che ne risulta è un oggetto anch'esso e ci deve lasciare anche quello. Perché però questo distacco sia reale, occorre che sia un abbandono spontaneo e non qualcosa di concertato, di progettato dall'intelletto in vista di un certo risultato. Domanda. Chiedo scusa di tornare all'ABC di quello che lei ci insegna, ma credo che sia importante. A proposito di questa identificazione, lei ha detto più volte che c'è qualcosa che percepisce il corpo. Mi pare che se lo si fosse veramente capito, noi saremmo esattamente in quello che lei chiama lo sfondo. Come giungere a questa comprensione? Risposta. Per ottenerla occorre fare una distinzione. In primo luogo c'è la conoscenza indiretta, ottenuta con l'attento ascolto di qualcuno che vive nella non dualità. Poi è utile scoprire in se stessi ciò che è stato intravisto e riprenderlo per formularlo col proprio linguaggio, confrontarlo e guardarlo sotto vari angoli affinché il corpo e il mentale, riconosciuti come oggetti, perdano la loro oggettività. Quando tutto è stato interrogato e distintamente riconosciuto, giunge il momento in cui non c'è più nulla da discernere e ci troviamo allora in uno stato di solitudine e di pace interiore che è la nostra vera natura. Questo approccio attraverso la conoscenza indiretta e attraverso l'intelletto, nel senso guenoniano del termine, è assolutamente indispensabile. Qualunque oggetto si compone di cinque elementi. Esso è essere, coscienza, beatitudine, nome e forma. Se si elimina da questa percezione il nome e la forma, non restano che essere, coscienza e beatitudine. Sat Chitananda. Ed in quel momento siete uno con la pura essenza di tutte le cose. Ma finché l'oggetto è ancora ingombro della sua oggettività, ossia del nome e della forma, non ci possiamo arrivare. Ciò che distingue un uomo dall'altro o un oggetto dall'altro è questa oggettività contro la quale ci urtiamo. Quando essa è eliminata, siamo uno con l'oggetto, perché nella sua natura intrinseca, esso è la nostra propria natura. Tornando a quanto dicevamo, il discernimento ci permette di vedere che il nostro corpo e il nostro mentale non sono che pura sensorialità. In fin dei conti, essi puntano verso il percipiente e appare chiaro che non procurano quella gioia alla quale tendono tutti i nostri desideri. Essi perdono allora le caratteristiche che noi avevamo loro sovrapposto. Tutta l'energia accumulata si orchestra in modo diverso, si riassorbe nel sé e noi ci scopriamo stabiliti in uno stato che non abbiamo mai lasciato e non potremo d'altronde mai lasciare. Domanda, perché non arriviamo a considerarci come oggetti? Noi consideriamo tutti e tutto ciò che cade sotto i nostri occhi come oggetti, ma mai noi stessi. Eppure, se noi ci considerassimo come tali, non avremmo già fatto un passo enorme? Risposta, ne ho già parlato nelle prime conversazioni, si potrebbe anche riparlarne. Domanda, sì, sarebbe molto importante per coloro che sono qui per la prima volta. Risposta, un suono non si può udire che con la mediazione dell'udito e si può vedere un oggetto solo se il senso della vista ne permette la percezione. Non c'è oggetto senza visione né visione senza oggetto. Non dovremmo quindi pretendere di vedere un oggetto o di udire un suono, ma piuttosto di constatare l'attività della visione o dell'udito. Eppure ciò non basta ancora. Andando ancora oltre, è facile sentire che non vi è alcuna percezione possibile se la realtà stessa non penetra gli organi dei sensi. Il mondo dunque non è altro che sensoriale e a stretto rigore metafisico non si deve dire che si vede un oggetto, ma soltanto che si constata la presenza di una modificazione della coscienza. Le onde e la schiuma sono semplicemente acqua. Le forme non sono realmente distinte dalla loro essenza. Si può dire che sono un'espressione o una manifestazione di quest'essenza, ma esse sono pure sempre essenza. Domanda Vorrei sapere se dopo aver constatato che non sono né il corpo né il mentale, non dovrei finire con il considerarli emanazioni dell'essere, in modo da non doverli respingere con diffidenza. Risposta È possibile che all'inizio siate turbati, perché qui ci comportiamo entro un rapporto da soggetto a oggetto, il che ha rigore a una finzione. In verità, questo approccio è un metodo che ci serve a discernere prima di tutto ciò che è oggettivo e ciò che non lo è. È soltanto più tardi che possiamo dire ho pensato questo, oppure sono io che ho pensato. Ma quell'io che ho pensato è un altro oggetto della coscienza. Questo approccio del testimone è solo un metodo, null'altro. Domanda Lo stato finale di coscienza di cui lei parlava poco fa non è forse anch'esso un oggetto? Risposta Se lo fosse, bisognerebbe introdurre un'altra coscienza per percepirlo, ciò che è assolutamente inconcepibile. Domanda Allora tutto è oggetto, anche la vacuità. Ma allora ciò che segue questa vacuità deve essere anch'esso un oggetto? Risposta Quando c'è oggetto, come avviene nello stato di veglia o in quello di sogno, l'oggetto che appare è oggetto della coscienza. Quando l'oggetto sparisce, non resta che coscienza. Domanda Chi è che, allora? Risposta Chi è che? Siate quella coscienza. Restate là. Siatela. Non cercate subito una risposta né da me né da voi. Non andate a una conclusione, ma cercate immediatamente una comprensione assoluta. Domanda Ma il fatto di esserne cosciente è ancora un fenomeno relativo? Risposta Ve l'ho detto sovente, ciò che chiamate essere consci di questa coscienza è la non-dualità. Quando fate questa esperienza, non la risentite come una sensazione o una percezione di ordine mentale. Quando avete accesso a lei lo sapete, ma non lo sapete nello stesso modo in cui sapete che io sono qui. Il nostro linguaggio non ci permette purtroppo di essere più chiari. La sentite senza sentirlo, perché se lo sentiste, sareste di nuovo in relazione da soggetto a oggetto. Non dovete perciò voler raggiungere l'ultima realtà, ma quando gli oggetti si staccano da voi, essa vi invade totalmente, come una grazia, e voi non siete altro che felicità. Domanda Non c'è una questione di insieme, essendoci il corpo e la coscienza del corpo? Il corpo è l'oggetto, la coscienza del corpo è il soggetto. È ciò che dice Arjuna nella Bhagavad Gita. Io sono insieme il campo e il conoscitore del campo. Non c'è confusione nel dire non identificatevi né con il corpo né con il mentale, dato che siamo ad un tempo corpo e mentale? Risposta È solo una questione di vocaboli. Non dovreste mai dire io conosco il mio corpo né io conosco la mia mente. Potete soltanto pretendere di conoscere una nozione che avete convenuto di adottare ad un certo momento della vostra vita e che utilizzate quando precisate il mio corpo. Voi aderite conformemente all'uso a questa nozione. Questo è un oggetto statico col quale vi urtate sempre. Quando pensate a voi, lo fate in un certo modo, e quando pensate al vostro corpo, fate lo stesso, in modo ben preciso. Dunque, la parola conoscenza, quando è riferita al vostro corpo e al vostro mentale, non è per nulla adeguata. Conoscere è essere, e noi possiamo essere soltanto nel momento in cui viviamo coscientemente nella nostra vera natura, che è pura coscienza. Domanda Sì, ma c'è la cenestesia. Risposta È esatto, ma conoscere realmente è essere. Si è la sorgente di luce che rischiara ogni cosa senza esserne affetta. In altri termini, si è installati coscientemente nella tela di fondo, anche se si parla al telefono o si passeggia. Con questo stabilirsi nella nostra vera natura, cessiamo di confonderla con ciò che essa non è. Domanda Ho riletto Krishnamurti, che consideravo come uno psicologo molto interessante, sempre attento ai tranelli dello spirito. È ammirevole, ma alla fine non conduce a nulla. Egli dice che non è possibile raggiungere la realizzazione se manca la presa di coscienza di una straordinaria energia interiore. Mi pare che in questo senso sia un po' tantrico. Ci può dire che cosa sarebbe questa energia di cui occorrerebbe prendere coscienza? Risposta Se si vuole usare il termine energia, occorre con esso designare l'energia che in noi è assolutamente incolore. C'è una sola energia. Questa unica energia, animata dal desiderio di trovare l'ultima verità, viene erroneamente diretta verso un mondo oggettivo. Quando si realizza che quest'errore consiste precisamente nel sovrapporre all'oggetto delle qualificazioni che non ha e che, seppur gli accade di essere un veicolo, esso punta soltanto verso la coscienza, senza sforzo e per l'effetto di questa sola comprensione, l'energia si orienta immediatamente verso qualcosa di totalmente sconosciuto fino ad allora. Essa si dirige verso lo sconosciuto, poiché non c'è possibile oggettivare la realtà. Questo genere di domanda mi viene fatto spesso, e voi sapete attraverso l'analisi e il discernimento che la nostra vera natura non si situa in un mondo di oggetti in perpetuo cambiare, in continua trasformazione, che per giunta è un oggetto percepito. Se vi ricordate della vostra infanzia o della vostra adolescenza, è perché colui che conobbe quei vari stati è sempre presente e identico a se stesso. Per conseguenza, quando si realizza che ciò che si cerca è il soggetto supremo, tutta l'energia si trova canalizzata verso il sé, che è uno stato di riposo. Quando è così, abbiamo il completo distacco, o se volete un'espressione più corretta, l'oggetto ci ha lasciati del tutto. È allora che si produce l'esperienza. Finché resta ancora la minima traccia, il minimo residuo di ignoranza, noi vacilliamo. Domanda. Per raggiungere la realtà, è sufficiente volerlo? Il solo desiderio ci permette di arrivarci così. Forse esistono altri metodi. Risposta. Certo che ce ne sono, e molti, non solo questo. Domanda. Va bene, ma vorrei sapere se qualcuno ci riesce. Lei ha visto qualcuno che ci sia arrivato in poco tempo. Nel passato ci sono state persone che ci siano arrivate. Risposta. Vi ho già detto che non sarei qui se non parlassi di quello che so. Domanda. Sì, ma può darsi che lei l'abbia sperimentato perché lei è una natura eccezionale. Ma ha visto qualcuno non superiore alla media come alcuni fra noi che ci sia riuscito? Risposta. Che cosa intende per persone medie? Domanda. Medie, le persone comuni con mezzi limitati. Risposta. Cominciamo a non parlare di mezzi limitati o di persone molto dotate. Il primo passo consiste nel prendere coscienza di avere un corpo, di essere nervosi, instabili, di essere di buon umore al mattino o di malumore al pomeriggio. Questo è il primo approccio. Questo umore, buono o cattivo, basta contrastarlo e per contrastarlo basta ammetterlo. Ammettere e constatare. Senza colpevolezza, senza critica, senza giudicare, senza giustificarsi. Soltanto ammettere. Se perseverate così, finirete col capire voi stessi allo stesso modo col quale, aprendo un dizionario, trovate i diversi significati di certe parole. Vi dovete persuadere che il più bel libro che esiste è voi stessi. Leggerete in quel libro tutto ciò che verrà spontaneamente a voi, senza giudicare, senza condannare, accettando semplicemente. Questo è il primo approccio. Se parlate di grande, medio o di piccolo, state stabilendo delle qualificazioni. Abbandonatele del tutto. Domanda. Beh sì, perché sono già quarant'anni che cerco un po' di giungere a quello che lei dice. Se non ci sono arrivata in quarant'anni, dico a me stessa, è che me ne restano forse ancora altri venti. Poterlo finalmente vivere. Non so proprio se ci arriverò mai. Risposta. Lei dubita di se stessa. Si condanna addirittura. Tutto il suo modo di parlare indica che lei si condanna. Invece bisogna affermare la vita. Lei non si è incarnata per condannare se stessa. Non c'è nessun Dio che la minaccia, che la condanna o che la punisca. Si preoccupi unicamente di sapere ciò che è e non di diventare così o cosà. Conoscere se stessi è vivere in intimità con se stessi, l'ho già detto. Vivere in un rapporto intimo con se stessi. Osservare le proprie reazioni e non immediatamente giudicarsi subito o fuggire. Infatti si può precisamente fuggirsi dicendo io sono un essere mediocre, ma a tanto sono costretto a vivere. E così si crea un personaggio immaginario. Lei deve fin d'ora cominciare ad osservarsi con occhi nuovi, come si osserva qualcuno che si vede per la prima volta. Si comincia guardando i capelli, gli occhi, le mani, la bocca. Poi si parla, si sente il suono della voce, si capiscono le parole, il modo col quale si formulano, eccetera. Fate la conoscenza di voi stessi nello stesso modo in cui fate quella di un'altra persona. Conoscetevi, ma sia una conoscenza reale, non un accumulo di cliché o di critiche, perché la critica nasce da un confronto che porta fatalmente a concludere, ah sì, costui è così e io sono cos'ha. Lo si deve evitare, ha compreso? Domanda. Eh già, quando lei parla mi pare facile. Sono persuasa che la sua strada è ottima, ma quando mi trovo di nuovo nella vita vedo che non è tanto facile discernere come lei raccomanda di fare. Forse dopo... Risposta. Basta cominciare. Ritengo che lei non ne sarà delusa. Domanda. Signore, potrebbe parlarci del fenomeno di attrazione-repulsione e della non-violenza? Risposta. L'attrazione e la repulsione vengono dal fatto che l'individuo guarda il mondo e le cose in uno stato di identificazione con l'ego. Questi immediatamente giudica e valuta in funzione del mi piace o non mi piace. Se l'ego confronta gli oggetti in questo modo, l'effetto non resta soltanto mentale, ma si estende a tutto il corpo. In questa attrazione-repulsione tutta la nostra struttura nervosa è in uno stato sia di tensione che di chiusura. Se questo stato diventa frequente o addirittura costante, esso si trasforma in aggressività. Il vero pacifismo, la vera benevolenza e la vera umanità cominciano quando si smette di fare la guerra contro se stessi. Non possiamo aspettarci che la guerra finisca, in qualunque forma essa si manifesti, se non siamo in pace con noi stessi. Perciò ogni approccio attraverso la disciplina e la volontà, con un atteggiamento di impazienza, è in realtà un atto di violenza. La violenza non è un'energia chiusa ermeticamente in una scatola, essa penetra tutto. In certi momenti siamo violenti contro noi stessi, il che equivale ad essere violenti contro gli altri. Dato che la coscienza è unitiva, noi siamo tutti il sé e ciò che chiamiamo il corpo e il mentale degli altri non è che un oggetto percepito da lui ha lo stesso titolo del nostro corpo e del nostro mentale. Quando vogliamo cambiare, allora forziamo le cose, siamo duri con noi stessi ed alimentiamo codesta violenza. Finché impiegheremo metodi del genere, saremo complici di tutte le guerre. L'approccio discriminativo permette di scevrare le cose e di situarle in funzione di ciò che hai visto. Chi non vede chiaramente cambia posizione. Un artista intento a dipingere si sposta per osservare più nettamente ciò che lo interessa. Non è il cambiamento a condurre ad un discernimento migliore, ma è il discernimento a provocare il cambiamento. Perciò vedere chiaramente qualcosa vuol dire cambiare e da allora non c'è mai conflitto, mai. Domanda Sono rimasto alla penultima domanda e vorrei sapere se l'intuizione profonda di ciò che si è si ottiene progressivamente o se è una visione immediata e totale. Risposta Se ascoltate con grande intensità, e questa intensità viene se si ama una cosa che si trova interessante, se dunque avete seguito con questo intenso interesse il ragionamento che permette di capire che voi siete l'ultimo conoscitore delle cose percepite, il silenzio si installa e voi ci siete. In linea di principio, l'esperienza può sorgere immediatamente, ma è soltanto nel momento in cui, avendola conosciuta, si ricapitolano i precedenti che vi ci hanno condotti che è possibile stabilirsi in lei, dapprima frequentemente, definitivamente in seguito. L'importante è viverla una prima volta. Le energie intellettuali, spirituali, psichiche o emozionali si organizzeranno allora in un tutt'altro modo. In precedenza, a causa di una falsa identificazione, eravamo un ego, un fantasma, e tutto il nostro modo di agire e di pensare girava attorno alla propria conservazione o dalla reputazione. Ora, il fatto di avere operato un arretramento spontaneo ci introduce in un mondo impersonale. È quando siamo veramente installati in esso che possiamo veramente parlare di cambiamento, se no non c'è cambiamento. Si potranno alleggerire certi pesi, distribuirli diversamente, oppure camuffarli come si fa nella psicanalisi o nella psicoterapia, o sovrapporre una cosa all'altra. Ma quello che si chiama cambiare davvero è situarsi fuori dal cambiamento, fuori da ciò che chiede di essere cambiato? Domanda. Mi pare di non aver capito tutto. Supposto che in un lampo di comprensione ci si arrivi davvero. Che cosa ci fa ricadere poco dopo, nella visione egoica? C'è un momento in cui intervengono elementi che non esistevano più un istante prima? Per quale motivo fanno irruzione? Non li si può smascherare appena spunta il loro naso? Non vedo bene quale sia il meccanismo per il quale, dopo questa visione chiara, si dia di nuovo presa agli attacchi dell'ignoranza o di qualche altra cosa che dovrebbe essere stata definitivamente smascherata. Risposta. Vi darò un esempio. In questo momento non ne trovo un altro migliore. Supponiamo che abbiate imparato a suonare il violoncello. Avete lavorato sullo strumento per dieci o quindici anni. Ma ad un certo momento succede che i vostri mezzi non vi permettano più un'interpretazione che corrisponde alla vostra immaginazione musicale. Allora andate a chiedere l'aiuto di un grande violoncellista. Egli vi insegna un certo modo di tenere la mano destra o la sinistra, cosa che è puramente fisiologica. Prendendo più volte la vostra mano, ponendola in una certa maniera, vi farà comprendere effettivamente dove risiedeva il vostro errore e tutti i passaggi che mancavano di rotondità o di fluidità saranno immediatamente corretti. Tornate a casa, passate una notte, riprendete lo strumento ed ecco che ricadete di nuovo nei vecchi errori. Ciò continuerà per più giorni o più settimane. Ma poiché avete la convinzione bene ancorata che la posizione insegnata facilita un'espressione perfetta e poiché avete una memoria organica, presto o tardi finite per acquistare la posizione appropriata. Forse questo esempio vi aiuterà a capire ciò che voglio dire. Vi sono certi modi di pensare che restano per qualche tempo come un residuo, come le ceneri ancora calde nel focolare dopo che non c'è più legna e la combustione è determinata. Un'esperienza come quella di cui parliamo percuote interamente la struttura individuale, ma una certa tendenza residua sussiste ed è soltanto dopo un certo tempo che essa sparirà. Ricadere nei vecchi schemi è inerente a questo cammino, ma potete essere certi che presto o tardi non potrete più essere accecati dalle identificazioni di un tempo, né essere vittima di vecchi schemi. Parte sesta Klein In ogni fatto di coscienza l'analisi distingue tra il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto. La coscienza, in quanto soggetto conoscente, trascende l'oggetto. Noi siamo coscienti della nostra individualità e la trascendiamo. Le false identificazioni si installano in noi perché non facciamo questa distinzione. Per potersi staccare da qualcosa occorre prendere distanza della cosa. Se conosciamo bene la sua natura, non siamo noi a staccarcene, ma per così dire è l'oggetto a staccarsi da noi, finendo con lo svanire. Quando ciò accade noi siamo liberati, liberi nel vero senso della parola, perché la libertà significa essere liberi di fronte alle cose tra le quali figurano il nostro corpo e il nostro mentale. Benché non mi piaccia mettere l'accento sull'analisi perché ciò contribuisce a fissarci nel rapporto soggetto-oggetto, mi pare interessante esaminare un poco il corpo per rendere questo strumento più efficace nel lavoro di discriminazione di cui ho parlato ieri. Come ho precisato varie volte, l'esperienza del sé non si colloca né in un quadro fisico né in un quadro mentale. La nostra vera natura li trascende entrambi. Tuttavia, per acquisire tale prospettiva e giungere alla convinzione della trascendenza della coscienza, è importante prima interrogare il corpo. Occorre capire bene che ciò che chiamiamo corpo non è altro che una nozione. È percetto e in quanto percetto è uno fra tanti altri. Esiste tutta una tavolozza di sensazioni tra le quali figura il corpo. Essi sono intimamente legati, non possono esistere l'uno senza l'altro. Quando parliamo del nostro corpo è dunque di questa sensazione che si tratta. Tra queste sensazioni ve ne sono alcune più o meno trasparenti, più o meno fluide ed altre solide, gravi e pesanti. È incontestabile che se nel momento di un'esperienza corporale optiamo per una nozione più trasparente di quella di cui abbiamo aderito fino ad allora, giungeremo ad una certa disoggettivazione del corpo, il quale nella sua oggettività viene percepito come greve, pesante, compresso e opaco. Dunque la prima presa di coscienza deve essere quella del corpo. Dal momento in cui sentite che è pesante o invece leggero, trasparente o fluido, la distanza tra l'oggetto e il soggetto si stabilisce naturalmente. Nell'esplorare il nostro corpo notiamo, osserviamo alcune parti più dotate che sono virtualmente altra cosa dalla sensazione dominante. Voglio dire che noi del corpo non conosciamo soltanto la pesantezza o la contrazione, ma percepiamo anche parti che ci sembrano più trasparenti. Occorre quindi, a partire dai punti sentiti come più agili e morbidi, riempire di trasparenza, di leggerezza ogni regione corporale, finché non si sia pervenuti a un sentimento di omogeneità totale. Quando siamo giunti a questa omogeneità, dobbiamo in seguito, con la fantasia sensoriale, pervenire ad altre sensazioni, sino a poter sentire il corpo libero, aereo, vacante o, per meglio dire, completamente disoggettivizzato. Il processo d'oggettivazione è centripeto e si compie sempre nel senso della compressione e della pesantezza. Invece un corpo che si vuota della propria oggettività è un corpo che si dilata. Dato che qui siamo nel regno del percetto, occorre giungere al limite estremo di questo svuotamento. Giungeremo allora ad una sorta di disintegrazione corporea che ci conduce a sentirci in una continuità omogenea con ciò che ci circonda. Ciò che guardiamo come esterno cessa di sembrare separato e viene integrato, sentito come un prolungamento del nostro corpo. È il contrario dello stato egocentrico, il quale riconduce tutto a se stesso invece di fondersi, unificarsi e dissolversi in ciò che lo circonda. Questo punto di vista riguarda il lato fisico. Nel campo del mentale è la stessa cosa. A ciò che costituisce nella sensazione un corpo pesante, greve, materiale e solido corrisponde uno stato psichico. Un oggetto può essere appreso in quattro modi differenti. Possiamo ritenere solo la forma nello spazio o i soli contorni, oppure il lato colpito dalla luce o infine vederlo in funzione di un altro oggetto. Colui che di fronte a un problema lo guarda soltanto dal suo lato oscuro, lo vedrà unicamente sotto il suo aspetto negativo. Quando il condizionamento favorisce codesta visione negativa, ciò che in principio era occasionale si ripete finendo col diventare cronico. Ci si chiude così in un universo tanto oscuro quanto desolante. Così come disoggettivizziamo fisicamente il corpo orientando la sensazione verso uno stato di trasparenza e di fluidità, dobbiamo correggere e riequilibrare il problema visto soltanto dal suo lato oscuro. A questo fine, partendo da questa oscurità, orientiamo la nostra immaginazione in modo da passare al di là del lato negativo cui siamo abituati e completiamo la nostra visione. Così facendo, giungeremo a perdere la tendenza a considerare le cose soltanto sotto questo aspetto e arriveremo a percepirle nella loro totalità e finalmente vedremo l'oggetto in funzione degli altri oggetti. Questa liberazione del corpo e del mentale ci condurrà sicuramente alla discriminazione che ci permetterà di afferrare che ciò che viene percepito come aggregato fisico o psichico nello stato di veglia o in quello di stato di sogno è una proiezione che dipende dal soggetto, ossia dall'assoluto. È questa la ragione per la quale ciò che crediamo sia la nostra individualità, altro non è che un ammasso di cose sulle quali a un certo momento abbiamo messo l'accento con la nostra inveterata abitudine di cercare quella che crediamo sia la nostra sicurezza. Questo bisogno di sicurezza è tale che può diventare patologico fino al punto che, se qualcuno si accorge che il concetto adottato è falso, preferisce conservarlo piuttosto che rischiare di ripiombare nell'insicurezza. Finalmente ci accorgiamo che resta la realtà che non abbiamo mai cessato d'essere, la pura coscienza non affetta dal mutamento. Come potrebbe essere testimoni di mutamenti quali la giovinezza, la maturità e la vecchiaia, oppure il sonno, la veglia e il sogno? E come potrebbe constatarli se non fosse al di fuori dei cambiamenti? Il percepiente è dunque di natura del tutto differente da ciò che è percepito. Domanda. Con la sua ultima frase siamo sulla strada della discriminazione. Il percepiente è di tutt'altra natura del percepito. Ma per quale mistero noi non siamo tutti spontaneamente così? Perché non abbiamo la giusta visione? Perché dobbiamo fare tanti sforzi, dimenticare sempre e ricominciare? È un lavoro penoso. D'altronde è anche illustrato nella mitologia con il masso che rotola e sisifo che lo risospinge in alto di continuo. Risposta. Noi abbiamo virtualmente questa facoltà. È indispensabile dapprima riconoscere che questa identificazione con il corpo e con il mentale è inerente alla nostra natura. Non c'è dubbio che colui per il quale contano solo i sensi identifica il reale con il sensoriale, mentre chi vive di più nel mentale lo identifica con il mentale. La gente identifica a seconda del proprio livello. Uno pensa che è piccolo, pesante, tarchiato o sottile, mentre l'altro crede alla propria intelligenza, al proprio coraggio e così via. Ma per colui che è la coscienza, essa è la sola realtà. Domanda. Nella frase il percepiente è di tutt'altra natura dal percepito. Non c'è un dualismo di fondo? Risposta. Di fondo no? Domanda. Sì, non si tratta di Purusha e di Prakriti? Risposta. Non precisamente. Purusha e Prakriti sono solo dualità relative, ma ai fini pratici io parto da questa dualità relativa per giungere all'unità. Domanda. Ieri lei ha parlato dell'impersonale. Qui si è parlato già molte volte dell'impersonale senza attributi. Per me è un concetto ancora assai confuso. Ammettere una forza come impersonale mi pare provochi automaticamente opposizione che è una dualità formata dalla coppia impersonale-personale. Risposta. Non si tratta di una coppia. Lei comprende male. Il personale e l'impersonale non costituiscono una coppia. Il personale è percepito quando voi siete personali o egoisti. Allora potete percepirlo. Si tratta di un oggetto. Domanda. Ma c'è il rovesciamento del personale nell'impersonale? Risposta. No, signore, non si tratta di questo. Il personale è un oggetto. La sua natura e la sua struttura sono mentali. Quando affrontate un problema dal punto di vista dell'ego, si ha un confronto parziale e frammentario. Solo quando voi vi trovate sul fondale, sullo schermo, si può veramente parlare di un punto di vista sintetico e globale. Domanda. È proprio questo aspetto sintetico del personale e dell'impersonale che non arrivo a vedere per nulla. Risposta. In realtà questa sintesi è un superamento. Il personale è trasceso dalla coscienza globale unitiva. Domanda. Tutti gli oggetti sono presenti per rivelare la nostra natura. Gli oggetti gradevoli ci procurano un'estensione e quindi dobbiamo accoglierli. Ma come possono servire a farci aprire gli oggetti sgradevoli, come la sofferenza fisica o morale, invece di portarci alla degradazione e talora fino al suicidio? Risposta. In verità ogni oggetto punta verso colui che lo percepisce, ma la sua natura giudicata sgradevole o gradevole è totalmente soggettiva e relativa. Domanda. Anche la sofferenza fisica o morale? Risposta. Non andiamo così lontano. Ciò che fa brillare di gioia un ragazzo di 14 anni lascia del tutto indifferente un uomo di 60 anni. Perciò quello che chiamiamo piacere o dispiacere dipende molto spesso dall'età e dal livello in cui ci mettiamo. Comunque il piacere o il dispiacere si provano sempre quando l'individuo affronta le cose con quel frammento di lui stesso che è l'ego. Questo si confronta sempre con le cose e con l'atteggiamento mi piace, non mi piace. Invece se siete sul piano di fondo impersonale questo problema non si presenta. Si vede la situazione, la struttura della cosa e si agisce di conseguenza. Non si deve mai considerare la sofferenza come qualcosa che ci punisce o che proviene da alcunché di esterno che ci vuole punire, distruggerci o lederci in qualche modo. Dovremmo invece ringraziare la sofferenza in verità, perché essa ci permette di comprendere che noi non siamo quello che percepiamo, ma l'ultimo soggetto. Domanda. Sì, ma di notte siamo più o meno vinti dal sonno o da una certa letargia. Allora la lucidità si indebolisce e la provocazione della sofferenza diventa acuta, al punto di renderci impotenti a sostenerla. Ciò che è tragico. Come fare quando si è in uno stato di lucidità ridotta per restare sempre se stessi? Risposta. Quando appare ciò che lei chiama sofferenza, occorre anzitutto prenderne le distanze e comprendere, non solo intellettualmente, ma in modo vitale e concreto che voi non siete la sofferenza. Se dite io non sono la sofferenza, ma colui che la percepisce, e prendete come oggetto del vostro pensiero il soggetto stesso, il pensiero cessa di essere il pensiero di qualcosa, pensiero intenzionale, e torna ad essere soggetto puro, non influenzato. Gli oggetti senza rilievo si addormentano nella oggettività. La sofferenza e le cose che rompono la monotonia della vita diventano come orologi che suonano le ore. Sono una specie di richiamo per dirigervi verso ciò che ho detto or ora. Domanda. Ciò vale anche per le grandi gioie e le grandi felicità? Risposta. Esattamente lo stesso. Non lasciatevi ingannare. Abbiamo parlato poco fa del positivo e del negativo. Ogni rapporto positivo-negativo, dolore-gioia, ci tuffa nella dualità. Ma deve essere compreso che l'aspetto positivo della gioia è comunque molto più vicino all'esperienza che non il suo contrario, perché si può ben dire che l'esperienza è in un certo senso l'utile positività. Domanda. Per l'attore, l'identificazione e l'alienazione sono cose di tutti i giorni. Se progredisce sulla via spirituale, non viene a perdere proprio quegli elementi passionali che per lui sono sostanza, nutrimento e necessità assoluta. Credo che il problema si ponga anche per il romanziere e il poeta. In qual misura può essere salvato, in quanto direi che c'è comunque un grosso rischio a recitare un'opera che non è propria? Non rischia di perdere se stesso, di alienarsi definitivamente? Risposta. Per esaminare il suo problema, prendiamo l'esempio di un attore indiano. Il regista ha in mano un'opera che è stata scritta per cinque, sei o sette personaggi. Con gli attori che dirigerà, fa una prima lettura del lavoro e durante questa si definisce di massima la distribuzione delle parti. Poi ogni attore legge la sua parte, quindi si presenta sulla scena. Per vedere se l'attore ha assimilato perfettamente la parte, il regista lo obbliga a recitarla senza usare le parole del copione. L'attore deve allora recitare e improvvisare con tutta la sua fantasia. Questa improvvisazione lo obbligherà ad utilizzare gli elementi della propria psicologia. Per portarlo ad una grande plasticità e per fargli allo stesso tempo sentire il sapore del suo ruolo, il regista gli chiede di immaginare delle circostanze di grande introversione, per esempio un momento di grande terrore. Poi subito dopo gli dice, adesso supponi di essere nello stato opposto, come reagiresti? In questo modo gli fa acquisire flessibilità per mezzo di una specie di ginnastica che non è solo verbale, ma anche immaginativa. Per un regista indiano, il vostro io, costituito dai vostri aggregati psicologici, non ha maggior valore né autenticità di qualunque altro aggregato costruito su uno schema qualsiasi. Se vi dicessi, immaginatevi di essere a Cannes, seduto in poltrona. Vedete un mare ed un cielo perfettamente puri. Attorno a voi giocano dei bambini allegri e la vostra amata arriverà fra 20 minuti. Ciò vi metterebbe di colpo nello stato d'animo costituito da tutti i codesti elementi. Ma questo stato costruito dall'immaginazione non è né più né meno reale di quelli che voi chiamate io. Quindi, tornando alla sua domanda, se vi staccate da voi stessi, ossia dal vostro io, composto da codesti aggregati, siete anche staccati da tutto ciò di cui sognate. La materia di lavoro dell'attore è ciò che è immaginato, dunque egli deve darsi ad una ginnastica psicologica che richiede un'estrema flessibilità. È una ginnastica che non deve essere esercitata solo sugli elementi nettamente contrastanti, ma, ciò che è più difficile, sulle sfumature e sulle mezze tinte, su tutto il lato pastello. Anche la parola ha molta importanza. Così la parola luce può per qualcuno evocare la lampada che ha sul comodino, per un altro la luce del giorno e per un terzo la luce della sapienza divina. Tutti gli elementi psicologici o sensoriali di cui ho parlato devono essere lavorati con grande plasticità. Un oggetto non è visto solo con gli occhi, ma è anche toccato. Ricordo che, quando entrava in scena, Jouvet aveva un torace che prendeva subito le dimensioni della scena. Quando appariva la callas, invadeva tutto. Si prendeva anche il respiro del pubblico. Era dovunque. Questa coscienza dello spazio è di primaria importanza, come lo è questo irraggiamento del corpo. Per le parti maggiori intervengono diversi modi di recitare. È ovvio che si debba subito affascinare il pubblico, colpirlo, ma ci sono anche momenti di grande introversione nei quali questo irraggiamento va invece dall'esterno verso l'interno e si diventa allora estremamente piccoli. L'attore non deve solo manipolare la parola, ma deve esercitarsi nel campo dell'immaginazione sensoriale, perché vedere un oggetto è anche assaporarlo, ascoltarlo e sentirlo. Intanto, nonostante tutta questa varietà di elementi diversi che egli esteriorizza, è necessario che egli resti un testimone lucido, non toccato dai ruoli che recita, come spiega Guénon a proposito del simbolismo del teatro. Domanda. Esistono mezzi tecnici per ottenere questo arretramento? Risposta. Questa domanda è già stata fatta ieri. Se siete coscienti della natura dell'oggetto, il distanziamento si produce del tutto naturalmente. Se trovate che un cibo è troppo salato e ne avete davvero coscienza, vuol dire che c'è qualcuno fuori dal sale, altrimenti non potreste sapere che è salato. Ma questo problema della disidentificazione non deve essere confuso con lo sdoppiamento e con tutti i fenomeni di cui si parla negli ambienti dediti alle cose occulte, senza alcun rapporto con la realtà spirituale. Domanda. Come spiega lei la tendenza a trascurare la parte migliore di noi stessi per attaccarsi solo a ciò che è materiale e temporale e non alla pienezza? Risposta. L'origine di questo è l'ignoranza. Non si sa da che parte andare perché non si situa l'esperienza. È indubbio, se li analizziamo, che i nostri desideri si dirigono verso la gioia, la pace e la stabilità. La psicologia occidentale non conosce altro che la coscienza duale, mai la coscienza pura, che è per lei qualcosa di assolutamente inconcepibile. Allora è evidente, cerchiamo continuamente una relazione da soggetto a oggetto. Invece, secondo il Vedanta, parlare di testimone e di cosa osservata è una finzione fabbricata dalla memoria. Quando agite o create, c'è solo uno, perché la coscienza penetra totalmente l'azione o il pensiero, ed è in seguito che vi rendete conto di aver pensato o agito. Durante l'attività c'è solo uno. È quindi importante discernere anzitutto chi percepisce e ciò che si percepisce. Domanda. Come si può arrivare a realizzare quest'ultima realtà? Risposta. Occorre anzitutto avere la convinzione totale che l'esperienza non può inserirsi in un quadro oggettivo. Occorre aver analizzato e compreso appieno questo fatto. Allora cominciate ad orientarvi in un mondo non oggettivo, perché dato che la potete trovare solo là, la vostra vera natura è per voi ignota. È solo progressivamente e a tappe che giungete a disfarvi dell'idea che essa sia realizzabile entro un quadro corporeo o mentale. Domanda. Come si dovrebbe considerare certi stati di depressione che giungono fino all'alienazione, nei quali la coscienza non esiste quasi più? Risposta. Volete dire che siete del tutto affogati nell'oggetto? In tal caso si deve aspettare perché possiamo recuperare la nostra natura soltanto se siamo fuori dalla crisi. Domanda. Sì, ma che pensare di certi malati che non ne sono mai fuori? Risposta. Non sono sempre dentro la crisi. Ci sono dei momenti in cui sono fuori e se lo psicoterapeuta è competente può aiutarli ad integrarsi. La malattia è un segnale d'allarme che ci impedisce di addormentarci e che ci incita a cercare la pienezza. Tornando a quanto dicevate, non ci si deve aspettare qualcosa in stato di crisi. Né lo psicoterapeuta né il medico sono in grado di intervenire. È possibile usare dei palliativi, addormentare il paziente per calmarlo, ma è soltanto dopo la crisi che un intervento diventa efficace. Domanda. Non è che la domanda mi riguardasse personalmente? Risposta. Né l'ho ritenuta personale. Domanda. Mi sono fatto questa domanda quando ho visto e sentito certi malati mentali. Mi sono chiesto com'è la loro vita? Dov'è la loro coscienza? Come possono vivere e come possono progredire? Risposta. Occorre anzitutto accettare ciò che viene senza repulsione né attrazione. Da questa accettazione nasce la comprensione, la quale sola è suscettibile di portarci al distacco. La comprensione è ciò che ci libera. Le medicine o altri mezzi di evasione non potranno liberarci se non artificialmente. Se bariamo il distacco non avviene. Il problema non si risolve e ci invade in qualche altro modo o in altre circostanze. Non serve a nulla fuggirlo. Deve essere affrontato, esaminato freddamente e lucidamente. È il solo modo di comprenderlo profondamente e solo così egli ci lascerà. Altrimenti si tratta di distacchi illusori che creano conflitti supplementari. Solo l'accettazione permette la comprensione che produce la liberazione. Una volta ben compresa la natura dell'oggetto, noi ce ne liberiamo. L'oggetto resta là come simbolo, ma noi ne siamo staccati. Questa è la cosa principale, che l'oggetto non ha realtà, che siamo noi ad attribuirgliene una. È il nostro mentale a creare l'oggetto. Senza mentale non c'è che coscienza. Dunque ciò che noi chiamiamo il mondo, la malattia, la sofferenza, è soltanto una proiezione mentale, non l'altro. Domanda. Non è il desiderio dell'assoluto che ci attira verso l'unità? Non si tratta di realizzarla attraverso l'oggetto? Risposta. Questo desiderio di volerci trovare, di voler essere uno, è inerente alla nostra vera natura. Essa cerca se stessa, ma è per mezzo della discriminazione che lo possiamo capire. Questo qualcosa che cerchiamo è in fondo la nostra ragione di vivere. Tutti i desideri sono delle compensazioni all'infuori dell'ultimo desiderio, il desiderio del sé, e quando questo è per così dire realizzato, ci si trova finalmente in uno stato di non desiderio, che è questa perfetta pienezza in cui si è presenti ad ogni istante, senza anticipazione né ansia. Allora si fa fronte a tutto nell'istante stesso. L'avvenimento si svolge, ma non ci tocca più. Domanda. Vorrei sapere se si può porgere aiuto a chi mostra un'evidente chiusura. Infatti ho potuto osservare che, anche se si ha una visione che pare chiara, è molto difficile quando si tratta di qualcuno caro o altro indicare la via che potrebbe permettergli un lampo o un'illuminazione. Si può ad esempio vedere che qualcuno soffre a causa di un'illusione ed essere incapaci di aiutarlo a liberarsi dai suoi mali. Ci si trova come davanti a un muro, e la cosa è molto dolorosa per entrambi. C'è modo di andare oltre, oppure occorre attendere di essere noi stessi completamente realizzati? Risposta. Non possiamo cambiare la società o il nostro ambiente se non cambiando noi stessi. Via via che cambiamo, trasformiamo il nostro ambiente. Via via che arrivate alla fioritura della vostra natura, o diciamo piuttosto secondo la misura nella quale le vostre energie sono orchestrate in vista dell'ultimo equilibrio, questa trasformazione si manifesta nel gesto, nella voce, nel modo di giudicare o nel modo di comportarsi. Se vivete con qualcuno, il problema non è lo stesso. Spesso siete divenuti definitivamente per lui come un oggetto. Egli sovrappone un certo numero di caratteristiche in funzione delle circostanze nelle quali vi ha visto, e ha così fabbricato un personaggio. Certi attori, creatori di un ruolo, lo modellano come fa uno scultore. Poiché poi, per disgrazia e talora per fortuna, lo recitano tutti i giorni, proiettano quel personaggio sulla loro parte. È un genere di attori che evidentemente non è radioso. L'attore che irradia è quello che confronta e crea ad ogni momento il suo personaggio. Per lui la parte è sempre nuova e viene rimessa in discussione ogni volta. È invece meraviglioso se si vive con qualcuno riuscire a non sovrapporgli un tipo definitivo, ma al contrario approfondirlo costantemente e rimetterlo in questione, ritornando spesso sui propri apprezzamenti. Altrimenti si crea una maschera e non si vede più com'è la persona, ma soltanto l'idea che si ha di lei. Per uscire da questo guaio occorrerà uno sforzo assai coraggioso di lucidità per cogliere le occasioni e le circostanze, e ce ne sono sempre, che produrranno la scossa e risveglio e ci diremo «Perdinci, io vedevo in lui quel personaggio, ma in realtà è tutto un altro». Domanda «È proprio così, ma io pensavo soprattutto ai genitori». Risposta «Sì, l'azione dei genitori è molto importante e ovviamente dipende dalla loro costituzione psicologica. In generale il padre o la madre fissano l'immagine del figlio ad un'età determinata. Così mia madre, che ha 88 anni, mi vede sempre secondo l'immagine che le fornivo quando avevo 14 anni. Mi parla, mi consiglia e si comporta con me come se avessi sempre 14 anni. Per tornare a quello che dicevate, di fatto è molto difficile convivere con chi vi identifica a questo modo con un modello, perché ci si sente immobilizzati in una cornice rigida. Oggi si parla molto di civismo, ma io ritengo che la prima norma del civismo dovrebbe imporci di avvicinare i nostri simili in un modo sempre nuovo. Infatti ogni qualvolta lo avviciniamo sulla base di cliché, gli sovrapponiamo caratteristiche immutabili, lo imprigioniamo e ci trasformiamo in tiranni. Invece è tanto bello trovarci davanti a qualcuno che non ha chiusure, che vi lascia tutte le vostre possibilità e le vostre occasioni, tanto quella di diventare un santo quanto quella di diventare un carnefice. È proprio allora che ci si apre veramente e si dà libero corso alla propria spontaneità. Domanda. Non si è parlato affatto dell'intelligenza. Può darsi che non abbia nulla a che vedere con la realizzazione della verità, ma non è forse utile proprio per arrivarci. Risposta. Che cosa vuol dire esattamente essere intelligente? Un uomo intelligente è un uomo perfettamente vacante, non ingombrato, che affronta le situazioni con questa vacuità, non lasciando in nessun caso intervenire la memoria o il bisogno di sicurezza. Il suo spirito è sempre vigile e si piega alle varie circostanze della vita. Questa, a mio avviso, si può chiamare intelligenza. Domanda. Ho fatto questa domanda per chi si sente dire spesso che l'intelligenza è un ostacolo o si dovrebbe dire l'intellettualità, che è tutta un'altra cosa. Risposta. Sì. Si confonde spesso l'intelligenza con il sapere. In realtà la persona intelligente è una persona completamente vacante. Invece di impiegare le sue energie ad accumulare cognizioni, dirige la sua attenzione verso qualcosa di totalmente ignoto. Essa è aperta verso questo ignoto. Tuttavia, quando si comincia a procedere in questo modo, si può avere all'inizio una specie di vertigine. Non si è troppo sicuri di sé e non si osa ancora abbandonare ciò che si è accumulato, perché interviene una preoccupazione di sicurezza. A poco a poco però ci si accorge che questa sicurezza assoluta, questo dominio perfetto di ogni situazione, non possono essere raggiunti che attraverso la soglia di una vacuità e disponibilità totali che rendono impossibile ogni fissazione o valutazione. Solo l'intuizione della non dualità trasforma il terreno individuale. Ogni altra esperienza apporta una modificazione passeggera e illusoria, capace di attenuare certi stati ma, ripeto, incapace di trasformare veramente. Il mentale non ha alcuna presa sul mentale. Occorre trascenderlo per cambiare realmente. Domanda, andare al di là del mentale intende? Risposta, cioè a dire essere il sé. Parte settima. Klein. Il giorno in cui per mezzo della discriminazione giungiamo alla convinzione che il nostro desiderio profondo è quello del non desiderio, che è gioia, pace e sicurezza. Che il mondo è solamente sensorialità e che gli oggetti non contengono quella sicurezza definitiva a cui aspiriamo, possiamo pensare di trovarci in una situazione suscettibile di diventare il punto di partenza della ricerca. Noi siamo allora rinvitati a noi stessi e raccogliamo, in vista di questa realizzazione, le energie che erano prima dirette verso un mondo oggettivo. Avanziamo allora per tappe successive, allo stesso modo con il quale, avendo sovrapposte un certo numero di qualificazioni ad un individuo, vediamo poco per volta che si trattava soltanto di illusioni. Queste cadono una ad una finché le energie che attivavano tali illusioni tornano al loro stato originale e la nostra vera natura, trascendendole con tutto ciò che è individuale, può essere sperimentata. Poiché procediamo sempre in forma dialogata, può essere interessante delimitare col massimo di precisione ciò che è importante per noi. Beninteso, nel momento in cui ci si pone una domanda o quando la si propone a qualcuno, essa deve essere la risultante di una vita interiore, intima, altrimenti non sarebbe una domanda vera. Se la si formula in un contesto preciso con le parole appropriate, può anche accadere che essa ci offra già la risposta. Se invece si lascia ad altri la possibilità di porre la domanda al nostro posto, occorre capire che la risposta sarà adatta alla persona che l'ha formulata. Non sarà obbligatoriamente adatta a noi, essa diventa in un certo senso una risposta in sbieco che ha bisogno di un certo sforzo per essere percepita. Può anche accadere che la risposta sia data deliberatamente in modo molto obliquo, non essendo destinata a dare immediatamente un risultato soddisfacente che proturrebbe prematuramente una certa sicurezza fittizia. La vera sicurezza può apparire molto più tardi. È essenziale nelle domande e risposte evitare al massimo frasi come ho capito o non ho capito, so o non so, per restare aperti alla comprensione. Ciò che si capisce subito, o che non è realizzato, non deve diventare un'occasione di lotta con se stessi o con altri. Semplicemente, talvolta le cose non possono essere comprese in quel certo modo. La luce di certe nebulose ha bisogno di molte migliaia di anni per arrivare a noi. Allo stesso modo, una risposta deve percorrere corridoi lunghissimi, se posso esprimermi in questo modo, per giungere fino alla nostra comprensione. Domanda. C'è una cosa che credo aver compreso nella vita quotidiana, che l'ego, in tutte le manifestazioni di desiderio o di timore, può finire per diventare nostro amico. Ma questa convinzione viene, nonostante tutto, rimessa in causa molto spesso perché, in fin dei conti, io diffido di questo ego che giudico e condanno. Potrebbe aiutarmi oggi a vedere questo concetto con occhi nuovi? Risposta. In un approccio rispetto a noi stessi occorre essere spettatori del tutto imparziali. Nelle varie circostanze della giornata dobbiamo far fronte alle cose e a noi stessi, registrare le nostre reazioni senza che intervenga nessun elemento di giudizio, di critica, di valutazione o di comparazione, dato che gli avvenimenti o le cose sono assolutamente inediti e non possono mai ripetersi. L'esperienza fatta mesi addietro, le reazioni di qualche anno fa o di ieri l'altro, non possono mai ripetersi. Ci possono essere analogie, mai l'identità. Come potremmo quindi capire qualcosa di attuale e di inedito per mezzo del ieri o dell'altro ieri ed è l'errore che commettiamo il più delle volte. Paragoniamo con quello che era prima, con quello che abbiamo ritenuto in forma etica o estetica e per di più ci giudichiamo. Questo giudizio porta necessariamente alla condanna di se stessi con tutti i complessi che ne nascono. L'atteggiamento di base consiste dunque nell'accettarsi. Da questa accettazione nasce la comprensione. Essa ci libera completamente da quell'eredità giudaico-cristiana che ci spinge a credere che ci sia sempre qualcuno che punisce, distrugge o si vendica. Invece non c'è nessuno che punisce o si vendichi. Ciò che troviamo sulla nostra strada ci mostra la natura delle cose e soprattutto quelle che esse non sono, ossia, in definitiva, ci rivela la realtà. Questa accettazione senza evasione ci conduce ad un certo tetto, ma questo limite non deve in alcun caso diventare una determinazione o fissazione. Ciò che si chiama conoscere un oggetto è un sacco senza fondo. Non si tratta quindi di fabbricare un fondo a questo sacco, cosa che cerchiamo sempre di fare. Quando ci scontriamo con un limite non ci dobbiamo attaccare ad esso, né ci dobbiamo rompere la testa per volere andare oltre. Al contrario, occorre sistematicamente tornare indietro per esaminare di nuovo tutti gli elementi che hanno condotto a questo limite, in modo che proprio loro ci forniscano la possibilità di superarli. Bisogna quindi sempre restare aperti e non dare mai importanza a ciò che potrebbe essere concludente. Con questo modo d'approccio cominciamo non solo a conoscere le nostre possibilità, ma anche ad usarle, a manipolarle e ad esteriorizzarle, perché non si potrà repartito che da ciò che è tangibile e perfettamente conosciuto. Prendiamo per esempio il problema della stima e il desiderio di impressionare recitando un personaggio. Questo aspetto della nostra personalità sparisce. La stima di colui che ci considerava inferiori o superiori a quello che siamo non ci interessa più, perché possediamo la ferma convinzione che il nostro capitale sia autentico e ormai inalienabile. Da questo momento tutto ciò che è dubbio o condanna cessa immediatamente. Finiamo col capire che gli elementi che costituivano la nostra individualità o il nostro ambiente, come i nostri genitori, il nostro paese, i suoi dirigenti, la sua situazione sociale ed economica. In breve, tutto questo condizionamento è stato scelto deliberatamente da noi al momento di questa incarnazione. E non l'abbiamo scelto per punirci, né alcuno l'ha scelto per noi, ma ce lo siamo scelto per costruirci, per orchestrarci, se vi piace dire così. Se dunque affrontiamo la vita in questo modo e comprendiamo che non c'è nessuno che ci punisce, ma che abbiamo scelto noi stessi questi che noi chiamiamo ostacoli al fine di realizzarci. Con questi ostacoli, anche se molto sensibili, non sono più per noi altro che l'orologio che suona le ore in modo più marcato. L'accettazione diventa possibile e non rispingiamo, ne condanniamo più il nostro ambiente, la nostra epoca e il nostro paese. L'unico modo di rispondere alla nostra nascita è di far fronte a questi elementi, se vogliamo trovare noi stessi. Per divenire atleti occorre lavorare i propri muscoli. La vita di colui cui non accade nulla è una ben povera vita, invece ciò che costituisce la ricchezza di un'esistenza è la somma degli ostacoli e degli antagonismi incontrati, i quali, anche se ci paiono insormontabili, sono fatti proprio alla nostra misura. Di conseguenza, tutto ciò che troviamo sulla nostra strada è assolutamente commisurato alle nostre possibilità. Non resta che accettarlo e farvi fronte, vedendo che quelle difficoltà ci aiuteranno a trovare la nostra vera natura, poiché gli avvenimenti e le cose non sono altro che i simboli che ce la rivelano. Domanda. Penso al tragico assassinio di questa settimana, a quel ragazzo di 15 anni che ha trucidato un bimbo di 7. In quello che lei ci ha spiegato trovo l'enigma degli incidenti che capitano a delle persone molto giovani o a dei bambini. Si può pensare che noi adulti possiamo capire e accettare, ma questi bambini che trovano la morte non possono avere questa possibilità perché non sono ancora maturi. Se la morte sopravviene brutalmente, essi non possono raccogliere il frutto della vita che si sono scelti e non hanno neppure la possibilità di sapere che si tratta della loro scelta. Risposta. Un bambino di 7-8 anni è cosciente di un certo numero di cose che accetta secondo il suo livello. Può darsi che quel bimbo avesse bisogno di questo brevissimo passaggio per essere. Evidentemente è abominevole che un bimbo si trovi nella situazione di essere assassinato da un adolescente. Ma dal punto di vista del bambino, e indipendentemente da tutto quello che si aggiunge, egli aveva bisogno di quel minimo lasso di tempo. Domanda. Attraverso la morale scolastica e religiosa la comunità stessa ha fabbricato il vecchio uomo, l'ha maturato, l'ha scolpito e ne ha fatto una realtà, mentre non è che un'entità proiettata dalla nostra ignoranza. Non tocca quindi a noi adulti prenderne coscienza per non rinforzare nei giovani un senso di colpa di cui noi saremo responsabili? Risposta. Certo, siamo tutti responsabili, perché non siamo entità staccate, bensì integrate nel tutto. In un certo modo siamo altrettanto corresponsabili della guerra del Vietnam quanto di questo assassino. Domanda. Però io penso che una morale autentica avrebbe dovuto presentare il vecchio uomo, cioè l'ego, come un amico, mentre invece anche a gradi diversi ce lo siamo rappresentato come un nemico. Da questo errore vengono forse le rimozioni, la nevrosi e il senso di colpa che ci mantengono nella densità e nella pesantezza esistenziale. Risposta. Credo che dal punto di vista sociale la morale ha probabilmente la sua ragione di essere. Ci sono degli esseri che sono ancora incapaci di trovare col loro discernimento un'attitudine che sia conforme alla verità. È d'altronde la giustificazione che ne danno le religioni dualistiche. Esse pensano infatti che stiamo vivendo in un'epoca nella quale l'uomo non può dirigersi da solo ed alcune giungono ad affermare che da soli non potremo mai darci delle direttive. Per essere queste che sono direttive assolute e sono oggetto di una rivelazione, devono essere applicate rigorosamente se si vuole arrivare alla libertà. Però così facendo saremo solo delle marionette. Un uomo libero è un uomo che trova il condizionamento del suo atto nella sua natura profonda. Domanda. Quando lei, signore, dice che abbiamo scelto la nostra vita, lo dice in funzione della reincarnazione? Risposta. Se solleviamo questo problema credo che ci allontaniamo, perché ciò che ci interessa è l'attualità. Domanda. Sì, ma quello che vorrei cercare di capire è la scelta che lei dice che facciamo alla nostra nascita nel decidere di essere quello che siamo. Gradirei che mi spiegasse che cosa intende dire con questo, perché questa eventualità mi urta. Ecco perché ho fatto la domanda, per sapere se si collocava in una serie di reincarnazioni. Risposta. Per integrarci noi procediamo a tappe e finché non lo siamo ripetiamo le cose in un certo modo, fino a quando ci arriviamo. Che poi avvenga codesta ripetizione, che ripetizione non è, che siano state le nostre vite anteriori, è un altro problema e non è quello che ci interessa qui. La reincarnazione è una dottrina tradizionale la cui prova va al di là dell'esperienza comune. Questo livello può servire solo da stampella. Il fatto che ho dichiarato ora, che ci siamo scelti i genitori e l'ambiente, implica una verità che diventerà realtà vivente solo se accetteremo ogni situazione data con tutte le sue conseguenze, senza fughe né rivolte. Solo con questa adesione totale si farà la luce e apparirà la nostra vera natura intemporale. Allora comprenderemo che siamo anteriori a tutto il nostro passato, perché siamo eterni. Domanda. È bene avere un atteggiamento neutro per non essere presi da desideri o avversioni. Risposta. Sì, perché il fatto di essere spettatori e testimoni di questo svolgimento ci colloca spontaneamente sullo sfondo dell'impersonale. Anche se poi ricadete negli antichi modelli di difesa, state semplicemente a guardarli, non l'altro. Non disperatevi per essere ricaduti nei vecchi modi di agire e per aver ritrovato vecchi schemi e vecchi stati psichici. Non c'è che da stare a vedere. Dal momento che vedete la cosa senza volervene disfare in modo violento, siete sul punto di uscirne. Domanda. Sì, del resto è anche lo scopo della psicanalisi. Vedendo l'origine di un complesso se ne è liberati. Risposta. Sì, in linea di principio. Domanda. Teoricamente? Risposta. Dico sì in linea di principio, ma non teoricamente. Se per principio si intende la comprensione iniziale che provocherà il processo di liberazione, ne usciremo. Ma teoricamente no, perché il trattamento consiste in un rapporto esistenziale da oggetto a oggetto. Se il trattamento e il confronto si fanno da un frammento ad un altro, ammetto che possiamo forse attenuare certi traumi, ma certamente non quello che si dice liberarsi. No. Non vi potete liberare da un trauma se non raggiungete lo sfondo che non è un frammento, ma un tutto. Domanda. Non è questo che fa proprio la psicanalisi? Risposta. Dipende dall'analista. A mio avviso occorre anzitutto essere uno psicoterapeuta. Che si proceda per analisi o per apparente sintesi è una specializzazione. È il metodo che segue ogni professionista. Ma l'essenziale è che costui sia un terapeuta. E con questo termine voglio dire che egli deve incarnare totalmente un equilibrio ultimo. In verità egli guarisce il suo paziente meno attraverso il suo metodo che attraverso la sua presenza e l'equilibrio che il malato avverte in lui. Siccome poi da parte del paziente c'è sempre un certo mimetismo rispetto a colui che lo tratta, egli finisce col partecipare dell'equilibrio del terapeuta. E questa è la cosa veramente importante. Il metodo fa la sua parte, d'accordo. Ma alla fine non si tratta che della personalità o dell'impersonalità del professionista. Domanda. Può essere d'aiuto l'uso delle parole nell'autoanalisi? Risposta. Bisogna vedere che cos'è che chiamate analisi. Io non sono completamente d'accordo con quella che si chiama analisi. Domanda. La ricerca, il tentativo di vedersi. Risposta. Di vedersi. Sì, ecco la parola. Bisogna vedersi. Quando siete felici o rabbiosi o invasi da una certa colorazione psichica, lo vedete, lo sentite e lo capite. Vi partecipano tutti i vostri sensi e da questa colorazione nascono perfino sapori e odori. È interessante constatarlo, ma se si torna a provare codesto stato, non si deve soprattutto fare lo sforzo per uscirne. Questo sarebbe il più grosso errore che potreste commettere. La sola cosa che potreste fare è sentire profondamente codesto gusto, affinché vi abbandoni. Si opera allora un lasciare la presa, o meglio diciamo che non siamo più complici e che non diamo più la nostra adesione a quell'errore. Si producono due cose insieme. L'oggetto ci lascia e noi lo lasciamo. Invece dal momento che vogliamo uscirne con vari mezzi, o cercando di fuggire o giustificandoci, cosa che facciamo quasi sempre, oppure invece condannandoci, decretando che siamo mediocri, che siamo un campione inferiore dell'umanità, allora non c'è uscita possibile. Tutte queste tendenze si situano in modo del tutto differente il giorno in cui vedete che ciò che chiamate uscire da una situazione in realtà è solo comprenderla. E se non volete far fronte adesso, non ne uscirete che a 60 anni o in un altro momento del vostro ciclo. Comunque lo dovrete fare presto o tardi, ed allora è meglio che lo facciate adesso. Domanda. Si è parlato della parola. Se torniamo allo stato d'odio che lei ha citato, al quale lei ha detto che partecipano tutti i nostri sensi, può darsi che vedere mentalmente la parola odio ci aiuti? E sarebbe preferibile alla sola constatazione? Può essere che dirsi io odio sia solo accessorio o può avere importanza? Risposta. Evidentemente la parola non ha solo un carattere percettivo, se si può dire così, perché è fatta di vocali e di consonanti, ma è associata a qualcos'altro e il modo col quale la si pronuncia tradisce già in modo preciso il suo contenuto, ossia il concetto rappresentato. Una vera parola, come d'altronde ogni altro simbolo, è l'espressione di un sentimento o di uno stato d'animo. L'azzurro o il rosso che si usavano nel medioevo, così come l'accordo di quinta o di terza, non sono stati scelti ad arbitrio, ma sono stati provati e riprovati finché si vide che esprimevano quello per cui erano stati creati. L'azzurro è stato lavorato finché la sua vibrazione corrispose esattamente allo stato impersonale del medioevo. Il rosso poi doveva rappresentare il timore di Dio è l'ingiunzione «tu devi». Si è scoperto che la quinta corrisponde al blu e la terza al rosso. Non fu dunque una scelta arbitraria, bensì la ricerca assidua e precisa dell'artista, il quale trovò il tono che corrisponde ad uno stato d'animo. Lo stesso si dica della parola. Esistono parole che sono ancora parole. Non parlo di quelle che sono passate attraverso la mondanità e che hanno perso ogni corrispondenza, ma di quelle che sono ancora straordinariamente cariche, magiche se volete. E poi c'è anche il modo di pronunciarle. Questo modo di pronunciare la parola con la visualizzazione e con lo stato d'animo appropriato è quello dell'attore che lavora la sua parte. È ben vero che la parola in sé ha già il suo potere, ma assume tutto il suo valore quando si riesce a ritrovare lo stato d'animo in cui è stata creata. Tornando alla vostra domanda, dato che per natura la parola è associata a tutto un insieme di immagini e di sentimenti, la parola odio si collega necessariamente ad una serie di immagini. Possiamo tuttavia sperimentare l'odio allo stato puro, eliminando le immagini, perché esso è sempre prodotto da oggetti e possiamo isolare il sentimento di ciò che lo provoca. Così l'esperienza del sonno profondo e quella dell'assoluto sono lo sblocco dello stesso processo d'eliminazione. Il sognatore cessa di sognare e passa allo stato di sonno profondo. Pensatore cessa di pensare e realizza il sé. Un'esperienza psicologica corrente può così condurci a conoscere l'ultima verità. Ogni sentimento provato nella sua purezza, liberato cioè dal suo corteggio di immagini o di concetti, è una specie di simbolo dell'unità. Domanda. Penso che il fatto di nominare rinforza ciò da cui ci si vorrebbe liberare. Nominando l'ira o l'odio li si vitalizza, si fornisce loro energia. Spesso è questa un'azione nefasta. Con delle parole sattiviche, di amore e di bellezza, questo inconveniente non esiste. Ma credo che ci dovremmo vietare di nominare tutto ciò che è negativo. Risposta. È esatto, ma gli uomini devono essere uomini e le donne donne. Vale a dire che non si deve cercare di evitare le cose forti, abituandosi a leziosi agini che portano alla paura. Domanda. In fin dei conti ci sono esseri eccezionali che si attaccano ad un desiderio che consente loro di realizzare la felicità suprema. In questo caso non si tratta più di un desiderio ordinario? Mi pare che costoro entrino piuttosto in uno stato di non desiderio, dato che cercano di realizzarsi. Risposta. Voi dite che non è più un desiderio ordinario, ma in verità esiste solo un desiderio, quello di ritrovare la vera natura. Si potrebbe dire che questa vera natura ha il desiderio di ritrovarsi. Quando però questo desiderio è misconosciuto, veniamo a creare una quantità di altri desideri che sono solo compensazioni. Quando è stato realizzato il fondale, che rappresenta pace, gioia, sicurezza e il supremo conforto è diventato realtà, non voglio dire che gli oggetti del mondo perdano ogni valore, no, ma che si spogliano del valore illusorio che avevamo loro attribuito. Come si era detto in principio, il dinamismo della ricerca si libera quando abbiamo afferrato perfettamente che siamo alla ricerca di uno stato di non desiderio, il solo che porti la soddisfazione definitiva. Domanda. Non sembra una contraddizione, anche se in realtà non lo è, che in questo stato di desiderio noi si ricerchi uno stato di non desiderio? Risposta. No, non è una contraddizione. Domanda. L'unico desiderio dovrebbe essere di accontentarsi di essere in opposizione alla folla di desideri che ci fanno correre dietro l'avere e quindi ci disperdono. Risposta. È così, ma per ignoranza noi cerchiamo quella pienezza nel possesso di una casa, di un'automobile o di qualche altro oggetto. Quando si vive superficialmente e si vede un ottantenne sul suo letto di morte, si dice che ha vissuto bene. Se si va un po' più a fondo, è facile constatare che i nostri innumerevoli scacchi non distruggono la speranza di conquistare un giorno ciò che colmerà tutte le nostre aspirazioni. Una volta che l'oggetto bramato è acquistato, ci sono in effetti alcuni istanti di pienezza e di soddisfazione, ma ben presto, esaurito questo sentimento di conforto, ci troviamo ad inseguire un altro oggetto. A questo punto, un uomo che sia serio deve porsi la domanda seguente. Che cosa cerco in fondo negli oggetti? Cerco forse l'oggetto in sé o il veicolo che mi dovrebbe portare ad uno stato che potrebbe forse essere la mia vera natura? Considerate la quantità d'energia che si impiegava nel voler acquistare qualcosa. Se invece riconoscete che quello che si cerca non è nell'oggetto, ma che noi sovrapponiamo ad esso qualità che non possiede, allora vi dirò, perché andare verso l'oggetto e non mirare invece alla nostra vera natura? Domanda. Ma già, perché gli uomini cercano fuori di loro quello che hanno in sé? Risposta. Per ignoranza. E per me l'ignoranza significa uno spirito che non interroga. Per il fatto che la nostra individualità è ancora avvolta nei nostri cinque sensi, gli oggetti per noi hanno troppe attrattive, e ciò ci fa perdere di vista quello che realmente siamo. Ora, la nostra epoca, in modo speciale, cerca di rendere tanto interessante e saporito l'oggetto che lo trasforma in una vera colla forte, impossibile da sciogliere. Questa si trasforma in cemento e si finisce con il trovare un'enorme difficoltà nello staccarcene e comprendere che l'oggetto non fa altro che puntare verso di noi per rivelarci a noi stessi? Domanda. Nelle conversazioni precedenti sulla ricerca, lei ha parlato dell'esperienza dell'istante. Potrebbe precisare questo punto? Risposta. Quando un oggetto appare nella coscienza, non ha alcuna realtà nel passato e non ne ha nel futuro. Solo ciò che è nell'istante presente ha valore realtà. È unicamente in ogni istante che possiamo trovare in noi questa risonanza. Voler ritornare nel passato o collocarci in un ipotetico futuro non porta a nessuna soluzione. Tutto risiede nell'istante presente. Allora lo svolgimento degli oggetti dello stato di veglia o di sogno si effettua su uno schermo che non viene influenzato da tali oggetti, che non è sottomesso ad alcun passato, presente o futuro. Ciò che occorre cercare è questo schermo estraneo al triplice aspetto del tempo. Per giungere ad esso abbiamo bisogno dell'istante. In verità, ciò che si chiama istante presente non esiste, perché è già passato. Noi non possiamo mai afferrare un presente, ma soltanto essere presenti a noi stessi, essere l'eterna presenza. Questa discriminazione vi libera da tutti i condizionamenti. È ciò che si può chiamare la meditazione. Ma è una meditazione continua che crea dei richiami, non una meditazione organizzata in modo aritmetico dalle sette alle otto. Così come la pigrizia genera pigrizia, lo stato di vigilanza genera dei richiami di vigilanza, crea la disposizione a questa vigilanza. Un uomo che ha un approccio sano rispetto alle cose, ha frequenti momenti di disponibilità. È la ripetizione non organizzata di questa disponibilità che porta la distensione e la capacità di far fronte ai diversi avvenimenti. Cosicché, l'intraprendere sistematicamente le meditazioni e ritenerle una specie di dovere non è che una violenza in più sopra se stessi. Dopo questa riunione, dato che eravamo tutti attenti alla ricerca di quest'ultimo soggetto, vedrete maturare nel vostro spirito, attraverso la strada, domani o dopodomani, un richiamo furtivo. L'importante è lasciarvi invitare da codesto appello. Quando si vive in modo intimo con se stessi, si presentano degli inviti ai quali dobbiamo rispondere. Dobbiamo lasciarci prendere, cominciare a conversare, familiarizzarci con queste sollecitazioni che diventeranno sempre più frequenti e ravvicinate, finché ci troveremo in una continua meditazione. Ecco qual è l'approccio sano, organico, non violento dalla vita. Sono invece sconsigliabili tutti i tipi di approccio che comportano disciplina, violenza o distacco forzato, siano essi fisici, alimentari o psichici. Parte ottava. Klein. Le nostre riunioni si svolgono in forma di dialogo perché hanno un carattere più pedagogico o persino terapeutico che non documentario. Come sapete, la cosa più importante in questo tipo di incontri è il valore e la qualità dell'ascolto. Per qualità di ascolto intendo ascoltare ed insieme ascoltare se stessi. Occorre resistere alla solita tentazione di trarre conclusioni immediate o di confrontare ciò che è stato enunciato con ciò che è già stato sentito e letto. La cosa migliore sarebbe seguire questo genere di esposizione come se fosse un pezzo di musica, una successione di note in armonia che non si sono mai udite prima, in uno stato ad un tempo passivo, ricettivo e attivo. Queste riunioni ci offrono la possibilità di afferrare le nostre reazioni e di vedere fino a che punto la fuga, l'anticipazione, la pigrizia o la comodità ci impediscano di ricevere e di ascoltare davvero. Indipendentemente da queste reazioni, è interessante vedere quanto siamo impazienti di giungere ad uno stato determinato e fino a qual punto non sappiamo sopportare la meravigliosa incertezza dell'istante. La coscienza di cui parliamo stasera è la conoscenza della nostra vera natura. Ogni altra conoscenza o per meglio dire conoscenza apparente di un mondo oggettivo è da questo punto di vista una compensazione. Conoscere vuol dire essere, questa è la conoscenza per eccellenza. Quando comprendiamo che il corpo, la sensazione, le emozioni e il pensiero sono oggetti della coscienza e che non hanno né indipendenza né realtà perché sono percepiti, o in altri termini più profondi, che essi esistono solo per rivelare il supremo oggetto, il supremo percipiente. Gli oggetti ci abbandonano. Possiamo allora prendere coscienza del sé per alcuni istanti, evidentemente dal punto di vista fenomenico, perché il sé è al di fuori del tempo. Questo stato di vacuità non è il vuoto. Questo stato senza oggetti è un silenzio carico di pienezza. Domanda. Vorrei rimettere in questione i preliminari stessi del dialogo. Lei ha detto che la nostra conversazione sarà pedagogica e terapeutica e che non si tratta di semplice informazione. Vorrei allora sapere se tutti noi, ed io stesso, siamo abbastanza al corrente della nostra malattia. Se siamo abbastanza in stato di domanda per offrire al terapeuta l'opportunità di curarci, non saremo piuttosto ancora in uno stato in cui informarci per sapere se realmente siamo malati e di che male. Mi chiedo se non sia troppo presto pregarla di darci delle generalità sulla spiritualità e se non sarebbe meglio integrarla su un problema particolare che ci tormenta. risposta. Voi sapete di avere un corpo. Come per mezzo di quale meccanismo lo sapete? Grazie ai cinque sensi. Sono i sensi a darci la nozione dell'esistenza del corpo e i sensi non esistono senza di lui. Potete osservarlo nelle varie circostanze della vita e nei suoi vari rapporti con il mondo. Il corpo ha registrato tutta una gamma di resistenze e di repulsioni. Senza voler determinare ciò che si trova nel quadro mentale, sapete bene che potete svegliarvi al mattino in varie maniere, trovarvi in diversi stati psichici. In questo psichismo avete già scoperto una certa tavolozza e avete anche scoperto la direzione del vostro pensiero. È un modo di procedere che vi è proprio. Attraverso questa verità di sensazioni e di emozioni, la quale appare, sparisce e prende molteplici modulazioni, viene spontanea la domanda «Questo coacervo di aggregati sensoriali e psichici è quello che io chiamo io?» Questa domanda deve sorgere. Certo, essa è già sorta in voi a più riprese. Ma voi rispondete a questa domanda? Qual è la vostra reazione dopo questa constatazione? Domanda. Per essere sincero, avevo in mente una domanda e non ho ascoltato bene la sua risposta. Avevo dato alla mia domanda un orientamento che è rimasto presente al mio spirito. Mi pare che ero rimasta ad uno stadio elementare e la mia domanda si formulava così. In questo momento non mi dovrei informare nel modo più banale. Non è troppo presto per andare più lontano. Forse non ho ancora un punto abbastanza dolente perché mi si dica «Ecco, adesso puoi andare a farti curare quel punto. Ho davvero paura. La mia sofferenza è abbastanza grande da obbligarmi ad andare dal medico. Mi chiedo se in questo momento mi meriti veramente la sua attenzione». Risposta. Non c'è bisogno di avere delle sofferenze precise per porsi delle domande, in particolare per chiedersi «Chi sono io?» Domanda. Sì, certo, la domanda «Chi sono io?» È generale, globale, ma è davvero sufficiente? Nonostante tutto essa non ha un'intensità straordinaria. Ha evidentemente una presenza sorgnona. Ogni tanto me la trovo dietro l'angolo, ma non è che mi faccia torcere e le viscere. Questa domanda non ha un'acutezza terribile, salvo in casi molto particolari. La tela di fondo è sempre molto annebbiata. Allora può darsi che non sia ancora venuto il tempo per chiedermi «Chi sono io?» Risposta. Lei non deve informarsi, perché quello che chiama risposta deve seguire un certo cammino prima di diventare veramente una risposta in lei. Dopo aver constatato molteplici fluttuazioni sensoriali e psichiche, che non meritano di essere chiamate buone o cattive, la domanda «Questo sono io?» si presenta naturalmente. Domanda. Posso ritenere che «Codesto chi sono io?» sia una vera domanda che io posso farle adesso? È che «Codesto chi sono io?» ha una tale acuità che vorrei rompere tutto per sapere chi sono io. È forse per mezzo di questa che avrei davvero...» Risposta. «La risposta?» Domanda. «Un lampo di comprensione?» Risposta. «Certo, assolutamente». Domanda. Con questa domanda. Non potrebbe essere con una domanda più sciocca, come ad esempio la mia paura delle donne. Una domanda in apparenza a fianco della grande domanda, benché accessoria mi potrebbe permettere una presa di coscienza più diretta, perché è la mia domanda e non il chi sono di tutti. Risposta. «Si faccia la domanda perché ho paura e chi è che ha paura delle donne?» È molto interessante. Domanda. «Noti che non dico che sia davvero la mia domanda». Risposta. È ben così che io intendo. Come dicevo poc'anzi, quando ponete una domanda dovete evocare in voi la possibilità di una vacuità assoluta. Ciò che vi permette di seguire quello che è detto senza alcuna speranza di conclusione o di risposta immediata. Dovete capire che in queste conversazioni non andiamo verso la conoscenza di un oggetto. Ci interessa invece la conoscenza del soggetto e per arrivarci ci serviamo del ragionamento. Cominciamo col constatare che ciò che chiamiamo il sé non si trova entro un quadro fluttuante come quello del pensiero, dell'emozione o della percezione. Non sappiamo spiegare dove si trovi la coscienza, ma possiamo constatare quello che essa non può essere. Eliminando quello che il sé non è, si deve non avere più nulla da eliminare. È uno stato di silenzio e una vacuità che sono ancora degli oggetti perché è impossibile trovare la tela di fondo in questa vacuità. Ho già fatto questo esempio. Quando si è venuti qui molte volte e si è notato un quadro appeso al muro, si nota improvvisamente che non c'è più. Due cose ci impediscono di vedere la parete. Insieme la presenza e l'assenza del quadro. Allo stesso modo, a questa vacuità e a questo silenzio, noi sovrapponiamo un'assenza di oggetti, ciò che ci impedisce di giungere all'ultimo equilibrio. Questo vuoto, questo silenzio, devono riassorbirsi nel supremo soggetto e nel silenzio supremo. Allora viviamo in uno stato non duale. Molti fra noi hanno già sperimentato la cessazione delle attività mentali. Evidentemente è un certo riposo, ma non è altro che un vuoto di cose. La realizzazione della tela di fondo si produce il giorno in cui sappiamo realmente che ciò di cui parliamo qui non può prodursi in un quadro mentale, ma è un transfert delle energie verso qualcosa di sconosciuto a condurre al risveglio. Esso ne è la conseguenza, non possiamo provocarlo né sollecitarlo in altro modo. Questa discriminazione può essere paragonata ad una fiamma che divora il legno. Essa elimina l'oggetto come la fiamma consuma il legno ed il pensiero discriminativo cessa così come si spegne il fuoco. Siamo allora spontaneamente stabiliti sulla tela di fondo in questa presenza a noi stessi. Domanda. Non è vero forse che un complesso è un captatore di energie che ne blocca una certa quantità e crea tutto un meccanismo di difesa che costruisce delle barricate? Non può essere necessaria un'analisi per liberare queste energie che tengono chiuso l'individuo e gli impediscono di aprirsi all'approccio che lei descrive? Risposta. L'istruttore mira in primo luogo allo sfondo, perché egli stesso è stabilito nell'unità, ma si comporta in modo pedagogico, considera le opportunità, procede ad un'indagine fisica e psicologica e individua i traumi dai quali deve per forza liberare il suo discepolo. Gli fa prendere coscienza di certi nodi della sua psiche e può allora intervenire sul piano fisico per liberare l'energia, il che richiede un lavoro corporale sul soggetto per distenderlo, perché quando si ha una certa esperienza terapeutica si sa che i nodi si fissano più nel fisico che nel psichico. I nodi sono profondi nel corpo, si cominciano dunque a liberare le energie del corpo perché è utile far prendere coscienza a qualcuno dei nodi della sua psiche se si trascurano quelli fisiologici. Però tutto questo lavoro non è un'analisi. L'istruttore conduce il discepolo a una presa di coscienza, li insegna a considerare il corpo come un oggetto da interrogare e lo aiuta a comprendere che questo corpo è solo una nozione che egli ha formulato in un certo momento della sua vita. Con questo voglio dire che poi essa è divenuta frequente, poi ancora stagnante e questa stagnazione ha generato l'opinione è il mio corpo. Lo stesso avviene per la psiche. Questa è un'accumulazione di avvenimenti, di immagini e di cose che non hanno maggiore realtà o irrealità di quanto avrebbe la vostra frase io sono Napoleone. Lo si può dunque costantemente rimettere in discussione. Come potete cambiare la nozione che avete del vostro corpo, potete cambiare quella che avete della vostra psiche. Tuttavia tengo a farvi notare che se abbordiamo queste cose è solo un passant. Non si deve mai dimenticare il fondale perché corpo e mente non ne sono che un prolungamento. Se lo realizzate perfettamente viene poi come una grazia che non vi identificate più con colui che agisce, soffre o gode. Al contrario, vi mettete sempre più dietro la maschera come un attore. Allora non alimentate più gli schemi abituali e ciò rende possibile la chiarificazione di certe confusioni. Bisogna però non dimenticare mai colui che percepisce e che è fuori dalle facoltà mentali, perché come potrebbe percepire se fosse della stessa natura di ciò che è percepito. Più esattamente egli è al contempo ciò che è percepito e ciò che è al di fuori di ciò che è percepito. Tutti questi metodi di presa di coscienza, quando sono intelligenti, hanno un certo interesse, ma restano sempre, nonostante tutto in un quadro psicologico e voi girate in tondo. Domanda. Non pensa lei che codesta ricerca psicologica ci possa condurre a porre la vera domanda che potrebbe permetterci di collocarci nel nostro centro? Non sarebbe un punto di partenza? Risposta. È possibile, ma se potete raggiungere lo scopo direttamente a che pro impegnarsi in giri inutili? Per me la ricerca psicologica è un giro inutile, perché l'esperienza del sé non si trova nel quadro della psicologia. Quando ci accade di occupare la tela di fondo, non abbiamo più bisogno di questa ricerca. Tutta la psiche si riordina immediatamente in funzione dell'impersonale. Domanda. Ma io sono là con tutto quello che ho, con tutte le mie angosce, le mie rimozioni, la mia cultura, e non posso liberarmene in un momento. Devo fare qualcosa. Non va bene che mi lanci in una ricerca psicologica? Lei mi dice che l'esperienza della realtà è fuori dal mentale, ma io non sono ancora arrivato fin là e devo pur riuscirne. Risposta. Si renda conto che lei si identifica costantemente con colui che agisce, soffre e gode. Deve constatarlo di continuo. Attraverso questa identificazione si crea la miseria, il piccolo io e l'ego. E quando lei osserva le sue facoltà mentali, vede che esse sono la causa dell'estensione di questo ego. Invece, per poco che prenda distanza rispetto al suo corpo, alle sue emozioni, ai suoi conflitti, lei è senza saperlo dietro di loro. Mi capisce? Domanda. No. Risposta. Dal momento in cui lei fa un passo indietro, ossia vede che il suo pensiero, le sue emozioni e le sue percezioni sono degli oggetti di coscienza? Domanda. Ma un arretramento che sia naturale? Risposta. Certo, un arretramento naturale. Che cos'è un arretramento naturale? Se le verso sulla schiena un secchio d'acqua e lei sente che più o meno è calda, è perché lei è fuori da questo fenomeno del calore, altrimenti come potrebbe constatare i diversi gradi della temperatura dell'acqua. Con questa presa di coscienza lei è ritirato. È scollato da se stesso senza saperlo. Lei non c'è più. Può perfino constatare di essere egoista. Ma chi lo constata? Chi è al di fuori dell'ego e della percezione? Domanda. È un altro me stesso? Risposta. Sì, ma non gli daremo neppure un nome. C'è qualcosa d'altro? E che cosa succede tra due percezioni? Tra due pensieri? C'è un nulla? Domanda. Sì, cortissimo. Risposta. Non parliamo della durata. Essa non ha importanza. Un'ora, due ore, tre secondi. Esiste l'intervallo tra due pensieri, no? E tra due percezioni? E quando dallo stato di sogno passate a quello di veglia o di sonno profondo? Sono degli stati nei quali si entra e dai quali si esce. C'è sempre un intervallo tra loro. Domanda. Sì, ma generalmente è molto breve. Risposta. Lasciamo stare la durata. Se però volete veramente osservarlo dal punto di vista della durata, guardate cos'è che ottura l'intervallo. È la paura, l'ansia costante di trovarsi in un istante non oggettivo. Domanda. Non riesco a seguirla. Risposta. Se siete avidi, lo sapete? Voi conoscete dei momenti in cui siete avidi, no? E se siete gelosi? E se avete voglia di qualcosa, lo sapete? Sapete anche se quello che mangiate è salato o dolce? E avete già osservato dei momenti della vostra vita nei quali eravate completamente annegati nella situazione, mentre in altri eravate al di fuori, non identificati. Non avete che da constatarlo. Domanda. Non identificati o forse non adeguati? Risposta. Se cessate di proiettare, di far confronti, di giudicare e di valutare e conservate coscientemente in voi uno stato ricettivo, sarete sempre adeguati, appropriati e conformi a qualsiasi situazione. Domanda. Ma è difficile essere ricettivi? Risposta. Che cosa impedisce di essere ricettivi? Che cosa impedisce di essere presenti? Noi abbiamo accumulato un certo numero di cose con l'idea di servircene in situazioni che riteniamo si debbano ripetere. Per far fronte a tale eventualità e camminare sicuri, conserviamo questo accumulo. Ma se ci rendiamo conto che non si può trovare sicurezza nell'accumulazione, perché le cose che ci capitano sono sempre diverse e comprendiamo che non potremo mai afferrare qualcosa di attuale per mezzo del passato. Diventiamo quindi spontaneamente e naturalmente attenti, altrimenti non possiamo orientarci. Vedete, c'è un certo numero di cose che sono importanti. La prima è comprendere, perché la comprensione vi colloca diversamente. Non potete situarvi arbitrariamente. Soltanto la comprensione profonda opera il cambiamento. Diventate prima di tutto il vostro oggetto di osservazione, astenendovi da ogni giudizio, da ogni critica e da ogni condanna. Constatate semplicemente. Come vi ho detto molte volte, la conoscenza del sé viene solo con l'accettazione. Occorre anzitutto accettarsi, perché da questa accettazione nasce la possibilità stessa di conoscersi, altrimenti è una fuga. Quando arrivate alla conoscenza di voi stessi, alla conoscenza dei vostri ingranaggi e dei vostri schemi, senza rendervene conto vi mettete al di fuori. È tutto ciò che vi si chiede per il momento. Non pretendete altro. Domanda. Al principio della riunione lei ha precisato che l'esperienza del reale non può situarsi in un quadro mentale e che sono gli oggetti a lasciarci e non noi a lasciarli. Realizzare il vuoto mentale in queste condizioni non è ancora una tecnica inefficace. Ci dicono fate il vuoto mentale e noi ci arriviamo, ma non è ancora l'ego a intervenire. Mentre secondo lei tutto dovrebbe lasciarci senza sforzo, potrebbe precisarci questo punto. Risposta. Quando l'abbandono della presa per staccarsi da qualcosa è solo una disciplina, si crea per forza un conflitto. Qualcuno vuole staccarsi e qualcosa non si lascia staccare. Ciò porta in ultima istanza ad uno stato di conflitto. Se esaminiamo a fondo un oggetto, se esso è dunque perfettamente situato, non ci riguarda più. Quando abbiamo realizzato molto profondamente, per esperienza, che cerchiamo costantemente delle situazioni per metterci in evidenza, per essere qualcuno, eccetera, si finisce per chiedersi che cosa cerco in fondo in tutte queste cose. La domanda si pone naturalmente, ma ciò non vuol dire che la risposta venga subito. Non possiamo comunque ignorare che cerchiamo un certo comodo, una certa pace e una certa pienezza. È vero che quando abbiamo ottenuto l'oggetto desiderato, restiamo senza desideri per qualche istante, ma subito dopo corriamo verso un altro oggetto al fine di… Allora ci possiamo domandare, quello che cerco? Ha la natura degli oggetti? Oppure gli oggetti puntano verso uno stato che è in me? La risposta si pone da sola. Se questo stato è veramente in me, perché passare per il tramite degli oggetti e non andare direttamente a quello. Ciò non vuol dire che gli oggetti svaniranno subito. Esse rimangono, perché sono degli strumenti e noi continuiamo a vivere esteriormente come ogni essere ordinario. Siamo però stabiliti in una solitudine ed in un silenzio che non ci lasceranno più. Le attività, le emozioni o il pensiero appaiono e scompaiono. Si sa di essere felici, si sa di essere la gioia, ma non allo stesso modo di quando si dice sono contento. Domanda. Lei usa spesso i verbi capire, conoscere e sapere. Vorrei che mi confermasse di che si tratta. Si è nel regno del pensiero logico oppure lei parla dell'intuizione della realtà? Risposta. Si deve precisare bene quando parliamo di conoscenza o di comprensione che non possiamo comprendere un oggetto. Quando pretendiamo di sapere qualche cosa ci siamo solo compresi noi stessi. Abbiamo cioè sovrapposto delle qualificazioni che ci vengono dai nostri genitori, dai maestri, dalla società, eccetera. Noi foggiamo individualmente questi elementi, li sperimentiamo superficialmente, ben inteso, e li applichiamo all'oggetto. Allora diciamo, ho capito, ma non è esatto. Quello che intendo per comprendere, per conoscere, è essere. Domanda. Allora lei esclude sistematicamente tutto ciò che è logica mentale? Risposta. Sì, del tutto, perché questa felicità non ha un quadro mentale. Domanda. Infine, qual è lo scopo del metodo? Ritrovare se stessi? Risposta. È questo. Domanda. Sfrondando tutto ciò che non è me stesso? Risposta. Annichilendo tutto ciò che non è me stesso? Domanda. E va bene, è possibile, come sostengono certi filosofi o psicologi, che il sé non possa trovarsi che è in rapporto ad un altro se stesso e che la sua natura sia pura intenzionalità? È possibile chiudersi così e, se ci si rinchiude, non è un suicidio? Non si deve essere sempre in relazione con qualcosa per essere se stessi? Risposta. Si potrebbero fare tre distinzioni. In primo luogo, le cose sono se stesse. Secondo approccio, io sono il percipiente delle cose. Terzo, io sono l'essenza delle cose. Noi sappiamo che il corpo, la percezione, l'emozione ed il pensiero sono oggetto della coscienza, che essi non fanno che apparire e scomparire e che rappresentano ciò che generalmente si chiama se stesso. Questo se stesso non è in realtà che un'estensione del sé. Non vorrei impiegare la parola se stesso, preferirei chiamarlo l'altro. Io devo trattarmi come l'altro. Presto o tardi, si fa l'esperienza di Dio ed essa è la risultante di un'eliminazione spontanea di ciò che credo di essere per falsa identificazione, cioè dell'altro. È solo in ciò che vivo in quel momento che sono identico a tutto. Allora posso effettivamente dire che sono con l'altro. Finché non avete vissuto la solitudine, non potete essere l'altro. Potete unicamente vedere in lui certe qualificazioni. Soffre, gioisce, eccetera. Domanda. Cosa vuol dire esattamente solitudine? Nel senso stretto del termine, per me vuole dire null'altro. Risposta. Per solitudine io intendo solitario con l'assenza di tutto ciò che potrebbe essere oggettivo. Domanda. Sì, ma la parola potrebbe designare qualcosa di soggettivo, essere in me e turbare la mia solitudine. Risposta. Per me solitudine si traduce con essere identico a se stesso. È assolutamente non duale. Si è identici a se stessi. Domanda. Ma il fatto stesso di pensarci tali non introduce già una dualità? Risposta. Attenzione. Quando realizzerete profondamente di non essere il corpo, ponetevi la domanda che cos'è il corpo. Poiché c'è la sensazione corpo, il corpo è una cosa percepita. Dunque io non sono il corpo. Così respingete il corpo, respingete l'emozione. Domanda. Devo dire questo a me stesso? Risposta. Penso che non lo si deve dire, non si deve dire, ma occorre che l'oggetto corpo divenga per voi l'esperienza corpo. Quando per esempio sentite il corpo completamente rilassato, potete dire, mi trovo davanti ad un corpo rilassato. Ma voi non siete codesto rilassamento, non siete la stanchezza e neppure codesto complesso muscolare in contraddizione. Poi viene il piano psichico. Le vostre emozioni appaiono e scompaiono, ma voi non siete le emozioni. Lo stesso è per il piano mentale. Voi sapete benissimo di non essere questo pensiero egoico e personale. Domanda. Sì, ma durante questo processo sono già nella solitudine o solo avviato ad essa? Risposta. Nella solitudine ci siete sempre, ma non lo sapete, mentre nella tela di fondo di cui parlo io siete scientemente. L'assenza degli oggetti la potete immaginare, ma non l'assenza di questa solitudine. Questa assenza di tutto ciò che è personale o d'oggettivo è secondo questa via l'esperienza di Dio. Non vedo come la si potrebbe situare altrimenti. Quando essa si compie e si ripete e ci si ritrova infine definitivamente stabiliti nello sfondo, allora ha luogo la vera trasformazione. Il pensiero si orienta in modo del tutto differente, non è più al servizio di un ego, ma è la funzione dell'impersonalità. Lo stesso accade per l'emozione. Domanda. Poiché lei parla di Dio, che cosa intende per esperienza di Dio? Si possono avere diverse esperienze di Dio a seconda del concetto che se ne ha ed il modo di concepirlo? Risposta. Sì, ma concepire Dio, l'espressione non mi piace perché per me non è che è un concetto, io rifiuto ogni concetto. Dovete comprendere che qui si tratta di qualcosa di totalmente diverso, assolutamente non duale. Domanda. Ma in questo caso che cos'è questo Dio di cui devo fare l'esperienza? Risposta. Quando avete eliminato tutto ciò che non è voi, ossia tutto ciò che non è colui che percepisce il corpo, l'emozione e il pensiero, allora il percipiente si fa coscienza senza oggetto. Questo per un occidentale è difficile da capire, perché per lui la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Nella non dualità, essa è senza oggetto. Voi siete allora questa realtà pura. Per facilitarvi l'accesso a questo modo di vedere, potreste forse leggere i sermoni di Mastro Eckhart? Domanda. Durante questa esperienza sono solo o mi aiuta Dio verso il quale sto andando? Risposta. È ancora un'ipotesi. Realizzate questa felicità. È la sola cosa che vi posso augurare. Domanda. La ringrazio. Risposta. Io vorrei sapere da dove vengono i nostri pensieri e le nostre emozioni. Se il nostro psichismo non viene da noi, d'onde viene? Quando dite io non designate altro che un insieme di cose captate. Domanda. Allora è una specie di circuito. Risposta. Se volete, quello che chiamate la vostra personalità. Domanda. Ah, ecco. Risposta. Questa confezione della personalità può andare molto lontano. C'è gente che si è confezionata a mirabili personalità, ma non è di questo che parliamo qui. Domanda. Il sé è lo stesso per tutti. Risposta. Esattamente lo stesso. Questa coscienza senza oggetto di cui si è parlato è assolutamente indivisibile. È la coscienza di tutti. Quando dite, dopo aver scoperto la vostra vera natura, che amate il vostro prossimo, non è che lo amiate a causa delle sue caratteristiche. Ma quello che veramente amate in lui è voi stesso. Ho già precisato nei dialoghi precedenti, e vi prego di perdonarmi se lo ripeto, ma ho osservato questo fatto nel mio primo viaggio in India. Ho incontrato persone abbastanza primitive che mi hanno chiesto, ah, lei viene in India. Che cosa fa? È calzolaio, architetto, medico? Quanti anni ha? È sposato? Ha dei figli? Da che paese viene? E così via. È un dialogo che si può avere con qualunque persona semplice, ma, sapete, è qualcosa che si sente e che colpisce. In fondo ogni uomo ha incontrato se stesso in me. È proprio questa semplicità che permette di incontrare te stesso nell'altro. È il vero amore. Domanda. Lei ha parlato di analisi psicologica. Uso questa parola, ma credo di sapere che cosa sia. Mi potrebbe precisare in che consiste una vera analisi e dirmi in che cosa differiscono le sue concezioni vedantiche. Risposta. Per precisarlo in poche parole dirò che si tratta di discernere ciò che non è la nostra vera natura. Questa non è né d'ordine corporale né d'ordine mentale. Eliminiamo tutto ciò che è di ordine fisico e psichico. Continuando a sottrarre in questo modo, alla fine rimane qualcosa che è assolutamente non oggettivo. Nulla vieta, ben inteso, se si procede pedagogicamente, di passare attraverso la constatazione di un certo numero di nodi fisici o psichici che ci si sforzerà di sciogliere. Occorrerà però, presto o tardi, condurre la persona verso il piano di fondo. Allo stesso modo, perché il bimbo non è ancora capace di concepire certe cose, gli si inculcano concetti e norme che siano alla sua portata, attendendo che si orienti e possa scoprire un giorno da sé i suoi moventi. Le più elevate norme etiche si rivelano sterili, persino pericolose, se vengono proposte ad un essere insufficientemente sviluppato. Domanda. Signore, lei ci ha dato l'approccio terapeutico e i consigli necessari per seguire questa via. Ma ora mi pongo questa domanda. Pensa lei che sia possibile arrivare da soli oppure occorre essere aiutati? Risposta. Questa via non può essere percorsa da soli fino in fondo. Vi sono cose che a rigore si possono imparare senza guida, suonare il piano, cantare, fare calcoli, eccetera. Ma per la realizzazione del sé ci si può solo preparare, anche se virtualmente nulla vi impedisce di vivere spontaneamente l'assoluto. Quando il vostro discernimento e la vostra discriminazione si sono sviluppati a sufficienza, vi hanno resi adatti ad un vero lavoro spirituale con chi è già stabilito nel piano di fondo e quindi l'incontro al luogo. È un po' come il sole che accende il fiammifero, perché il fiammifero è già a fuoco. Parte nona. Klein. La conoscenza della nostra vera natura è una conoscenza senza oggetto. Conoscere significa essere. Quando l'ego svanisce, ci risvegliamo a questa realtà ultima e onnipresente che non dipende da nessuna causa e non ha né complemento né opposto. Questo stato di coscienza è la realizzazione del silenzio, che spesso è confuso con un silenzio che in apparenza dà già una certa pace, ma che nasconde ancora la nozione di un'assenza di oggetti e dunque non è la coscienza pura. Vi ho già precisato più volte che il silenzio che si trova tra due percezioni, tra due pensieri e nello stato di sonno profondo è solitamente misconosciuto, perché lo si immagina come un nulla che, anche se è difficile da concepire, è tuttavia facilmente accettato. Se esaminiamo il desiderio che si dirige verso gli oggetti, vediamo che esso tende sempre ad una pienezza che siamo convinti di ottenere o di mantenere per mezzo di codesti e oggetti. Occorre dunque approfondire ancora il nostro esame per comprendere che, per differenti che siano, e mi riferisco al pensiero, alle percezioni e alle emozioni in continuo cambiamento, gli oggetti non contengono questa pienezza. Questa constatazione provoca un transfert di energie verso qualcosa che siamo costretti a chiamare ignoto, transfert che risulta dalla discriminazione. Noi sappiamo allora che il mondo oggettivo punta verso la nostra vera natura, verso la coscienza, e che esso è irreale nel senso che non è indipendente. L'esistenza del mondo oggettivo dipende da colui che lo percepisce, e non può essere della stessa natura di ciò che è percepito. Noi partecipiamo dunque insieme della natura del percepiente e di quella dell'oggetto percepito. Queste constatazioni mi sembrano assolutamente indispensabili ed è per questo che vi ritorno. Non voglio negare che per noi ci possa essere qualche utilità a fermarci o ad essere frenati prima di giungere a questa formulazione. Occorre peraltro vedere che noi andiamo sempre da una compensazione all'altra e che ci riferiamo molto difficilmente a ciò che è attuale, perché modifichiamo le nostre reazioni a causa di un ideale proiettato o della nozione che abbiamo di tante cose. Quello che è attuale ci sembra pallido e inesistente. Siamo continuamente in stato di difesa, o al contrario portati a valicare lo stato attuale col pretesto che al di là c'è meglio. Tutte codeste fluttuazioni ci mostrano quanto sia ignorante il mentale. Vivekananda diceva il nostro errore è il risultato di un altro errore e va da sé che ciò che è errato non può correggere un errore o che un oggetto non sarà migliorato da un altro oggetto. Possiamo rettificare o riparare certe cose, che può essere utile se porta ad una riflessione più precisa o più profonda, ma ciò vale provvisoriamente finché non si abbia la possibilità di discernere la propria vera natura. Questo lavoro di rettifica rischia di produrre una dilatazione del mentale, ciò che costituisce un ostacolo per la realizzazione del sé, visto che nessun processo mentale può portare alla realizzazione. Per essere testimoni di noi stessi basta constatare quello che avviene in noi, senza che sia necessario prendere altra posizione di arretramento o di distanziamento che quella del percipiente che constata le nostre colorazioni, i nostri movimenti, ecc. Qualunque cosa avvenga sul piano fisico o psichico, dal momento in cui prendiamo coscienza di un certo carattere o di un certo movimento, ne siamo perciò solo perfettamente distinti e pur senza saperlo prendiamo la posizione del testimone. Penso che questa constatazione sia molto importante perché ci differenzia già da chi è costantemente annegato nell'azione e identificato con colui che gioisce o soffre. La domanda che apparirà un giorno sarà chi è l'ultimo conoscitore? Tutta l'energia canalizzata sull'oggetto si dirigerà verso ciò che non è oggettivo e spontaneamente, senza averlo cercato, si farà il silenzio. Questa esperienza riapparirà finché non vi saremo definitivamente stabiliti. Allora vedremo che questa nozione di testimone che avevamo utilizzata per disidentificarci non era che una stampella, perché ciò che chiamavamo oggetti, ossia il corpo, la sensazione, l'emozione ed il pensiero, non sono in vero che un prolungamento è un'estensione della coscienza. Il ciclo dell'essere comporta quattro stadi. Al primo, la coscienza è apparentemente immersa e perduta nelle cose e non se ne distingue. L'uomo è allora la sua ira, la sua paura, la sua intelligenza. Egli è ciò che vede, ciò che sente. Al secondo stadio il soggetto si stacca dall'oggetto e gli appare la coscienza testimone. Dice allora l'uomo, io non sono il mio corpo, non sono la mia ira, ma io sono colui che conosce queste cose. Al terzo stadio il testimone senza oggetto si rivela, dunque non lo si può più chiamare testimone ma coscienza pura unitiva. A questo stadio la coscienza pura unitiva si riconosce come la coscienza divina, creatrice del suo oggetto, ed il reale è unità, sa cidananda. Da allora siamo collocati in una stabilità che non può più essere influenzata dal movimento del mondo, delle cose e degli esseri. Essi continuano ad esistere, ma assumono il loro vero significato. Si fanno le cose perché devono essere fatte e ci sia data a tutte le circostanze che si presentano. Si realizza infine ciò di cui dubita la maggior parte degli psicologi, la trasformazione dell'oggetto psicofisico per effetto del situarsi nella stabilità della tela di fondo. Si comprende allora l'immensa perdita di tempo che rappresentano le purificazioni e le discipline. Domanda. Vengo qui da qualche anno, ho letto dei libri e cerco di seguire quello che lei dice. Però mi pare che adesso avrei bisogno di una specie di provocazione che mi faccia prendere coscienza più profondamente. Intellettualmente accetto quello che lei insegna, ma vorrei andare al di là. Risposta. In altre parole, avete capito, ma ora vorreste qualcosa di sostanziale. Per ottenerlo, è importante che ripensiate quello che avete ascoltato qui. Occorre ripensare il dialogo. Con questo voglio dire che lei deve essere capace di esteriorizzarlo, per esempio in forma scritta, quasi come una ripetizione. Poi, affinché ciò divenga una certezza, deve considerare ciò che ha capito da diversi punti di vista. Deve servirsi di altre parole e trasporlo diversamente per analogia. Questa esteriorizzazione giunge ai limiti del ragionamento ed è un mezzo per vedere se sia bene afferrato. Per discriminazione intendo prendere un tema, considerarlo sotto diversi angoli. Come sapete, è attraverso il discernimento che penetra fino in profondità che, per adoperare un'espressione della psicanalisi, ha luogo il transfert. Noi dobbiamo dunque ascoltare, poi ripensare a ciò che si è udito e infine manipolarlo liberamente. La tappa che segue è un'insorgenza del tutto spontanea. Le tre prime operazioni di cui abbiamo parlato si potrebbero simbolizzare nel lavoro che consiste nel seminare, irrigare e dare luce, mentre la crescita e la fruttificazione non dipendono dalla nostra volontà ma dalla nostra assimilazione in profondità. È a quest'ultima tappa che entra in gioco colui che è stabilito nel piano di fondo. Nelle prime tre egli vi può procurare dei materiali, come si danno gli elementi di cui ha bisogno il bimbo che vuole costruire una macchina. Invece, nel momento in cui la macchina deve entrare in azione, la presenza di un istruttore, anche se in teoria non è indispensabile, in pratica lo è. Domanda. La mia domanda ha pressa poco lo stesso orientamento di quella del mio compagno e riguarda più il modo di insegnare che non ciò che è insegnato. Mi pare che un giorno lei abbia detto che cercava di condurci a ragionare giustamente. Ora mi domando se per certi temperamenti non sarebbe meglio avere qualcosa di irrazionale per rendere un po' più disperata la ricerca. Allora la ragione darebbe di cozzo contro delle muraglie e questa eventualità offrirebbe forse la possibilità di una scoperta spontanea. Mentre qui temo che la nostra comprensione si faccia in modo verbale. Prendo appunti e cerco di non prenderne. Risposta. Sarebbe meglio. Domanda. Ma se nonostante tutto vengo ad ascoltare quattro o dieci conversazioni, non so se faccio un lavoro altrettanto utile come se lei mi desse bruscamente l'ordine di uscire dalla stanza. Risposta. Sì, in principio la discriminazione può parervi arida. Per quanto riguarda il suo amico, credo che affererebbe meglio se cominciasse ad esercitare un'arte, come il tiro dell'arco, la pratica di uno strumento o anche quella del suo corpo. Questi mezzi costituiscono un approccio che non è differente da quello di cui si parla qui. È solo un approccio più pratico. Mi capisce? No? Supponiamo che vi dica che il vostro oggetto più tangibile e più sostanziale è il vostro corpo. Grazie ai cinque sensi potrete prenderne coscienza perché lo potete sentire, vedere o toccare. Adesso vi chiedo di ascoltare il vostro respiro come si ascolta un disco e di osservare nell'espirazione certe durate. Queste durate sono analoghe ai segni che il grafologo scopre nello scritto, cioè accenti, arresti, nodi e contrazioni. Dopo aver osservato l'ispirazione, fermate la vostra attenzione sull'arresto che segue. Vedrete che c'è una specie di riposo simile a quello dello stomaco alla fine della digestione, quando i succhi gastrici si ricostituiscono. Questa seconda fase del ciclo respiratorio, che dovrebbe essere un riposo, si manifesta invece come un'inquietudine o un'aspettativa. In questo arresto si è inquieti e ci si aggancia con rapidità ad una nuova ispirazione nella quale si ritrovano gli stessi segni grafologici. Dopo aver ispirato con la stessa naturalezza, arriverete ad una pausa, a una ritenzione prima di espirare e potrete di nuovo osservare un certo grafismo che vi è proprio e di cui non siete il produttore. Quando una mosca entra per caso nella vostra camera, vi accade di seguirla con lo sguardo e vedrete quanto è veloce. Osservate i suoi movimenti e la guardate con distacco perché non avete un destino in comune con la mosca. È in questo modo che dovrete osservare il vostro respiro e credo che arriverete ad una constatazione che vi illuminerà. Domanda. Ma questo genere di approccio va bene per tutti i temperamenti? Risposta. No, senza dubbio, ma io vi chiedo semplicemente di osservare la cosa. Poi si presenta la domanda. Ciò che ho ascoltato in me e che è puramente fenomenico, presenta delle anomalie? È naturale che non possiate giudicare normali certi accenti o certi movimenti irregolari. In un cantante, per esempio, sono considerati come difetti da eliminare a qualsiasi costo. Questa considerazione comporterà l'idea di una terapeutica. Fissando la vostra attenzione su questi fenomeni respiratori, vi dovrete distendere, prolungare il respiro o andare più lentamente o più rapidamente da una fase all'altra, come si insegna al bambino che traccia le sue righe verso la sinistra ad inclinare un poco la sua scrittura verso destra. In questa pratica possono intervenire altri elementi quali, ad esempio, astenersi dal volere espirare o inspirare per lasciar agire l'organismo. Vi stuperete al vedere quanto è potente la vostra volontà di intervenire. Se invece vi limitate ad osservare la respirazione, se cioè seduti in poltrona, lasciate che le necessità dell'organismo compiano da sole questa funzione, vedrete che dopo un certo tempo il vostro respiro arriverà ad uno stato di vertigine, nudo ed originario. Non è questa forse l'analogia che più converrebbe, ma comunque occorre ricapitolare ciò che si è ascoltato, osservare le reazioni che questa esperienza ha provocato e resistere al desiderio di rimodellarlo secondo le proprie tendenze. Non bisogna portare acqua al proprio mulino. Ciò che si constata ascoltando il proprio respiro, suonando uno strumento musicale, tirando con l'arco, si trova in certi metodi che sono molto vicini alla maniera di ascoltarsi di cui parlo qui. Queste strade convengono meglio a certi temperamenti, a coloro che hanno bisogno di qualcosa di più tangibile perché non sono dotati per le astrazioni. Domanda. Mentre ripenso alle nostre conversazioni, trovo risposta a molte domande. Ne resta una in ogni caso e suppongo che sia quella che si pone la maggior parte delle persone che sono qui, perché essa è la domanda ultima. Dobbiamo attendere che la domanda venga a noi o la dobbiamo precedere? Il mio problema quando esco dalle conferenze è che in fondo lei vuole che ci sia un certo numero di domande in noi e affrontandoli in modo libero e nuovo, forse saremo condotti un giorno ad affrontare la domanda primordiale. Occorre dunque aspettare che la domanda si imponga a noi? Risposta. Il nostro dialogo può essere ritenuto perfetto quando le cose sono espresse in modo da puntare, con dei contorni molti o precisi, ciò che non è espresso. Quando sono stati disegnati i contorni, l'inespresso diventa a un certo momento una domanda. La vera opera d'arte consiste, come Tagore ha meravigliosamente detto, nel determinare l'indeterminabile. Se non si preserva questo indeterminabile, non c'è opera d'arte né domanda possibile. Non abbiamo più la libertà di interrogare, di guardare o di viaggiare. Ovviamente questo modo di delimitare l'indeterminabile può essere trasposto su altri piani. Nel nostro dialogo cerchiamo di farlo sul piano ultimo. Alcune persone naturalmente si ribellano. Davanti a certe opere d'arte ho sentito esclamare, ad esempio, non ci capisco niente. Che cosa significa questa roba? Col pretesto che non si vede subito una donna che porta un'anfora o un contadino con una zappa. E potremmo fare molti altri esempi. Molto tempo fa, a Praga, assistei ad una esposizione culturale. Un pittore esponeva le sue tele ed un ministro cieco le stava guardando. Nonostante le trasposizioni, si vedeva molto bene il soggetto. Davanti a una di quelle, che rappresentava una donna seduta con un bambino in grembo, mi pare ancora di sentire la voce energica del ministro che diceva, non ammetto queste immagini di gente che riposa. Nello spirito della nostra rivoluzione non ci deve essere che gente attiva. Vedete dove porta questa deformazione. La gente non cerca solo ciò che rappresenta un quadro, ma vuole anche che il suo significato corrisponda al suo sistema o alla sua ideologia. Nell'arte, che si tratti di pittura, di scultura, di architettura o di musica, è indispensabile lasciare spazio all'indeterminabile, perché questo ci permette di sognare. Allora troviamo il sentimento di una grande libertà e non ci sentiamo frustrati. Siamo rispettati nel vero senso della parola. In definitiva, siamo noi che completandola realizziamo veramente l'opera d'arte. Completare qualcosa richiede un intervento attivo. D'altronde, quando si vive con una vera opera d'arte, ogni mattina guardandola, essa ci apre nuovi orizzonti e suggerisce altre visioni. Allo stesso modo, quando l'inesprimibile è stato schizzato, questo ci dà la possibilità di meditare e di completare noi stessi l'abbozzo. In caso contrario, c'è solo l'imperativo categorico, è così e non ci resta che obbedire. Domanda. Ho capito bene l'analogia fra l'opera d'arte e quello che lei ci dà in tutta la sua pienezza, ma la domanda precisa che volevo porre era questa. Occorre aspettare che la domanda venga a noi o dobbiamo precederla? Ho l'impressione che si tenda troppo a confondere il fine con i mezzi. Lei ha cercato di indicarceli. Io credo che, se ci attacchiamo ai mezzi, la domanda viene da sé. Ma è piuttosto una questione di metodologia. Occorre aspettare la domanda o la si deve porre con l'aiuto di questi mezzi? La risposta. Quando nasce una domanda, occorre anzitutto proporla a se stessi evitando ogni pigrizia. Dobbiamo conquistare noi stessi. Se in voi resta una domanda, è perché uno dei suoi aspetti non è ancora stato esaminato. Infatti, se una questione è stata esaminata veramente a fondo, essa si esaurisce da sola e non c'è più niente da chiedere. Se la questione è stata veramente elaborata, se si è lottato per lei quando essa è del tutto esaurita, si stabilisce un riposo organico che produce una soddisfazione ultima che corrisponde al silenzio di cui vi parlo. Ben inteso, restando nel quadro soggetto-oggetto, cercate di fissare questa esperienza oggettivandola. L'ego vuole impadronirsene e farla sua. È una cosa da evitare nel modo più assoluto. Essa è fuori dal mentale e verrebbe così snaturata. Aggiungerei perfino che questo intervento dell'ego rischierebbe di privarvi di una realizzazione ulteriore. Domanda. Stavolta lei mi ha risposto. Ne vorrei fare un'altra molto importante ai miei occhi. Codesta ascesi, che può essere solamente psicologica, impone anche un'ascesi fisiologica. Per essere più preciso, è necessaria un'alimentazione rigorosa che rischierebbe di isolarmi socialmente? La domanda è importante perché, se questa ascesi fosse indispensabile, essa diventerebbe per me uno scoglio e mi vieterebbe di mettermi su questa strada. Risposta. Il vostro corpo è il vostro strumento e, come dice il titolo di un libro apparso molti anni fa, noi siamo quello che mangiamo. Il nostro corpo deve avere un nutrimento che gli sia confacente. Non mettete acqua nel serbatoio della vostra auto, né benzina al posto dell'olio. Lasciamo da parte ogni questione come possiamo uccidere gli animali e cerchiamo soltanto di disporre di un organismo in ordine. Qual è dunque il carburante adatto alla nostra macchina e in che quantità lo dobbiamo utilizzare? L'esame di questi problemi richiederebbe almeno tre conferenze e perciò dobbiamo limitarci. Ciò che possiamo dire è che occorre essere vigilanti e far sì che la macchina sia disponibile. Qui parlo solo dal punto di vista organico. Non dovete ammettere che indigestioni, eccessi o stanchezza rendano inutilizzabile la vostra macchina. Non dovete accettare nessun compromesso col pretesto che vostro padre o vostra madre mangiano in un certo modo o che vi trovate in un posto isolato in cui si trovano soltanto cibi conservati. Constatate che la vostra macchina non funziona a dovere e chiedetevi come porvi rimedio senza preoccuparvi di quello che la società o certe imprese commerciali preconizzano. Quando si è presa la decisione ferma e ragionata di nutrirsi bene non occorre chiedersi se questo urta il nostro prossimo. Se vi ha invitate una dolce amica e le avete portato dei fiori e vi ha preparato un magnifico antipasto con trippa e prosciutto di Parma ditele semplicemente grazie cara ma preferisco questa bellissima insalata come sono belle le tue carote. Lasciate da parte la trippa e il prosciutto e mangiate l'insalata e le carote e non avete urtato nessuno. Domanda. Signore la vera questione non è forse quella di liberarsi del problema del prosciutto o del brasato. Non c'è confusione perché potremmo probabilmente liberarcene mangiandone. La libertà non è forse di ordine psicologico. Non ci si libera meglio mangiando una buona fetta di salame piuttosto che assicurando no soprattutto non voglio salame. Risposta. No signore perché il problema è questo. Vostro zio vi offre una tavoletta di cioccolato. Voi ne mangiate mezza e vi mettete a leggere un libro. Mezz'ora dopo vi sentite insieme con altri sintomi che non vi sto a denumerare una specie di opacità che vi invade il capo. Voi sentite questa pesantezza questa nebbia. Ripensandoci constatate che il cacao, i grassi cotti, le uova e i corpi grassi che compongono il cioccolato sono precisamente nocivi per quegli organi che chiamate fegato, vescichetta biliare eccetera. Dopodiché ci lasceremo tentare ancora una seconda volta perché ce ne saremo dimenticati. Poi una terza perché abbiamo proprio la memoria corta ma dovremmo essere scemi per dimenticarcene una quarta volta. In questo caso tanto varrebbe rinunciare alla pretesa di farci chiamare animali ragionevoli, non vi pare? Domanda. Eppure in certe scuole non si esita a mangiare? Risposta. Non parlo di scuole, vi chiedo solo di constatare un fatto. So benissimo dove volete portarmi ma non andrò in quella direzione. Dobbiamo essere logici. Signore, che intende con immensa perdita di tempo per purificarsi? Risposta. I maestri che procedono per mezzo della purificazione sono convinti che una volta che essa sia stata compiuta si sia pronti per l'esperienza. Ma questa purificazione non può avere fine perché ci prendiamo gusto. Conosco persone che appartengono a una comunità vegetariana la cui conversazione gira da mattina a sera intorno al tema del cibo, che cosa bisogna mangiare e che cosa non si deve mangiare. Questa deformazione le rende insopportabili. Si sa benissimo cosa si deve mangiare o no e una volta saputo si lascia da parte. Inoltre la purificazione diventa una fissazione. Infatti se dobbiamo rendere disponibile il nostro corpo dandogli alimenti appropriati, e quando dico appropriati non dimentico che noi siamo incapaci di seguire un regime per più del 65%, il che è già una meraviglia. È solo per poter comprendere che si opera un vero cambiamento solo quando si è fuori da ciò che cambia. Ciò che è perfettamente compreso resta definitivo. Il resto deve essere disimparato, altrimenti sarebbe ancora una fissazione. Col suo metodo l'istruttore vi procura gli elementi necessari, ma è indispensabile in seguito dimenticare ciò che ha provocato questa presa di coscienza. D'altronde generalmente lo si dimentica. Domanda. Sicché se ad esempio ci si persuade che si deve essere trasparenti o avere la fluidità dell'acqua, questa è una specie di fissazione perché si è contenti di pensare queste cose. Risposta. Sì, ma quello può avere una certa efficacia. Se un uomo si attiene a certe astinenze o dosservanze, come per esempio non bisogna mentire, il semplice fatto che per mentire deve avere memoria e badare a quello che dice per non sbagliare lo inciterà forse a pensare che è preferibile non mentire. Domanda. Lei consiglia di osservare la respirazione. Non sarebbe interessante osservare anche il sonno profondo? Risposta. Si è testimoni dello stato di sogno e di quello di veglia, ma nel sonno profondo sono assenti gli elementi vissuti nei primi due stati. Il sonno profondo è un'esperienza assolutamente non duale e quindi non potete farne oggetto di osservazione. Quando ci liberiamo ancora più dagli oggetti e l'energia è diretta verso ciò che siamo realmente, il sonno non è più lo stesso e non è unicamente il sonno che cambia, ma anche l'intervallo tra i pensieri. Il sonno cambia nel senso di perdere ogni pesantezza, diventa fluido e quasi aereo. Non dimenticate che nel momento in cui si parla del sonno ciò avviene soltanto dal punto di vista del dormiente, però in verità non si può parlare di sonno perché il dormiente non esiste. Parliamo di sonno profondo solo dal punto di vista fenomenico, ma in realtà la coscienza non dorme, non si modifica. La stanchezza ed il cambiamento non la influenzano. Essa resta la tela di fondo rispetto allo stato di veglia che è quello del sogno o del sonno profondo. È quindi solo l'individuo che parla di sonno. Quando l'energia è stata preventivamente diretta verso il sì, il nostro passaggio in questo sonno profondo, in questa assenza di oggetti, percuote tutto il nostro organismo. Si produce un grande cambiamento nella sua dualità. Per quanto riguarda l'intervallo tra due pensieri, come sapete, quando una questione è temporaneamente o definitivamente esausta, si produce un arresto e ci troviamo nella non-oggettività. Anche qui è soltanto dal punto di vista fenomenico che si può parlare di durata, perché in questo non c'è alcuna durata, situandosi la coscienza del tutto fuori dal tempo e dallo spazio. Se però si considera questo intervallo dal punto di vista individuale, certi arresti possono essere molto lunghi. A poco a poco ci rendiamo conto del processo e dalla rapidità del pensiero vediamo come appaiono percetto e concetto, ma sullo sfondo, e li vediamo sparire come pesci che si immergono nell'acqua. Tra queste apparizioni e sparizioni, l'esperienza non duale è sempre presente. Domanda. Vorrei comprendere la sfumatura che distingue l'offerta dal sacrificio. Iarsera c'era da scegliere alla stessa ora fra un concerto d'organo e la sua conferenza. Non so se nel mio caso, venendo qui, perché tale è stata la mia scelta, questa sia stata un'offerta o un sacrificio, posto che le due cose mi piacevano allo stesso modo. Risposta. Al vostro posto avrei fatto questo. Avrei messo sulla bilancia davanti a me tutto quello che riguarda uno spettacolo musicale, l'organo, l'ambiente, il programma, eccetera, e sull'altro piatto ciò che per voi significa una chiacchierata del tipo di quella che facciamo qui, sempre senza voler dare preferenza all'una o all'altra. Sono certo che in pochi istanti, senza conflitto, avreste scelto. C'è sacrificio quando si paragona, si valuta e si mettono le cose in competizione, il che è una cosa da evitare. Se avete questa mania, siete obbligati a scegliere e a dirvi, bene, perdo questo ma avrò quello. Domanda. Però nell'offerta non c'è comparazione. Essa non è forse l'opposto del sacrificio? Non gli è forse superiore. Risposta. Il sacrificio è uno stato che crea conflitto. L'offerta è un atto libero. Si offre qualcosa senza sacrificio. L'offerta a Dio è spontanea e non ci si domanda neppure, devo fare questo? Ne vale la pena? Nell'offerta tutte queste considerazioni non esistono. Essa è uno slancio gratuito e spontaneo. Domanda. Forse è solo una questione di terminologia, perché un giorno un conferenziere diceva che per lui il sacrificio è proprio l'offerta, il dono e l'amore. Risposta. Quando si parla di sacrificio si pensa sempre di sacrificare qualcosa, di separarsene con dolore. Questa idea non appartiene solo al cristianesimo, la si trova anche nelle altre religioni. Il sacrificio non implica per sua natura uno sforzo penoso e doloroso. Esso è nella sua essenza il dono gioioso e cosciente del sé al sé. Domanda. Non crede lei che peraltro nel sacrificio ci sia una contropartita, la ricerca di una soddisfazione? In fondo non si rinuncia al cioccolato per avere qualcos'altro? Risposta. Ma questo è un mercanteggiare. Non si rinuncia che per ottenere il meglio. Evidentemente in un senso più profondo si tratta di un'offerta. I testi sacri lo affermano e io ho la ferma convinzione che all'origine essi non contenessero errori. Nei secoli hanno subito delle trasformazioni, ma all'origine erano integralmente veri. Parte 10 Klein Come vi ho detto più volte, la realizzazione del silenzio costituisce l'esperienza vissuta della nostra vera natura, dalla quale non siamo mai stati separati. Dopo averla conosciuto assoscientemente, dobbiamo stabilirci in essa in modo definitivo. Questa realizzazione non è uno stato nel quale si entri o si esca come in certe forme di samadhi, ma uno stato di essere, senza divisione né differenzazione. Quindi non è un oggetto che si possa apprendere volontariamente. Il samadhi e i satori non implicano la morte definitiva dell'ego, e la cui vacuità che è così sperimentata non è l'ultima realtà. Il nostro dialogo si serve del linguaggio come di un mezzo per mirare a questa felicità. Tuttavia non è in grado di tradurla, perché esso appartiene al mondo della dualità che questo silenzio trascende. Rimanere nel linguaggio è fissarsi nella dualità. Quando si sono considerati tutti i possibili punti di vista e non può sorgere domanda alcuna, il pensiero si estingue da sé per mancanza di alimento. Allora si svela spontaneamente un incomparabile stato di essere onnipresente e senza causa. Domanda. Lei ha detto adesso che nel momento in cui si estingue il pensiero sorge l'esperienza reale. Ma non è proprio il pensiero a mostrarci questo stato ultimo? Non crede lei che se il pensiero si arresta si trasforma in un desiderio inconscio di rivelazione? Risposta. Se si esamina il desiderio si vede che esso tende verso la gioia, la pienezza, che tuttavia non si possono acquistare per mezzo suo. E riflettendoci vediamo che gli oggetti puntano verso uno stato interiore che è lui stesso uno stato senza desiderio. Quando questa comprensione percuote tutto l'essere, si produce automaticamente, e senza che lo abbiamo voluto, la coscienza pura. Ma è soltanto dopo molte riflessioni, meditazioni o discriminazioni, il nome non ha importanza, che il pensiero si estingue da solo. Allora si rivela l'esperienza incondizionata. Se no, come dite giustamente, il pensiero non ancora esaurito resta sotto le ceneri alla ricerca di un altro oggetto. Solo la discriminazione consente di collocare il sé nella prospettiva esatta. Ricordo che in una conversazione di un saggio, cui assistei in India, un discepolo aveva posto questa domanda. Che cos'è la realizzazione? Il maestro gli rispose, vedere le cose nella giusta prospettiva. Allora il discepolo gli chiese, quando potrò ottenere questa realizzazione? E il maestro gli disse, allorché il quando cesserà. Ciò vuol dire che l'assoluto è intemporale. Domanda. Constato che oggi non ho domande da fare. Ora, io so che lo stato in cui mi trovo non è lo stato senza domande, nel quale non c'è più né quando né perché. La mia situazione mi mostra che non ci sono. Oppure io sono passivo, io guardo e ascolto molto gentilmente. Potrebbe aiutarmi a capire questa ambiguità? Risposta. La posizione in cui siete oggi è migliore per la semplice ragione che siete di più in stato d'attesa. Attendete senza attendere. Questa è la posizione buona. Domanda. Essa è dunque intermedia tra la prima attitudine, quella in cui si fanno domande e la seconda nella quale le cose sono quello che sono. Risposta. Sì, si lascia che gli elementi si svolgano senza parteciparvi né esserne complici. È uno stato passivo-attivo-ricettivo che talora è favorito dalle circostanze, se ci invade una certa sazietà o se al contrario si installa una specie di disperazione. I due casi possono consentire un'attitudine nella quale non ci si attacca a nulla. Domanda. Lei ha detto che il linguaggio non ci permette di afferrare la realtà, ma non le pare che questa sera il linguaggio ci permette invece di apprenderla? Risposta. Voi sapete che gli oggetti che ci dirigono verso l'ultimo sono i più semplici e i più nudi. Non ci deve legare ad essi nessun ornamento, nessun accento che li renda appetibili. Soltanto in questo modo essi possono orientarci verso l'indeterminabile, l'inesprimibile. Se l'oggetto è troppo determinato, esso non desta tale reazione. Ecco perché l'abbozzo è spesso più interessante dell'opera, perché esso suggerisce il non-manifesto che ci attira. Lo stesso avviene in un dialogo. Noi esigiamo una risposta, vogliamo una certezza definitiva e ci piace anche che tutto ci sia servito pronto, ma in un dialogo come io lo intendo non si completa e sia sempre davanti, dietro o da un lato. Non è il caso qui di spiegare o di dimostrare, ma di prepararsi a un'esperienza che siamo obbligati a chiamare soggettiva, sebbene al termine della ricerca non ci sia più soggetto né oggetto. Essa è inesprimibile e ha luogo quando si sono oltrepassati i limite del linguaggio. Domanda. Ma come possiamo essere tentati da qualcosa che non conosciamo? Risposta. Noi conosciamo questo qualcosa, come lo chiamate, perché nell'esaminare i nostri desideri constatiamo che essi tendono alla perfezione e alla pianizza. Domanda. Non si tratta prima di tutto di sperimentare la delusione? Non è nel momento in cui si è stati delusi e si è constatata la vanità di tutti i nostri desideri che si può rinunciare agli oggetti? Risposta. Non è la delusione a portare la rinuncia. Voi sapete che non si deve rinunciare al mondo, perché la rinuncia crea forzatamente dei conflitti. Sono gli oggetti stessi a staccarsi da noi quando vediamo con grande lucidità che nessuno di essi ha un'esistenza permanente e indipendente. Tuttavia, essere delusi non è sufficiente. La delusione è un risveglio. Essa non è altro che un segnale d'allarme. Finché non conoscete la natura dell'oggetto, gli accordate un'importanza che non ha e non potete giungere all'esperienza del testimone. Se possedete un terreno e vi viene l'improvvisa idea di costruirvi una piscina. Immaginate mille modi per costruirla. Ma se l'impresario vi dimostra che in quel luogo è assolutamente impossibile trovare acqua, la vostra immaginazione cessa la sua attività. L'uomo che non riflette si identifica con il suo corpo e con ciò che egli chiama la sua personalità. Ma egli può, se la fortuna lo assiste, vedere che si tratta soltanto di un oggetto della coscienza. E per constatarlo bisogna insieme partecipare a questa personalità e ad esserne il testimone. Quando l'investigazione si approfondisce, si cessa di essere complici, perché esaminando quello che significa vedere un oggetto, ci si accorge di vedere non l'oggetto, ma la sua presenza nella coscienza. In fondo, noi non vediamo altro che noi stessi. Questo cammino arritroso ci predispone all'esperienza. Attraverso la discriminazione liberiamo l'energia che tenevamo prigioniera ed essa ritorna al suo stato primitivo di equilibrio. Domanda. Come si colloca l'Advaita Vedanta rispetto allo yoga? Risposta. Lo yoga ha per base un esposto dottrinale dualista chiamato Sankhya, che appartiene all'ortodossia vedica. Tra esso e il Vedanta non c'è alcuna contraddizione. Le prospettive sono diverse, ma mirano tutte alla liberazione. L'approccio yogico, essendo dualistico, sfrutta le virtualità fisiche e mentali per attualizzarle. Questo fine, esso distingue due specie di ricerca. Quella cosiddetta esteriore, lata yoga, che comprende le osservanze e le astinenze fisiche e mentali, e la ricerca interiore, il raja yoga, che con l'aiuto della concentrazione ci stacca dal sensoriale per arrivare all'unione con l'oggetto della concentrazione. Ai livelli superiori dello yoga si giunge a certi stati come i Samadhi di cui ho parlato, ma non si realizza ancora la liberazione finale. Domanda. Lei non usa mai il termine unione, ma dice invece la parola uno. Se il sé è indivisibile, nessuna parte di noi può unirsi a un'altra. Chi allora nel sistema dualistico si unisce a un altro? Risposta. Nello yoga è l'individuo, il personale, ad unirsi all'impersonale. È il jivatman a unirsi al paramatman. Ciò non entra nella concezione della dvaita. Naturalmente nell'approccio vedantico si prende in considerazione la disponibilità corporale o psicologica, ma solo in vista della discriminazione. Il lavoro yogico non è che un lavoro preparatorio in cui si resta nella relazione soggetto-oggetto. Se non si va oltre, la realtà è esnaturata e falsificata. Ciò che si riscontra in India e altrove presso alcuni ricercatori che, pur dandosi molta pena, non giungono che a un silenzio relativo e che evidentemente non è l'istinzione dell'attività mentale. Il silenzio che è assenza totale di oggetti non può essere realizzato che dalla coscienza non duale. Poiché il nostro strumento di indagine è reso disponibile, dobbiamo mirare direttamente al fondale, la pienezza che trascende l'individualità non potendo essere raggiunta da alcuna disciplina. Domanda Allora l'idea di unione è falsa? Risposta È completamente falsa, non c'è nulla da unire. Siamo il sé indivisibile, solo che alcuni vi ci sono stabiliti con gli occhi aperti, mentre altri stanno ancora dormendo. Questa è la differenza. Domanda Ho notato che quando sto in silenzio i miei allievi si esprimono più facilmente e comunico meglio con loro. Risposta È normale. Quando siete veramente silenziosi, date agli altri la possibilità di manifestare la loro vera natura. Ogni scambio verbale o artistico tende più o meno coscientemente verso questo silenzio. In fondo non si vive realmente che quando lo si vive. Questa comunione silenziosa con gli altri è meravigliosa. L'artista comunica assai spesso con la sua opera, la interroga e se la risposta non è immediata, attende. Invece certe persone incontrando questo silenzio diventano molto nervose. Non dimenticate che non dobbiamo confondere il vero silenzio con ciò che si limita a un'assenza di oggetti. Certo, la vacuità porta già a una grande gioia, ma essa deve a un certo momento ribaltarsi e rivelare la felicità. Domanda Potrebbe riparlarci del metodo da seguire per ritrovare la coscienza nel mondo oggettivo? Risposta Occorre anzitutto analizzare questo mondo oggettivo, altrimenti non potrete trovare la coscienza nell'ordine materiale, sapendo che le cose, poiché sono percepite e concepite, non possono avere una realtà indipendente. Ne viene che quello che chiamate mondo è solo una manifestazione mentale. Per il Vedanta non è stato creato in una data epoca, ma si crea ad ogni istante. Dal momento in cui la mente entra in azione, il mondo si crea. Se essa cessa la sua attività, il mondo svanisce. L'oggetto non è dunque che una forma del sé. Quando il mentale dell'uomo realizzato funziona, tutto ritorna a sorgere, ma non è più che un prolungamento della coscienza senza l'illusione di una realtà indipendente. È necessario conoscere bene la natura del mondo. La sua esistenza riposa su due errori. L'errore dell'obiettività è quello dell'esistenza simultanea. In quanto certezza oggettiva costituita da elementi multipli che esistono simultaneamente, esso è una pura illusione. Appena il mentale entra in azione, appaiono e spariscono delle modalità di essere. Esse non sono né delle cose né delle realtà indipendenti, ma soltanto i movimenti che gli sono propri. Non possono presentarsi come realtà multiple, perché ogni prensione del mentale è una prensione di unità. Tutto ciò che è pensato insieme è perciò stesso uno. A stretto rigore, la molteplicità pura è impensabile. La credenza nel multiplo non è che è una conseguenza della memoria. Le modalità psichiche esistono in successione e ciò che ci fa credere che possono esistere simultaneamente è il movimento attraverso il quale lo spirito passa da una all'altra, dimenticando che l'elemento abbandonato perde tutta la sua realtà nel momento dell'abbandono, dato che non è distinto dall'attività del mentale. Domanda. Ciò che lei dice è il fondamento della prospettiva metafisica. Non c'è che il sé. Per l'advaita non c'è un suono che l'orecchio oda. Non c'è oggetto che l'occhio possa vedere. Si può arrivare a questa evidenza con una comprensione filosofica. Ma è un'altra cosa scoprirla e incontrare questa verità fondamentale in... non si può dire un'esperienza, perché essa non è oggetto d'esperienza, ma ad una svolta di un cammino esteriore? Risposta. Voi non potete incontrarla. Domanda. Promuoverla? Farla sorgere? Risposta. Non sorge neppure, perché se dite che sorge, fate un'oggettivazione e vi ponete ancora una volta in un mondo fenomenico. Domanda. Diciamo allora di renderla viva? Una volta che il pensiero sia orientato nella direzione che la coscienza sola è, non ci sarebbe un ascesi, un metodo, certo non facile da precisare, dato che queste manipolazioni sono molto delicate e il soggetto può sbagliarsi e perdersi. Risposta. Egli non si perde, in quanto pura coscienza è il soggetto. Perché volete che si perda? Non ha bisogno di intermediari né di strumenti. Conosce se stesso per mezzo di se stesso. Domanda. Ma sì, si può benissimo perdere i mucchi di paludi e di sentieri. Risposta. Non può perdersi. Domanda. Sì, non fosse che nella vacuità, per esempio, che è uno di quei deserti in cui... Risposta. Quando il discepolo che si è sbarazzato di un grande numero di identificazioni arriva alla verità, interviene l'istruttore che è stabilito nel fondale. Prima lo aiutava a chiarire certe cose, ma non andava oltre. Domanda. Ma come si può evitare lo scoglio di quella che si chiama malattia della meditazione e che è giustamente il perdersi nella vacuità? Con quale atteggiamento interiore il soggetto, la coscienza, insomma, il soggetto che si è impegnato in questa direzione può evitare questo scoglio? Risposta. Nella meditazione vedantica non si può parlare di atteggiamento. È la realizzazione del soggetto ultimo, della coscienza, dell'atman. Questa realizzazione è al di fuori di ogni operazione mentale. Non la si ottiene né attraverso un perforatore né con un sorgere né con un metodo o una disciplina, ma per mezzo dell'accessione completa di ogni attività. Come sapete, dopo aver esaminato a lungo il desiderio e aver osservato che si dirige regolarmente verso gli oggetti per ottenere una felicità che è sempre effimera, vediamo che questa pienezza cercata è la nostra vera natura. Questo estingue il desiderio e l'energia che avevamo orientato verso gli oggetti non ha altra possibilità che di ritornare al suo stato primitivo. Quando essa è in riposo ne risulta quel silenzio eternamente presente di cui vi parlo e che non è né un nulla né una meta lontana da raggiungere. Non si può dunque trasformare la coscienza in oggetto come fanno molte vie pseudo-spirituali. Essa è uno stato dell'essere. Domanda. Non vedo bene la differenza tra la vacuità e questo silenzio. Risposta. Nel senso in cui si usa di solito questo termine, la vacuità è positiva nonostante il suo significato negativo. Essa è percepita come una calma, una pace, costituiti dall'assenza di oggetti e questa assenza può ancora essere percepita. Ne abbiamo facilmente la prova. Le persone, i gruppi che seguono questa via, sentono sempre il bisogno di ritirarsi in una camera e di sedersi per conoscere il silenzio e assaporarlo. Questo è un segno inequivocabile. Ci si siede ad una data ora per trovare la pace, dimenticando che ciò che si prova in queste condizioni non può essere l'ultima verità. Si arriva così a una vacuità tutta passeggera che si perde e poi si torna a trovare, mentre colui che realizza il silenzio non oggettivo sa che non ha mai cessato di essere il silenzio e che esso è da tutta l'eternità. Afferrate la differenza. Domanda. Sicché il silenzio non oggettivo è uno stato di coscienza, mentre la vacuità non è che è un'attivazione del film immaginativo. Risposta. È così. Vi ho detto spesso che l'assenza improvvisa di un quadro, proprio come la sua presenza, vi impedisce di vedere il muro. Domanda. Capisco. È un superamento del discorso abituale. Poi un primo silenzio che è la vacuità. Si tratterebbe di una specie di silenzio secondo diverso dal Satori. Risposta. La nozione d'assenza di oggetti nelle discipline yogiche ed in altre è ottenuta quasi sempre per mezzo di un atteggiamento poliziesco nei confronti di se stessi. Si prendono a manganellate gli oggetti. Ma ciò nonostante, gli oggetti ci sono sempre e si resta in un rapporto di manganellatore e manganellato. Se invece di manganellare si elimina con dolcezza, conformemente alla via prescelta, si tratta ancora di una disciplina e non si esce dalla dualità. Direi perfino che la si rinforza. Diventa allora estremamente difficile passare da questo condizionamento alla realtà. Ora, questa vacuità in cui il vuoto è oggettivato deve finalmente ribaltarsi e riassorbirsi nel silenzio perché regni la non dualità. Domanda. Lei è in qualche modo contrario all'ascesi? Risposta. Completamente. Domanda. Allora il metodo che lei suggerisce si riduce a una chiara visione del mondo oggettivo e lei ritiene che questo sia sufficiente. Risposta. Quando siete stabiliti nella vostra vera natura avete la certezza, senza dubbio possibile, che gli oggetti non sono che una continuazione, un prolungamento della coscienza. Ma volerla concepire equivale ad adottare un concetto come un altro. Questo concetto ha solo un valore speculativo che si rivela un handicap per l'accesso alla verità ultima. In questa ricerca non si proietta nulla e si aspetta. Si propone senza concludere. La conclusione deve venire spontaneamente perché la deduzione intellettuale allontanerebbe dal fine da raggiungere. Questa è la ragione per la quale molte persone trovano difficile approfondire, sovrapponendo continuamente alla verità i loro schemi. Se si rinforza la relazione da soggetto a oggetto, è difficile quando si giunge a mettere in riposo l'attività, arrivare all'esperienza non duale. Lo yoga è destinato a preparare pacificandoli il corpo e il mentale perché divengano strumenti perfetti. Poiché non ci si serve delle gambe che, in caso di utilità, dovrebbe essere lo stesso per il pensiero. Ma noi non pensiamo, noi siamo pensati. Ma noi non pensiamo, noi siamo pensati. Ma noi non pensiamo, noi siamo pensati.